L'atomica scoppiò verso il mezzogiorno del lunedì, quando arrivarono i giornali. Uno del paese aveva fatto il colpo al totocalcio vincendo dieci milioni. I giornali precisavano che si trattava di un certo pepito sbezzeguti, ma in paese non vi era nessun pepito e nessun sbezzeguti. Il gestore della ricevitoria, assediato dal popolo in agitazione, allargò le braccia. Il sabato c'era mercato e ho venduto un sacco di schedine a dei forestieri. «Sarà uno di quelli!» «Comunque salterà fuori!» Invece non saltò fuori niente di niente e la gente continuò a tormentarsi perché sentiva che quel pepito sbezzeguti era un nome che suonava falso. «Passi lo sbezzeguti!» «Ci poteva essere uno sbezzeguti tra i forestieri venuti al mercato, ma un pepito no!» Quando uno si chiama pepito non può partecipare a un mercato di paese dove si trattano granaglie, fieno, bestiame e formaggio grana. «Per me quello è un nome finto», disse nel corso di una lunga discussione l'oste del molinetto. «E se uno adopera un nome finto, questo significa che non è un forestiero, ma uno del paese e non vuol farsi riconoscere.» Si trattava di un'argomentazione piuttosto approssimativa, ma fu accolta come la più rigorosamente logica e la gente, disinteressatasi dei forestieri, accentrò la sua attenzione sugli indigeni e le ricerche vennero condotte con ferocia, come se si trattasse di trovare non il vincitore di una lotteria, ma un delinquente. Senza ferocia, ma con indubbio interesse, si occupò della faccenda anche Don Camillo e, poiché gli pareva che il Cristo non vedesse con eccessiva benevolenza questa sua attività di segugio, Don Camillo si giustificò. «Gesù, non è per insana curiosità che io faccio questo, ma come un dovere, perché merita di essere additato al disprezzo del prossimo chiunque, ricevuto un grande beneficio della divina provvidenza, lo tenga nascosto.» «Don Camillo», rispose il Cristo, «dato e non concesso che la divina provvidenza si occupi di totocalcio, ho l'idea che la divina provvidenza non abbia bisogno di pubblicità. Inoltre, è il fatto in sé che conta, e il fatto è noto in tutti i particolari essenziali. «C'è qualcuno che ha vinto al gioco una grossa somma. Perché ti affanni nel voler sapere chi sia quest'uomo fortunato? Interessati piuttosto della gente non favorita dalla fortuna, Don Camillo.» Ma Don Camillo aveva ormai il chiodino piantato in mezzo al cervello, e il mistero del pepito lo affascinava sempre di più. Finalmente, un lampo illuminò le tenebre. A Don Camillo venne voglia di mettersi a suonare il campanone quando scoperse la chiave di quel nome. Seppe resistere alla tentazione di aggrapparsi alla corda della Geltrude, però non seppe resistere all'altra tentazione, quella di buttarsi addosso il tavarro e di andare a fare un giretto in paese. E arrivato dopo pochi istanti davanti all'officina di Peppone, non seppe neppure resistere alla tentazione di fermarsi e di mettere dentro la testa per dare un salutino al sindaco. «Buongiorno, compagno Pepito!» Peppone smise di smartellare e gli piantò addosso due occhi spiritati. «Cosa vorreste dire, reverendo?» «Niente.» Pepito in fondo non è che un diminutivo di Peppone e poi si dà pure il caso curioso che anagrammando Pepito sbezzeguti salta fuori qualcosa che somiglia stranissimamente a Giuseppe Bottazzi. Peppone riprese a smartellare tranquillamente. «Andatelo a raccontare al direttore della Domenica Quiz», disse. «Qui non si fanno degli novinelli, qui si lavora!» Don Camillo scosse il capo. «Mi dispiace sinceramente che tu non sia il Pepito che ha vinto i dieci milioni!» «Dispiace anche a me», borbottò Peppone. «Se non altro adesso potrei offrirvene due o tre per convincervi a tornare a casa vostra!» «Non ti preoccupare, Peppone, io e i piaceri li faccio gratis!» rispose Don Camillo andandosene. Dopo due ore tutto il paese sapeva alla perfezione che cosa fosse un anagramma e non c'era casa dove il povero Pepito sbezzeguti non venisse spietatamente vivisezionato per vedere se davvero avesse nella pancia il compagno Giuseppe Bottazzi. La sera stessa ci fu alla Casa del Popolo una riunione straordinaria dello Stato Maggiore dei Rossi. «Capo!» spiegò lo smilzo prendendo la parola. «I reazionari hanno ripreso in pieno la loro tattica propagandistica della calunnia! Il paese è in subbuglio! Ti accusano di essere tu quello che ha vinto i dieci milioni! Bisogna intervenire con energia e inchiodare al muro i diffamatori!» Peppone allargò le braccia. «Dire che uno ha vinto dieci milioni al totocalcio non è una diffamazione!» la rispose Peppone. «Si diffama una persona accusandola di aver compiuto un atto disonesto! Vincere al totocalcio non è una cosa disonesta!» «Capo!» replicò lo smilzo. «La diffamazione politica avviene anche accusando l'avversario di aver commesso un'azione onesta!» «Quando un'accusa porta del danno al partito, allora è da considerare diffamazione!» «La gente ride alle nostre spalle!» aggiunse il brusco. «Bisogna farla smettere!» «Ci vuole un manifesto!» e sgramò il bicio. «Un manifesto che parli chiaro!» Peppone si strinse nelle spalle. «Va bene, domani ci pensiamo!» Lo smilzo cavò di saccoccia un foglio. «Per non darti fastidi lo abbiamo già preparato noi! Se ti va, lo si fa stampare subito e domattina lo appiccichiamo!» Lo smilzo lesse ad alta voce. «Il sottoscritto Giuseppe Bottazzi dichiara di non aver niente in comune col Pepito Sbezzeguti, vincitore dei dieci milioni del totocalcio. E' inutile che i reazionari cerchino di calunniarmi identificandomi col neo-milionario suddetto. Qui, di neo, c'è soltanto il loro fascismo. Giuseppe Bottazzi.» Peppone scosse il capo. «Sì, va bene. Però fino a quando non vedo roba stampata non rispondo con roba stampata.» Lo smilzo non era d'accordo. «Capo, mi pare che sia sciocco aspettare che uno ci dia una schioppettata per rispondergli con una schioppettata. La regola è di sparare un minuto secondo prima degli altri.» «La regola è quella di sparare una pedata nel sedere a quelli che si occupano dei fatti miei personali. Non ho bisogno di difensori. So difendermi benissimo da solo.» Lo smilzo si strinse nelle spalle. «Se la prendi così, borbottò, non c'è più niente da dire.» «La prendo così!» urlò Peppone pestando un pugno sul tavolo. «Ognuno per sé è il partito per tutti.» Lo stato maggiore se ne andò poco convinto. «E lasciarsi accusare di aver vinto dieci milioni per me è un segno di debolezza.» Osservò lungo la strada lo smilzo. «Tanto più che c'è la complicazione dell'anagramma.» «Speriamo bene.» Sospirò il bigio. Dopo le chiacchiere arrivò la roba stampata. Il giornale degli Agrari pubblicò un trafiletto intitolato «Grata il Peppone e troverai il pepito.» Il paese si spaccò le budella per il gran ridere perché il trafiletto era scritto da uno che ci sapeva fare. Allora lo stato maggiore si riunì alla casa del popolo e disse chiaro e tondo che un intervento energico era necessario. «Sta bene.» rispose Peppone. «Fate stampare il manifesto e appiccicatelo.» Lo smilzo volò in tipografia e un'ora dopo Don Camillo riceveva dalle mani del Barchini la primissima bozza. «E' un brutto colpo per il giornale.» osservò malinconicamente Don Camillo. «Se i milioni li avesse vinti lui si guarderebbe bene da far stampare una cosa del genere. A meno che non abbia già incassato o fatto incassare la vincita.» «Non si è mosso di qui.» lo rassicurò il Barchini. «E' sorvegliato da tutto il paese.» Era già tardi e Don Camillo andò a letto. Ma alle tre di notte lo vennero a svegliare ed era Peppone. Peppone entrò dalla parte dell'orto e quando fu nell'andito stette a spiare attraverso la porta socchiusa. Era agitatissimo. «Spero che non mi abbia visto nessuno.» disse alla fine. «Mi pare sempre di essere spiato.» Don Camillo lo guardò preoccupato. «Non sei diventato matto per caso?» «No, ma ho paura che lo diventerò.» Si sedette e si asciugò il sudore. «Parlo col prete o con la gazzetta del paese?» si informò Peppone. «Dipende da quello che viene a dirmi.» «Vengo per parlare col prete.» «Il prete ti ascolta.» disse gravemente Don Camillo. Peppone rigirò un po' col cappello tra le mani e poi si confessò. «Reverendo, ho detto una grossa bugia.» «Pepito Sbezzegutti, sono io.» Don Camillo ricevette la bomba atomica proprio sulla cima della testa e rimase qualche minuto senza fiato. «Dunque, sei tu quello che ha vinto i dieci milioni a totocalcio?» esclamò quando ebbe ritrovato il numero di casa. «E perché non l'hai detto prima?» «Non l'ho detto neanche adesso perché io sto parlando col prete.» «A voi deve interessare soltanto la bugia.» Ma a Don Camillo interessavano i dieci milioni e dopo aver guardato con disprezzo Peppone lo fulminò con roventi parole. «Vergogna!» «Un compagno, un proletario che vince dieci milioni.» «Lasciale fare ai borghesi capitalisti queste porcherie! un bravo comunista i quattrini se li deve guadagnare col sudore della fronte!» Peppone sbuffò. «Reverendo, non ho voglia di scherzare. Non sarà mica un delitto giocare al totocalcio.» «Non scherzo!» «E non dico che sia un delitto vincere al totocalcio.» «Affermo semplicemente che un buon comunista non gioca al totocalcio.» «Stupidaggini!» «Giocano tutti.» «Male!» «È malissimo nel caso tuo!» «Perché tu sei un capo!» «Uno di quelli che debbano guidare la lotta del proletariato.» «Il totocalcio è una delle più subdole armi inventate dalla borghesia capitalista per difendersi dal proletariato. Un'arma efficacissima e che non costa niente alla borghesia, anzi. Le dà dei grossi guadagni. Un buon comunista non aiuta, ma combatte fieramente il totocalcio.» Peppone scrollò le spalle con stizza. «Non ti agitare, compagno.» «Tutto quanto serve a illudere il lavoratore di potersi procurare il benessere con mezzi che non siano la rivoluzione proletaria. È contrario al benessere del popolo e favorevole alla causa dei nemici del popolo. Tu, favorendo il totocalcio, tradisci la causa del popolo!» Peppone agitò le braccia. «Reverendo!» gridò. «Piantiamola di buttare sempre le cose in politica!» «Compagno, è la rivoluzione proletaria?» Peppone pestò i piedi. «Ti capisco, compagno.» concluse sorridendo Don Camillo. «In fondo hai ragione. Meglio dieci milioni oggi che la rivoluzione proletaria domani.» Don Camillo attizzò il fuoco poi, dopo qualche minuto, si volse verso Peppone. «Sei venuto qui per dirmi soltanto che hai vinto i dieci milioni?» Peppone sudava. «Come faccio a incassarli senza che nessuno sappia niente?» «Vai direttamente.» «Non posso.» «Mi sorvegliano.» «E poi non posso più andare io.» «Domattina esce la dichiarazione.» «Manda uno di tua fiducia.» «Non mi fido di nessuno.» Don Camillo scosse il capo. «Non so cosa dirti.» Peppone gli mise davanti al naso una busta. «Andate voi, reverendo.» Peppone si alzò e si avviò verso la porta e Don Camillo rimase lì a guardare la busta. Don Camillo partì la mattina stessa e tre giorni dopo era di ritorno. Arrivò che era sera tarda e, prima di entrare in canonica, andò a parlare col Cristo dell'altar maggiore. Aveva con sé una valigetta che posò sulla balaustra dell'altare e aprì. «Gesù!» disse con voce molto severa. «Questi sono dieci pacchi di cento biglietti da diecimila ciascuno. Totale dieci milioni per Peppone. Io mi permetto di farvi notare semplicemente che quel senza Dio non meritava un premio di questo genere.» «Dillo a quelli del totocalcio!» lo consigliò il Cristo. Don Camillo se ne andò con la sua valigia e, salito al primo piano della canonica, accese e spense tre volte la luce secondo quanto convenuto con Peppone. Peppone, che era in vedetta, rispose accendendo e spegnendo due volte la luce della sua camera da letto. Arrivò in canonica dopo due ore, intabarrato fino agli occhi. entrò dalla parte dell'orto, sbarro la porta col catenaccio. «E allora?» domandò a Don Camillo che aspettava Antinello. Don Camillo si limitò a fargli un cenno per indicargli la valigetta che stava sulla tavola. Peppone si appressò e con mani tremanti aperse la valigetta. Vedendo i pacchi di banconote gli si riempì la fronte di sudore. «Dieci milioni!» sussurrò. «Dieci milioni? Puoi contarli?» «No, no!» continuò a guardare i pacchi di banconote come affascinato. «Certo!» sospirò Don Camillo. «Dieci milioni sono un bel malloppo oggi come oggi. però cosa saranno domani?» «Basta una notizia preoccupante per distruggere il valore del denaro e fare di questi quattrini un mucchio di cartaccia.» «Mmm... bisognerebbe investirli subito!» disse Peppone con un po' d'ansia. «Con dieci milioni si può comprare un discreto podere. La terra è sempre terra.» «La terra ai contadini?» dice il comunismo. «Non la terra ai fabbri.» «Ti porteranno via tutto!» «Il comunismo è destinato a trionfare e il mondo va a sinistra, caro compagno.» Peppone continuava a guardare le banconote. «Oro!» disse. «Bisognerebbe comprare dell'oro. Quello lo si può nascondere.» «E poi quando l'hai nascosto cosa ne fai?» «Se viene il comunismo tutto è razionato e statizzato e l'oro lo devi lasciare dov'è perché non puoi comprare niente.» «E mandarlo all'estero?» «Oi boh! Come un capitalista qualsiasi.» «E poi bisognerebbe portarlo in America perché l'Europa è destinata a diventare tutta comunista.» «E poi anche l'America rimasta isolata dovrà capitolare davanti all'Unione sovietica.» «L'America è forte» disse Peppone «In America non ci arriveranno mai.» «Non si sa l'avvenire è nelle mani della Russia compagno.» Peppone sospirò poi si mise a sedere «Mi giro la testa reverendo «Dieci milioni!» «Pigliati sulla merce e portatela a casa però rimandami la valigia quella è mia.» Peppone si alzò «No reverendo per favore tenete voi tutto ne parliamo domani adesso non capisco più niente.» Peppone se ne andò e Don Camillo presa la valigia salì al primo piano e si buttò nel letto era stanco morto ma non riuscì a dormire molto perché alle due di notte lo svegliarono e dovette scendere erano Peppone e sua moglie tutti imbacuccati «Reverendo spiegò Peppone cercate di capirmi mia moglie vorrebbe vedere come sono fatti dieci milioni e... Don Camillo andò a prendere la valigia e la pose di nuovo sulla tavola la moglie di Peppone appena vide le banconote impallidì Don Camillo aspettò pazientemente che lo spettacolo fosse finito poi richiuse la valigia e andò ad accompagnare alla porta Peppone e la donna «Cercate di dormire» disse Don Camillo tornò a letto ma alle tre del mattino dovette scendere ancora e ancora si trovo davanti Peppone «Beh non è ancora finito il pellegrinaggio» Peppone allargò le braccia «Reverendo sono venuto a prendere la valigia» «Adesso neanche per sogno l'ho già nascosta in solaio e sta sicuro che non salgo a prenderla vieni domani ho sonno e ho freddo forse non ti fidi non è questione di fidarsi mettete il caso che si fa per dire vi venga un accidente qualsiasi come faccio a dimostrare che quei soldi sono miei» «Vai a letto tranquillo la valigia è sigillata e c'è scritto il tuo nome io penso a tutto» «Capisco reverendo comunque è meglio che i soldi siano in casa mia» Don Camillo avvertì un tono di voce che non gli piacque e allora cambiò improvvisamente tono anche lui «di che soldi parli?» domandò «dei miei di quelli che siete andati a ritirare per me a Roma tu sei pazzo peppone tu sogni io non ho mai ritirato soldi tuoi» «la schedina era mia!» ansimò Peppone «Pepito Sbezzegutti sono io!» «Ma se c'è stampato su tutti i muri che non sei tu la dichiarazione è tua» «Sono io!» «Pepito Sbezzegutti è l'anagramma di Giuseppe Bottazzi!» «Niente affatto» «Pepito Sbezzegutti è l'anagramma di Giuseppe Bottezzi tu ti chiami Bottazzi? non Bottezzi mio zio si chiama Giuseppe Bottezzi io ho ritirato la schedina per lui» Peppone scrisse con mano tremante Pepito Sbezzegutti sul margine del giornale disteso sul tavolo poi scrisse il suo nome e controllò «Maledizione!» urlò «Ho messo una E al posto della A ma i soldi sono miei!» Don Camillo si avviò lungo la scala per tornare a letto e Peppone lo seguì sempre insistendo che i soldi erano suoi «Non agitarti compagno!» lo ammonì Don Camillo entrando nella camera e mettendosi a letto «Io i dieci milioni non me li mangerò li userò per la tua causa per la causa del popolo distribuendoli ai poveretti» «Al diavolo i poveretti!» urlò fuori di sé Peppone «Porco reazionario!» esclamò Don Camillo accomodandosi tra le coltri «Vattene e lasciami dormire!» «Datemi i miei soldi e vi ammazzo come un cane!» urlò Peppone «Piglati la tua porcheria e vattene!» borbottò Don Camillo senza voltarsi la valigia era lì sul comò Peppone la guantò e nascostala sotto il mantello scappò via Don Camillo lo udì sbattere la porta dell'andito e sospirò «Gesù!» disse severamente «Perché farlo vincere rovinargli la vita e che quel poveretto non meritava una punizione simile!» «Prima mi rimproveri perché quel danaro è un premio non meritato adesso mi rimproveri perché quel danaro è una punizione ingiusta!» «Evidentemente non ne azzecco più una con te Don Camillo» rispose il Cristo «Gesù non parlo con voi parlo col totocalcio precisò Don Camillo prendendo finalmente sonno 2 il ricatto Signore disse Don Camillo egli ha esagerato e io lo distruggerò Don Camillo rispose il Cristo crocifisso ha esagerato anche chi mi ha messo in croce ma io ho perdonato chi vi ha messo in croce non sapeva cosa si facesse Peppone lo sapeva perfettamente e la sua mala fede non ha diritto a nessuna pietà Don Camillo si informò sorridendo il Cristo non trovi che da quando è diventato senatore tu sia particolarmente severo nei riguardi di Peppone Don Camillo crudelmente colpito dalle parole del Cristo non riuscì a nascondere la propria amarezza Signore esclamò non parlereste certo così se voi mi conosceste ti conosco affermò con un sospiro il Cristo Don Camillo possedeva il senso della discrezione si segnò accennando a un inchino e scivolò via ma fuori una nuova amarezza l'attendeva perché qualche sciagurato aveva appena finito d'appiccicare proprio a fianco della porta della canonica un esemplare del manifesto che era all'origine del furore di Don Camillo e che riportava a galla una storia vecchia di almeno due anni in una malinconica sera d'inverno mentre Don Camillo stava per andarsene a letto qualcuno aveva bussato alla porta della canonica si trattava di Peppone ma si stantava a riconoscerlo tanto era sconvolto Don Camillo lo fece sedere e gli allungò un bicchiere di vino che il poveraccio mandò giù in un fiato ma ce ne vogliono altri due per sbloccargli la lingua finalmente Peppone ansimò non ce la faccio più Peppone trasse di sotto il tabarro un pacchetto avvolto in carta da giornale e lo depose sulla tavola da quanto ho questa roba in casa disse con tristezza non riesco più a dormire si trattava dei famosi dieci milioni del totocalcio e Don Camillo rispose depositi i quattrini in una banca Peppone sghignazzò lei scherza un sindaco comunista che versa improvvisamente sul suo conto corrente dieci milioni di cui non si può dimostrare la provenienza li cambi in marenghi d'oro e li seppellisca da qualche parte non fruttano Don Camillo aveva sonno ma la sua riserva di pazienza non era ancora esaurita compagno disse pacatamente vediamo di sbrigarcela cosa cerca ancora da me Peppone si sbottano ora prendo quel famoso commendatore che amministra così bene i quattrini che gli affidano non lo conosco affermò Don Camillo lo deve conoscere è uno dei vostri uno che si serve dei preti come intermediari e poi si disobbliga regalando chiese conventi oratori e via discorrendo so chi è ma non sono mai stato in contatto con lui reverendo può mettersi in contatto quando vuole il parroco di Torricella è uno dei suoi agenti Don Camillo tentennò malincognicamente il capo compagno disse Dio ti ha allungato un dito perché vuoi afferrargli la mano reverendo Dio non c'entra la fortuna mi ha aiutato e adesso ho un capitale da mettere a frutto allora è semplice vada dal parroco di Torricella e si faccia presentare al commendatore non è possibile sono troppo conosciuto se qualcuno mi vedesse bazzicare attorno alla canonica di Torricella o attorno al palazzo del commendatore sarei rovinato figuriamoci i comunisti che finanziano i clericali se io do i quattrini rimanendo ignoto è una semplice questione economica se li do come comunista noto diventa una questione politica la faccenda del famoso commendatore che dava interessi del 50 o 60 per cento e regalava conventi chiese oratori cappelle eccetera non aveva mai convinto Don Camillo d'altra parte il parroco di Torricella era un vecchio galantuomo e se la sua parrocchia possedeva un cinema un campo da gioco è una piscina in grado di controbilanciare tutte le diavolerie che i rossi avevano organizzato per attirare i giovani ciò era dovuto al famoso commendatore Don Camillo non si sbilanciò io non voglio entrarci concluse domani sera a quest'ora le farò trovare qui il parroco di Torricella io me ne andrò a letto e voi vi arrangerete la sera seguente Peppone incontrò nel tinello di Don Camillo il parroco di Torricella e Don Camillo li lasciò soli pareva che della faccenda non si dovesse più parlare ma un anno dopo Peppone venne eletto senatore e allora un piccolo satanasso incominciò ad aggirarsi attorno a Don Camillo e a tirargli la sottana e a stuzzicarlo giorno e notte Peppone è l'ultimo degli ingrati gli andava sussurrando il demonietto tu ti sei comportato così lealmente con lui quando sei andato a riscuotergli i dieci milioni e per tutta le conoscenza cosa ha fatto il mal scalzone appena eletto senatore ha tenuto in piazza un discorso da far drizzare i capelli Don Camillo l'aveva sentito sì quel discorso un discorso pieno di boria di tracotanza e di sarcastici accenni a quel certo parroco che si era forse natamente agitato per ostacolare la vittoria del popolo usando argomenti da sagrestano e che se fosse capace di suonare le campane potrebbe al massimo coprire la carica di campanaro a lungo il piccolo satanasso aveva estigato Don Camillo perché non racconti alla gente la storia del compagno Peppone milionario clandestino Don Camillo aveva lottato un anno intero per liberarsi dal piccolo satanasso e alla fine quando ormai se lo era tolto di torno ecco il criminale manifesto di Peppone era in quei giorni scoppiato il colossale scandalo del famoso commendatore e nel pieno della polemica il senatore Peppone aveva fatto tappezzare il paese con un manifesto nel quale lo sciagurato si scagliava con furibonda violenza contro i preti trafficoni che pur di arraffare quattrini non avevano esitato a diventare complici di un truffatore ingannando i poveri ingenui fedeli e depretandoli dei loro sudati risparmi una faccenda da farle brividire e allora davanti a tanta spudoratezza Don Camillo aveva deciso di far scoppiare la bomba Peppone ritornava al paesello piuttosto di frequente e non era più il Peppone di un tempo ma un personaggio gonfio di sussiego fino agli occhi che viaggiava con una gran borsa piena di importantissimi documenti e con l'aria preoccupata di chi ha sulle spalle il peso di enormi responsabilità salutava la gente con molto distacco e incuteva una tremenda soggezione ai poveri compagni riferirò a Roma sentirò a Roma concludeva gravemente quando gli sottoponevano qualche problema indossava abiti scuri a doppio petto portava cappelli da borghese d'alto rango e non si mostrava mai in giro senza cravatta nel famigerato manifesto figuravano robusti errori di sintassi ma siccome è l'uomo che fa lo stile erano presentati in modo così perentorio da smorzare ogni ironico sorriso Don Camillo gli tese l'agguato e lo colse mentre rincasava alle undici di notte scusi gli disse Don Camillo mentre Peppone armeggiava attorno alla serratura della porta di casa sbaglio o lei è uno dei poveri ingenui fedeli depredati da preti senza scrupoli complici di truffatori Peppone dovette lasciarlo entrare e Don Camillo attaccò subito compagno senatore adesso tocca a me farò sghignazzare l'Italia intera alle tue spalle racconterò tutta la storia parola per parola i tuoi elettori devono sapere come il compagno senatore con la complicità di un prete ha fregato il partito e il fisco quando ha vinto i 10 milioni al totocalcio come ha ancora fregato il partito e il fisco affidando i 10 milioni al famoso commendatore e aiutando così la causa di quelli che lei definisce i nemici del popolo Peppone gonfiò il petto le darò querela per diffamazione lei non può provare niente proverò ogni cosa il suo nome sui registri del commendatore gli interessi le venivano pagati a mezzo assegno e io conosco i numeri delle matrici Peppone si asciugò la fronte coperta di sudore lei non farà mai una mascalzonata simile disse Don Camillo si sedette tranquillamente e accese il suo mezzo toscano non è una mascalzonata spiegò è la giusta risposta al suo manifesto Peppone schiattava si strappò di dosso la giacca che buttò sull'ottomana e si slacciò la cravatta poi si sedette di fronte a Don Camillo è inutile cattiveria ruggì ci ho rimesso il capitale ma si è presi due anni di interessi e chiude presto a poco in pareggio Peppone era nel laccio e vinto dalla disperazione disse una stupidaggine reverendo le bastano tre milioni Don Camillo fece la faccia brutta compagno una proposta simile a me non la doveva mai fare la pagherà a parte trasse di tasca un giornale e spiegatolo indicò a Peppone uno stelloncino come vede senatore ci toniamo informati sappiamo che lei ha avuto l'importante incarico di selezionare i dieci compagni attivisti scelti in ogni parte d'Italia che lei stesso poi accompagnerà nell'URSS in una gita premio non la disturberemo nel suo lavoro di alto concetto la grana scoppierà non appena lei avrà messo piede in Russia l'imbarazzo in cui si troveranno i suoi capi aumenterà il divertimento Peppone non aveva più nemmeno la forza di parlare da troppi anni conosceva Don Camillo e capiva che stavolta niente avrebbe potuto fermarlo quel grosso uomo ridotto a uno straccio fece pena Don Camillo compagno gli disse tu sei liquidato a meno che Peppone levò il capo a meno che esclamò con ansia Don Camillo con estrema calma gli spiegò a qual prezzo avrebbe potuto cavarsela e Peppone lo ascoltava bocca aperta poi quando Don Camillo ebbe finito di parlare disse reverendo lei scherza no e le dico o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra Peppone balzò in piedi lei è pazzo urlò pazzo da legare appunto per questo compagno deve pensarci dieci volte prima di rispondermi no i pazzi sono pericolosi aspetterò fino a domani sera il vecchio vescovo due giorni dopo ricevette in udienza privatissima Don Camillo e lo stette ad ascoltare con grande pazienza senza mai interromperlo e tutto? domandò alla fine tutto eccellenza benissimo figliolo io credo che con quindici giorni di riposo in una tranquilla casa di cura dell'Appennino potrai superare questa crisi Don Camillo scosse il capo eccellenza disse io ho parlato sul serio è un'occasione unica sarà un'esperienza utilissima alcuni giorni a contatto diretto col fiore degli attivisti nostrani e con i bolshevichi russi il vecchio vescovo guardava sbalordito Don Camillo figliolo implorò ma chi ti ha messo in testa questa idea? non lo so eccellenza me la sono trovata improvvisamente nel cervello chi lo sa potrebbe anche avercela messa il signore non credo non credo borbottò il vecchio vescovo comunque l'idea adesso ce l'hai nel cervello e io dovrei assecondarti e lasciar partire senza dire niente a nessuno e se ti scoprono? non mi scopriranno curerò molto il travestimento non parlo dell'abito eccellenza parlo del travestimento interno l'abito ha poca importanza è il travestimento del cervello quello che conta di più un cervello normale soltanto se travestito da cervello comunista può dare all'espressione dello sguardo al tono della voce e agli stessi lineamenti del viso l'impronta particolare che caratterizza i veri comunisti il vecchio vescovo continuò per un pezzo a battere con la punta del bastoncello sullo sgapellino che stava ai suoi piedi poi tirò la sua conclusione figliolo è una pazzia sì eccellenza ammise onestamente don camillo e allora vai don camillo si inginocchiò davanti al vescovo e il vecchio gli posò la piccola mano scarna sul capo che dio ti proteica compagno don camillo disse levando al cielo gli occhi pieni di lacrime lo disse con voce sommessa e don camillo percepì appena un sussurro ma dio lo dì benissimo 3 in abito simulato buongiorno senatore lo salutò con petulanza la portinaia che stava ripulendo il pavimento dell'atrio buongiorno compagno gli sussurrò cauto il lattaio incontrandosi con lui sulla soglia del portone buongiorno disgraziato lo commiserò un omaccio che lo aspettava al varco piantato a gambe larghe in mezzo al marciapiedi questa volta peppone non rispose e scansato l'omaccio continuò per la sua strada erano circa le nove l'alba della capitale la gran macchina romana stentava a rimettersi in moto e un leggero velo di sonno smorzava la crudezza di quel fresco e il limpido mattino d'autunno buongiorno disgraziato ripetè l'omaccio ma in tono cordiale stavolta quasi affettuoso lassù adesso i campi sono uno spettacolo la terra arata fuma nei prati l'erba medica luccica di brina e le viti dei filari sono cariche d'uva nera matura e dolce come il miele e di foglie che vanno dal verde stanco al rosso dorato peppone mugì possibile che tutte le sante mattine quell'odioso individuo venisse a tendergli l'aguato davanti al palazzo della pensione per raccontargli quello che succedeva al paese peppone per darsi un contegno accese una sigaretta e l'altro sghignazzò già come si fa a fumare sigari la gente qui ha il naso delicato e la padrona della pensione poi se ti vedesse col tuo vecchio mezzo toscano in bocca perderebbe la stima dei senatori davvero una vecchia signora distinta la padrona della pensione buona l'idea di spiegarla che sei un senatore indipendente pensa che delusione se scoprisse che invece sei un comunista peppone buttò via la sigaretta e salentò un po' la cravatta che gli stringeva il collo certo insistè l'omaccio ti sentivi più libero prima col colletto slacciato e il fazzoletto al collo ma un senatore non può essere sbracalato come un meccanico di campagna e poi oltre al resto sei un funzionario importante e hai un ufficio col pavimento di marmo e il telefono sulla scrivania peppone diede un'occhiata all'orologio non ti preoccupare ridacchiò l'omaccio nessuno potrà trovare da ridire sul tuo operato hai fatto un buon lavoro e i compagni da portare in russia con te sono stati scelti con la massima cura te ne manca soltanto uno peppone si tolse il cappello e si asciugò il sudore che gli allagava la fronte quel maledetto ansimo l'omaccio cambiò registro amico chi te lo fa fare domandò perché vuoi ficcarti nei guai pianta baracca e burattini e torna a casa non posso gemette peppone e allora l'omaccio si fermò arrivederci domattina disse è che dio te la mandi buona erano arrivati alla fermata dell'autobus peppone guardò l'omaccio allontanarsi e perdersi in mezzo alla gente l'omaccio che tutte le mattine lo aspettava davanti alla pensione il peppone sbracalato e felice del passato che all'inizio d'ogni giornata veniva a cantare al peppone ben vestito e infelice del presente la canzone tentatrice torna al tuo paesello che è tanto bello sull'autobus trovò posto di fronte a un tizio che leggeva l'unità tenendola spalancata davanti a sé con tanta cura da farla sembrare incollata su un foglio di legno compensato peppone non poteva scorgere il volto del passeggero completamente celato dalla cortina di carta ma considerando l'evidente intento provocatorio di quella messa in scena stabilì che doveva trattarsi di una faccia da stupido portare fieramente all'occhiello il distintivo del partito è dovere di ogni militante ma ogni ostentazione è controproducente questo peppone lo aveva stabilito è decretato quando temporibus illis fulmine si era fatto rapare a zero lasciando in cima la lucida zucca pelata solo una certa quantità di capelli alti un dito e sistemati in modo tale da disegnare nitidamente l'emblema della falcia e il martello questo perché don camillo l'aveva scoperchiato con uno scapaccione urlandogli che quando passava il santissimo doveva cavarsi il cappello e allora ogni volta che fulmine incontrava don camillo gli faceva una gran scappellata con annesso in chino per mostrargli la meraviglia che portava in cima alla testa peppone sospirò e bei tempi quelli la politica non aveva ancora intossicati gli animi e con quattro sberle si riusciva sempre a mettersi d'accordo evitando inutili discussioni l'ignoto lettore dell'unità abbassò il giornale e peppone dovette riconoscere che non aveva una faccia da stupido probabilmente i suoi occhi erano privi di espressione ma grossi occhiali con montatura pesante e lenti spesse e affumicate non permettevano di stabilirlo con sicurezza l'uomo indossava un comune abito chiaro e portava in testa un comunissimo cappello grigio in complesso era un individuo notevolmente antipatico e peppone poco dopo quando sceso dall'autobus se lo trovò fra i piedi si seccò signore gli domandò l'individuo può indicarmi la strada non lo lasciò continuare posso indicarle soltanto una strada rugì quella che porta all'inferno e mi interessava proprio quella replicò calmo l'altro peppone si incamminò a grandi passi e l'individuo lo seguì se lo ritrovò cinque minuti dopo seduto davanti a un tavolino appartato ad un piccolo caffè deserto peppone mandato giù un grosso bicchiere di roba gelata riacquistò la calma necessaria per fare un discorso comprensibile lo scherzo è durato abbastanza stabilì non credo obietò l'altro è appena cominciato lei non spererà che io prenda la cosa sul serio non lo spero lo esigo don camillo mi chiami semplicemente compagno tarocci trasse di tasca un passaporto lo consultò e glielo porse esattamente tarocci camillo tipografo peppone considerò con disgusto il documento e lo rigirò a lungo tra le mani nome falso passaporto falso esclamò tutto falso no compagno è un passaporto autentico rilasciato dalle autorità al cittadino tarocci camillo tipografo al quale io mi sono sforzato ad assomigliare se ne dubiti ecco la prova don camillo cavò dal portafoglio un cartoncino che allungò a peppone spiegando tessera del partito comunista rilasciata al compagno tarocci camillo tipografo tutto autentico tutto regolare peppone voleva dire qualcosa ma don camillo lo prevenne compagno non ti stupire ci sono dei compagni che sembrano compagni e invece sono diversi il compagno tarocci è uno di quelli siccome è fra gli elementi più stimati della sua sezione tu scrivi alla sezione facendoti segnalare cinque compagni meritevoli e poi scegli lui che sono io così mentre lui viene a farsi alcuni giorni in villeggiatura sui colli romani io vengo con te in Russia guardo attentamente ogni cosa e al mio ritorno gli racconto tutto quello che ha visto il compagno tarocci non fu una questione facile per peppone rientrare in carreggiata quando ci fu riuscito affermò io non so se l'inferno esista e ne mi interessa approfondire la questione se c'è voi ci andate di sicuro reverendo d'accordo allora ci vediamo là compagno peppone rinunciò a resistere più oltre reverendo disse con voce stanca perché volete rovinarmi nessuno vuole rovinarti compagno la mia presenza in Russia non cambia niente della realtà russa ciò che è buono rimarrà buono ciò che è cattivo rimarrà cattivo di che cosa hai paura temi forse che là non ci sia il paradiso di cui parlano i tuoi giornali peppone si strinse nelle spalle in compenso affermò Don Camillo io spero che là non ci sia l'inferno di cui parlano i miei giornali quale nobiltà di sentimenti esclamò peppone sarcastico quale disinteresse non sono disinteressato spiegò Don Camillo spero che stiano bene perché chi sta bene non si muove e non mette nei guai gli altri poi passò una settimana e venne il giorno in cui il compagno Camillo Tarocci della sezione comunista di Vatte la Pesca ricevette la comunicazione che il suo nome era stato sorteggiato fra quelli proposti per la gita premio e il compagno Don Camillo si presentò con la sua brava valigia di fibra alla centrale bolshevica romana assieme agli altri nove eletti un giovane funzionario passò in rassegna la squadra che il compagno senatore gli aveva presentata e pronunziò brevi e categoriche parole di circostanza compagni voi partite con un compito preciso quello di osservare ed ascoltare non soltanto per voi ma anche per gli altri e così potere al vostro ritorno spiegare ad amici ed avversari quanto sia serena la vita nell'operoso paese del socialismo faro splendente di progresso e di civiltà questa è la vostra missione mentre Peppone diventava pallido come un morto di anemia Don Camillo domandò la parola compagno non varrebbe la pena di andar tanto lontano solo per spiegare ai compagni ciò che essi sanno benissimo e agli avversari ciò che essi non ammetteranno mai la missione che vorremmo ci affidasse il partito dovrebbe essere quella di portare ai compagni sovietici il sorriso sereno e riconoscente dell'intero autentico popolo italiano liberato finalmente dalla dall'atroce minaccia della guerra naturalmente compagni borbottò a denti stretti il giovane funzionario ciò è implicito il giovane funzionario si allontanò impettito e indispettito e Peppone aggredì Don Camillo quando è una cosa implicita è inutile dirla inoltre quando si parla bisogna usare il tono adatto alla persona che abbiamo davanti tu non sai chi è quel compagno Don Camillo replicò a muso duro lo so è un giovane di circa ventiquattro anni che nel quarantacinque ne aveva dieci questo esclude che abbia combattuto come abbiamo fatto noi in montagna conosca quale terribile cosa sia la guerra e possa valutare a ragion veduta la portata psicologica dell'azione che ora sta compiendo il compagno Khrushchev a favore del disarmo e della pace giusto approvò il compagno Nanni Scamoggia un pezzaccio di giovane Marco Antonio Trasteverino bullo e strafottente dai piedi alla testa quando c'è da prendere sventole o da menare mica ci vanno i funzionari e quando i funzionari poi creano il funzionarismo aggiunse il milanese compagno Walter Rondella allora non siamo qui per fare una riunione di cellula taglio corto peppone vediamo di non perdere il treno si incamminò deciso e passando davanti a Don Camillo gli sparò un'occhiata atomica che avrebbe sgretolato una colonna di granito Don Camillo conservò imperturbata la sua grinta di compagno che costi quel che costi dice sempre e dovunque quel che pensa l'unità sul treno Peppone si preoccupò di una cosa soltanto di non perdere d'occhio lo stramaledetto compagno Tarocci Camillo un solo minuto e perciò prese posto davanti a lui in modo da poterlo tenere sotto stretto controllo ma pareva che Don Camillo non avesse la minima intenzione di combinargli dei guai tanto è vero che tratto di tasca un libretto dalla copertina rossa con tanto di falce e martello impressi in oro si trincerò dietro una grinta impenetrabile e si immerse nella lettura senza badare minimamente a quanto dicessero gli altri ogni tanto staccava gli occhi dal libretto e lasciava che il suo sguardo si perdesse per i campi e le contrade che scivolavano via rapidi davanti al finestrino continuò per un gran pezzo e quando al fine chiuse il libretto e fece per rimetterlo in tasca Peppone gli disse deve essere una lettura interessante compagno la più interessante gli rispose asciutto Don Camillo è una raccolta dei pensieri di Lenin gli porse il libretto che Peppone sfogliò peccato sia scritto in francese spiegò Don Camillo comunque se vuoi te ne posso tradurre qualche brano grazie compagno non ti incomodare rispose Peppone richiudendo il libretto e restituendoglielo poi sbirciò cautamente intorno e tirò un sospirone di sollievo gli altri compagni dormichiavano o le giucchiavano delle riviste illustrate nessuno poteva essersi accorto che la raccolta dei pensieri di Lenin pure avendo una copertina rossa con l'emblema della falce e martello pure recando in lingua francese un titolo che prometteva al lettore i migliori pensieri di Lenin si limitava in realtà a dargli in lingua latina il normale materiale di un normale breviario ad uso dei sacerdoti alla prima fermata qualcuno scese il compagno Scamoggia tornò con un fiasco divino e il compagno rondella con l'edizione straordinaria di un foglio della sera e con una faccia disgustata il giornale portava in prima pagina sotto un titolo enorme il resoconto dell'ultima giornata americana di Khrushchev rallegrato dalle solite foto di gente soddisfatta e sorridente il compagno rondella scosse il capo a me esclamò ad un tratto tutti questi sorrisi con quei maiali capitalisti non vanno giù la politica non va fatta col fegato ma col cervello stabilì Don Camillo l'URSS ha sempre lottato con la pacifica con l'esistenza i capitalisti che si facevano i miliardi con la guerra fredda hanno poco da ridere la fine della guerra fredda è una grossa battaglia perduta dal capitalismo il compagno rondella milanese era affezionato alle proprie idee d'accordo tutto bene però ho o non ho il diritto di dire che odio i capitalisti e piuttosto di sorridergli io mi faccio ammazzare certo asserì Don Camillo hai il diritto di dirlo ma non a noi bensì a Khrushchev quando arriveremo sarà già tornato tu ti fai ricevere e gli dici compagno Khrushchev l'urs ha sbagliato politica Don Camillo era perfido come il più perfido agit prop della sezione provocatori e il compagno rondella in pallidì o non capisci o non mi vuoi capire gridò se per fertilizzare un campo io devo maneggiare delle tame lo faccio ma nessuno può pretendere che io dica che il letame è profumato con estrema calma Don Camillo replicò compagno tu hai combattuto in montagna e comandavi un reparto quando ti comandavano di compiere un'azione pericolosa cosa facevi partivo e spiegavi ai tuoi ragazzi che la faccenda di rischiare la pelle non ti andava giù no di certo ma questo cosa c'entra c'entra compagno perché calda o fredda la guerra è sempre guerra e in guerra i pensieri personali di chi combatte per la causa giusta non devono esistere peppone intervenne lascia perdere compagno rondella andiamo in un paese dove di capitalisti non è incontri di sicuro e questa è una gran consolazione riconobbe un po' rasserenato il compagno rondella per me comunicò il compagno scamoggia la più gran soddisfazione sarà che per tutti questi giorni non vedrò più un prete don camillo scosse il capo non è detto compagno nell'unione sovietica c'è libertà di religione sì libertà per modo di dire ridacchiò scamoggia nell'unione sovietica non esistono che libertà vere e complete affermò severamente don camillo ma scamoggia era scatenato prendi anche là compagno ma è possibile che questa porca razza non la si possa eliminare peppone gli dispose autoritario scomparirà da sola quando finiranno la miseria e l'ignoranza quei cornacchioni maledetti vivono sull'ignoranza e sulla miseria don camillo diventava sempre più gelido e categorico compagno senatore tu sai meglio di noi che nell'unione sovietica ignoranza e miseria non esistono più questo significa che se i preti continuano ad esistere essi dispongono di una forza che non si è ancora riusciti a neutralizzare completamente ma che cos'hanno di speciale questi maledetti rugisca moggia non sono forse gente fatta di carne e rossa come noi no urlò Peppone rosso come un gallinaccio è gente fabbricata con tutte le peggiori porcherie dell'universo sono falsi ipocriti vigliacchi ricattatori assassini ladri i serpenti velenosi li schivano perché hanno paura di essere morsicati don camillo scosse impercettibilmente il capo tu perdi la calma compagno senatore non sei sereno qui sotto c'è il fatto personale qualche prete ti ha fregato ti ha fregato deve ancora nascere il prete che riuscirà a fregare me e il prete che ti ha battezzato si informò don camillo avevo un giorno schiamazzò Peppone e il prete che ti ha sposato insistè perfido don camillo il compagno il compagno scamoggia si rivolse ridendo a peppone capo lascia perdere questo è un compagno sofistico che ci mette nel sacco tutti è rivolto ad un camillo mi piaci compagno perché sai il fatto tuo e sei un mangia preti come me beviamoci sopra riempì di vino ai bicchieri di carta alla salute della grande russia sovietica gridò il compagno scamoggia levando il bicchiere alla distruzione del capitalismo brindò il compagno rondella alla faccia di tutti i preti dell'universo ruggì Peppone guardando negli occhi don camillo don camillo levò il bicchiere e nello stesso tempo sparò contro gli stinchi di Peppone una zampata che voleva dire un sacco di cose il convoglio arrivò in vista del confine a notte alta c'è una magnifica luna e biancheggiavano le case dei paeselli disseminati sulle pendici dei monti ogni tanto balenava una visione del pianoro lontano percorso dal luccicante nastro dei fiumi e palpitavano i lumi delle città affacciato a un finestrino del corridoio don camillo fumava il suo mezzo toscano e si godeva lo spettacolo Peppone lo raggiunse e dopo aver contemplato a lungo quel notturno incanto sospirò si ha un bel dire ma quando uno sta per lasciarla allora si accorge come sia bella la propria patria compagno lo ammonì don camillo questa è deteriore retorica borghese trito nazionalismo ricordati la nostra patria è il mondo e allora scappò detto a Peppone perché debbono esistere dei disgraziati che vogliono andare sulla luna compagno ero distratto e non ho capito la tua domanda meglio così borbottò Peppone 4 operazione rondella sul tremotore che li aveva presi a bordo in un aeroporto della Germania orientale c'era un fracasso del diavolo ciò costrinse il compagno don camillo a starsene zitto e permise al compagno Peppone di viaggiare relativamente tranquillo non ho perse mai d'occhio perché don camillo era uno di quei soggetti pericolosi anche quando non parlano ma don camillo si comportò sempre onestamente limitando la sua attività antisovietica alla lettura delle massime di lenin Peppone ebbe un ingorgo al cuore soltanto quando il compagno reverendo richiuse il libretto rosso e sovrapensiero portò alla fronte la mano destra ma si riprese in tempo e trasformato il tocco in una lisciatina alla fronte portò a termine l'impresa rassettandosi con la punta delle dita il davanti della giacca poi spazzolandosi leggermente la spalla sinistra e la destra e così sia disse fra sé Peppone traendo dal petto un sospirone che gli disingolfò il carburatore l'aereo andava lentamente perdendo quota e presto le sue ruote toccarono la terra russa signore come lontana la mia chiesetta pensava con sgomento Don Camillo mentre scendeva la scaletta ma il cielo è vicino lo rassicurò la voce di Cristo Don Camillo ridiventò il compagno Tarocci compagno disse gravemente a Peppone non senti il desiderio di raccogliere un pugno di questa terra per baciarla sì gli rispose Peppone a denti stretti baciarla e poi rassicurvela dentro quella stramaledetta bocca erano attesi e si fece avanti una ragazza seguita da un uomo paludato in un lungo impermeabile spiegazzato e piuttosto stinto salve compagni li salutò la ragazza io sono Nadia Petrovna del centro interpreti e questo è il compagno Yenke Oregov funzionario dell'ufficio turistico la ragazza parlava un italiano pulitissimo e se non avesse avuto quella grinta e quel suo tagliere dalle spalle quadre la si sarebbe potuta scambiare per una delle nostre parti Peppone si presentò poi presentò i dieci della squadra e finita l'orgia delle strette di mano il compagno funzionario porse ai fratelli italiani il saluto dei fratelli sovietici ad essi graniticamente uniti nella gloriosa lotta per la libertà la giustizia sociale la pace e via discorrendo il compagno funzionario sui quarant'anni tracagnotto con la testa rapata la mascella quadrata le labbra sottili gli occhi chiari il collo corto e quella palandrana lunga fino ai piedi puzzava di poliziotto lontano un miglio parlava a muso duro controllatissimo e misuratissimo nel suo gestire e se nessuno avesse tradotte le sue parole si sarebbe potuto credere che egli invece di un indirizzo di saluto pronunziasse un atto d'accusa anche la compagna Nadie Petrovna essendo una funzionaria del partito aveva un'aria perennemente preoccupata che le impediva di sorridere ma in complesso era tutt'altra cosa dal compagno Orykov il compagno Nanni Scamoggia appena se l'era vista comparire davanti era rimasto come all'occhito e non è da dire che quella fosse la prima bella ragazza con la quale si trovava faccia a faccia Scamoggia era uno di quei fusti che fanno perdere l'indirizzo di casa alle donne un Marcantonio sui ventotto anni coi capelli neri lucidi ondulati gli occhi con lunghe ciglia ma con sguardo un po' perverso la bocca ben disegnata e con piega fra strafottente e maledetta le spalle ampie il bacino stretto i piedi piccoli da ballerino e come se non bastasse portava pantaloni attillati e un giaccone di pelle nera sopra il maglione rosso fuoco e la sigaretta alla zala mort Scamoggia era un bullo autentico uno di quei bulli che sanno menare le mani e non si lasciano incantare dalle donne mentre la squadra attraversava il grande prato dell'aeroporto e Peppone il compagno Oregov e la compagna Nadia Petrovna camminavano davanti a tutti Scamoggia riacquistò l'uso della parola compagno comunicò a Don Camillo hai visto che razza d'atomica ho visto sì rispose Don Camillo lo Scamoggia lo agguantò per un braccio e lo attirò verso di sé in modo che potesse avere la visuale libera da un'occhiata a quello Sputnik e poi e poi dimmi Don Camillo chiese mentalmente perdono a Dio guardò e affermò categoricamente di ragazze così complete perfette non se ne trovano in giro lo disse forte perché il compagno Rondella era lì vicino e il compagno Rondella abboccò bella finché volete esclamò ma di ragazze così ce ne sono anche da noi da noi le ragazze sanno vestire bene stabilì Don Camillo prendi la più bella e falle indossare una sottanuce e un giacchettaccio come quelli che porta la compagna Petrovna e vedrai che miseria salta fuori questa è una bellezza solida classica questa è una bella donna non una delle pupatole che si vedono nei nostri paesi e nelle nostre città a cominciare da Milano dove non c'è una donna che non sia sofisticata balle compagno protestò con vivacità Rondella a Milano ci sono belle ragazze che neppure te le sogni intervenne lo scamoggia non ti arrabbiare compagno ci sono belle donne anche da noi ma questa ha qualcosa di speciale non so cosa sia ma ce l'ha dipende dal clima spirituale nel quale è nata e cresciuta stabilì don Camillo l'ambiente fa l'uomo e fa anche la donna naturalmente non tutti sono in grado di intuire queste verità elementari il compagno Rondella voleva rimbeccare don Camillo ma in quel momento la squadra si fermò verificato canale spiegò Peppone incuneandosi nel gruppo preparate le valigie avvicinatosi a don Camillo gli sussurrò cautamente spero che non abbiate roba che ci metta nei guai compagno lo rassicurò don Camillo sostare al mondo si trattò di una faccenda spiccia perché Peppone aveva organizzato le cose con intelligenza e prima di partire da Roma i dieci eletti avevano dovuto comprarsi ciascuno una valigia leggera e di misura regolamentare uguale a quella di fibra che egli con pochi soldi si era procurato in un grande magazzino e poi ogni valigia una volta riempita era stata pesata l'unica cosa sulla quale ebbero da ridire fu la boccetta che trovarono nella valigia dello scamoggio il funzionario della polizia doganale svitò il tappo annusò poi passò la boccetta alla compagna Petrovna che l'annusò a sua volta domanda perché tu porti profumo femminile con te disse la compagna Nadie volgendosi verso scamoggia non è profumo femminile spiegò scamoggia è l'acqua di lavanda che adopero dopo fatta la barba qui c'è forse l'uso di disinfettarsi con la nafta la donna stava per rispondere ma davanti a un bullo come lo scamoggia non c'era donna che potesse alzare la cresta quindi volse il capo e tradusse al doganiere solo la prima parte della risposta dello scamoggia il doganiere borbottò qualcosa e rimise la bottiglietta nella valigia ha detto che qui gli uomini usano disinfentarsi la faccia con l'alcol spiegò la Petrovna allo scamoggia quando la comitiva si rimise in moto comunque devi usarla tu e non farne commercio erano fuori dal campo e lo scamoggia si fermò compagna un momento aprì la valigia e ne cavò la bottiglietta se quegli uomini usano l'alcol affermò userò pure io l'alcol perché sono un uomo anche io se questo è un profumo femminile che lo adoperi una donna le porse la boccetta ma la ragazza ritrasse la mano non sei forse una donna si stupì lo scamoggia certo balbettò la Petrovna e allora pigliatelo mica ne faccio commercio te lo regalo la donna rimase qualche istante perplessa poi prese la boccetta e la infilò dentro la borsetta la cui cinghia le passava sulla spalla grazie compagno prego bella la Petrovna cercò di ritrovare un adeguato cipiglio da funzionario offeso ma riuscì soltanto ad arrossire come una borghesuccia qualsiasi raggiunse di corsa il gruppo e lo scamoggia sistemata la valigia accese una sigaretta la mandò in distaccamento nel più remoto angolo delle labbra e si avviò con calma soddisfatta un torpedone li aspettava salirono e mentre Peppone metteva la sua valigetta sulla rete portabagagli Don Camillo gli toccò la spalla capo disse deve essere successo un po' di confusione la tua valigia è questa Peppone controllò la targhetta e si trattava proprio della sua valigia l'altra che egli tolse dalla rete portabagagli portava la targhetta col nome del compagno tarocci Camillo poco male esclamò Don Camillo un semplice scambio di valigia Peppone si sedette e Don Camillo prese posto davanti a lui così sussurrò Peppone quando la macchina si fu messa in moto io ho portato la dogana alla vostra valigia esatto un puro caso e alle volte sempre per puro caso nella vostra valigia c'era qualcosa di particolare niente un blocchetto di santini un po' di fotografie del papa un pizzico d'ostie e altre quisquiglie del genere Peppone rabbrividì il torpedo ne viaggiava attraverso una sconfinata campagna e vacche piuttosto magre pascolavano nei prati d'uno stinto verde autunnale la compagna Petrovna si alzò e spiegò che secondo il programma stabilito gli ospiti avrebbero visitato una fabbrica di trattori e poi sarebbero stati condotti all'albergo dove avrebbero potuto pranzare e riposarsi la fabbrica di trattori era alla periferia di R e si trattava di un agglomerato di tristi e grigi baracconi di cemento che sorgeva quasi di sorpresa al limite nord del malinconico pianoro giallastro questa schifezza si chiama civiltà industriale ed è uguale in tutte le parti del mondo Don Camillo pensò con coccente nostalgia al suo borgo lontano dove il calore umano vivificava ogni minimo pezzetto di terra dove ognuno dei mattoni delle case aveva conosciuto la carezza dell'uomo e perciò fra gli uomini e le cose esisteva un tenace e invisibile legame gli operai che lavoravano negli enormi capannoni erano annoiati e indifferenti come gli operai di tutte le fabbriche del mondo in molti reparti lavoravano soltanto donne erano per lo più piccolette tonde massicce e nessuna somigliava alla compagna Petrovna a un bel momento il compagno rondella non resistette più e avvicinatosi a don Camillo gli disse compagno queste non sono nate e cresciute nel clima spirituale della compagna Petrovna don Camillo lo fulminò compagno non si va a visitare un reparto industriale femminile con lo stesso spirito con cui si va ad assistere a una sfilata di miss è una delle regole elementari che ogni compagno che si rispetti dovrebbe conoscere non era il caso di intavolare lì una discussione tanto più che Peppone si era voltato verso di loro facendo gli occhiacci la visita non finiva mai perché uno zelante giovane funzionario della fabbrica spiegava tutto anche quello che non c'era da spiegare e a ogni passo sparava raffiche di dati statistici che l'interprete doveva tradurre uno per uno alla fine si arrivò al termine della catena di montaggio e si poterono vedere i trattori pronti per essere spediti al loro destino qui Don Camillo rimase come folgorato e dopo aver rimirato con occhi statici un esemplare appena sfornato esclamò rivolto a Peppone compagno senatore ma questo è identico alla meravigliosa macchina regalata dall'unione sovietica alla cooperativa agricola che tu hai creato Peppone avrebbe volentieri squartato Don Camillo che vilmente gli ricordava il maledetto trattore che non voleva andare a nessun costo e aveva fatto scompisciare dalle risa l'intera provincia ma ciò che più gli avvelenò il sangue fu che dovette sorridere e parlare con entusiasmo del famoso trattore come si trattasse di una cara persona viva però quando ebbe finita la sua fatica il meccanico che dormicchiava dentro di lui fece udire la sua voce e così mentre gli altri proseguivano nella visita agguantò per una manica uno dei tecnici che scortavano i visitatori e appressatosi a un trattore gli indicò un certo pezzo della pompa di iniezione e cercò di spiegare armeggiando con le dita che la faccenda non poteva funzionare per questo e quest'altro il tecnico lo stette a rimirare molto interessato poi si strinse nelle spalle per fortuna sopraggiunse la compagna Petrovna alla quale il tecnico parlò brevemente dice spiegò la Petrovna a Peppone che ha capito aspettano che arrivi l'autorizzazione a modificare il pezzo il tecnico ridacchiando disse qualcosa d'altro alla ragazza e lei corrugò la fronte e rimase sopra pensiero un momento poi si decise e senza guardare in faccia Peppone gli comunicò sottovoce dice che l'autorizzazione dovrebbe arrivare da un anno all'altro si allontanò in fretta ma poco prima che raggiungesse il gruppo Scamoggia la bloccò compagna le disse facendo balenare dei denti da divo di Hollywood non ho sentito le ultime statistiche sulla produzione di pezzi di ricambio potresti farteli ripetere dal tecnico il tecnico interpellato entrò in eruzione e la compagna Petrovna tradusse tante di quelle cifre da far ingolfare una calcolatrice elettronica lo Scamoggia ascoltò con estrema attenzione tentennando gravemente il capo in segno di approvazione poi strinse la mano al tecnico e ringraziò la traduttrice grazie compagna tu non sai il piacere che mi hai fatto ti occupi di macchine agricole si informò ingenua la donna no mi piace sentirti parlare era troppo si trattava di un sacrilegio perché quello era il tempio del lavoro e la compagna Petrovna si sentì come non mai funzionaria del partito in pallidi si irrigidì e disse con voce dura metallica compagno non aveva mai praticato trastevere non aveva mai visto due occhi come quelli lì e incontrato lo sguardo della Scamoggia ci annegò dentro come una mosca nella melassa R era una città sui 150.000 abitanti una banale città russa con poca gente e rarissime automobili nelle strade l'albergo era insignificante la cameretta assegnata a Don Camillo era quasi miserabile non sapeva chi dovesse dormire nell'altro letto ma non tardò a saperlo perché mentre stava lavandosi la faccia entrò Peppone sentite compagno gli disse subito Peppone voi la dovete piantare di stuzzicare Rondella lasciatelo tranquillo anche se vi è antipatico mi è simpatico invece gli rispose calmo Don Camillo il fatto è che quando si tratta del partito io sono inflessibile e non guardo in faccia nessuno è un compagno con idee poco chiare ha dei sedimenti porghiesi nel cervello e il nostro dovere è quello di liberarlo Peppone buttò il cappello contro il muro uno di questi giorni vi strazzerò gli sibilò all'orecchio si ritrovarono tutti nella squallida saletta del ristorante e a capotavola sedeva il compagno Oregoff che aveva alla sua destra Peppone e alla sua sinistra la compagna Nadia Don Camillo architettò le cose in modo tale da sedersi di fronte a rondella questo fu il primo colpo che ricevette Peppone il secondo fu quando vide che Don Camillo sopra pensiero sedutosi a tavola si portava la mano alla fronte per segnarsi compagni esplose Peppone quanto avrei pagato perché ci fosse stato con noi poco fa uno degli stramaledetti reazionari che sparlano dell'unione sovietica e mi piacerebbe che fossero qui che vedessero inutile compagno disse Don Camillo che nel frattempo tra lisciatine e spolveratine era riuscito a condurre a termine l'operazione non ci crederebbero essi credono più al loro odio che ai loro occhi la compagna Petrovna tradusse le parole di Don Camillo al funzionario dell'ufficio turistico e l'uomo dopo aver approvato tentennando gravemente la zucca rapata le comunicò qualcosa dice il compagno Oregoff che tu hai parlato molto bene spiegò la donna rivolta a Don Camillo che compiaciuto fece un leggero inchino per ringraziare il compagno Oregoff saltò su lo scamoggio che pareva pagato per far da spalla Don Camillo e osservò noi stiamo indietro di un secolo questi puzzoni di industriali credono di aver creato chissà cosa perché producono qualche trappola di macchina roba che se vedessero una fabbrica come quella di oggi gli varrebbe un colpo secco per la vergogna e non è la più grossa è vero compagna Petrovna no esclamò la donna è una delle minori costruita con concetti modernissimi ma con una produzione insignificante in confronto le altre Don Camillo parve molto rattristato è umiliante per noi italiani disse constatare che una delle fabbriche minori dell'unione sovietica si mangia viva la Fiat che è la nostra maggiore industria motoristica il compagno Peratto torinese che non aveva mai parlato fece udire la sua voce compagno siamo obiettivi nel reparto trattori forse sì ma nel reparto automobilistico la Fiat è uno stabilimento rispettabile non bisogna far torto agli operai che con loro lavoro hanno creato e potenziato la Fiat prima ad ogni altra cosa non bisogna far torto alla verità stabilì Don Camillo la verità è più importante della Fiat e fino a quando noi prigionieri dei nostri complessi nazionalistici o regionalistici ci ostineremo a difendere la nostra inefficienza nel campo sociale organizzativo e industriale non comprenderemo mai la lezione che la grande unione sovietica ha dato al mondo in ogni campo un uomo aveva perfidanzata una donna con una gamba sola ma per lui era la più bella del mondo e giudicava difettose le donne che di gambe ne avevano due noi abbiamo a casa nostra una donna con una gamba sola e si chiama Industria mentre qui l'Industria ne ha due e belle aggiunse lo scamoggia intervenne il compagno rondella non capisco dove tu voglia arrivare disse a Don Camillo che un compagno deve avere l'onestà di riconoscere la verità anche se questa lo addolora e noi siamo venuti nella grande unione sovietica non per fare del sentimentalismo ma per conoscere la verità il funzionario seguiva attentissimo la discussione facendosi tradurre parola per parola Peppone moriva lentamente ma per fortuna portarono da mangiare e siccome tutti avevano una fame maleretta la tensione si allentò la minestra di cavoli era repellente ma andò giù il montone era migliore e fece dimenticare la minestra l'unione sovietica aveva fatto le cose in grande e arrivò anche del vino assieme al vino arrivarono i guai si tornò a parlare della fabbrica di trattori e il compagno operato per rimediare la sua imprudente osservazione circa la Fiat fece notare a Don Camillo la genialità di un certo dispositivo che aveva notato nella catena di montaggio certo asserì Don Camillo il popolo russo è soprattutto un popolo geniale geniale non solo perché ha inventato cose enormi come la radio e il veicolo interplanetario ma geniale anche nelle cose piccole minute guarda nel lavabo delle nostre stanze i due rubinetti uno per l'acqua calda e l'altro per la fredda non sono isolati ma uniti con una canna miscelatrice che ti permette di ottenere acqua tiepida alla gradazione che tu preferisci è una cosa da poco ma la trovi solo qui rondella il milanese faceva l'idraulico e si ribellò compagno non diciamo sciocchezze gruppi col miscelatore li montava mio nonno ma da dove vieni? da una regione che ha il più alto numero di comunisti e quindi è civile e progredita d'altra parte se è una sciocchezza sono in autorevole compagnia perché Churchill ha scritto la stessa mia osservazione nelle sue memorie non potrei dire che Churchill sia filo comunista rondella aveva idee chiarissime e non mollò me ne infischio di Churchill io dico che queste esagerazioni sono dannose alla causa perché fanno il gioco degli avversari se la verità è la cosa più importante bisogna rendere omaggio alla verità Don Camillo si tolse gli occhiali affumicati li ripoli li rimise sul naso e poi fece cadere nel silenzio queste gravi parole la verità c'è una sola verità ed è quella che collima con gli interessi del popolo lavoratore compagno tu credi più ai tuoi occhi che al tuo cervello e il tuo cervello non può ragionare perché troppi sedimenti borghesi ne impediscono il giusto funzionamento il rondella perdette la calma il tuo cervello è pieno di semi di zucca inoltre sei una carogna che mi sta seccando l'anima fin dal primo giorno che ci siamo visti quando torneremo in Italia ti pesterò il muso io non ho la tua pazienza disse calmo don camillo alzandosi in piedi e girando attorno alla tavola e te lo pesterò qui fu cosa di pochi secondi il rondella si rizzò di scatto sparò un cazzotto e don camillo gli spiedì un diretto che lo rimise a sedere il funzionario parlò con l'interprete e la ragazza riferì a Peppone allora Peppone si alzò e tirato su dalla sedia il rondella lo portò fuori a prendere aria compagno gli spiegò quando il disgraziato fu in grado di connettere il commissario ha notato che sei nervoso e quest'aria non ti giova fra un'ora un aereo parte per Berlino la è tutto predisposto per il tuo immediato rientro in Italia vado sì gridò rondella e non immagini neanche la gioia che proverò non vedendo più le vostre facce stai tranquillo ci rivedremo in Italia il rondella cavò di tasca il portafogli ne estrasse la tessera del PC che fece a pezzi gridando con ferocia sì ci incontreremo ma io sarò sull'altra riva Peppone dovette spedirgli un calcio nel sedere ma lo fece con profondo rincrescimento rientrò sorridendo tutto sistemato spiegò a Nadia molto grado delle premure del compagno Oregoff e lo ringrazia poi levò il bicchiere e propose un brindisi alla salute della vittoriosa Unione Sovietica il compagno Oregoff rispose con un brindisi alla pace e alla prossima liberazione dei lavoratori italiani oppressi dal capitalismo Adesso facciamo un brindisi a Nadia disse scamoggia a Don Camillo Compagno lo consigliò fraternamente Don Camillo non bisogna strafare tutto finì meravigliosamente bene e dopo un'ora mentre l'ex compagno rondella volava verso Berlino con la testa confusa e il sedere in fiamme Peppone e Don Camillo entravano nella loro stanza spegni la luce compagno disse Don Camillo appena ci saremo spogliati e ci saremo messi a letto la riaccenderai stupidaggini esclamò Peppone spegnendo la luce stupidaggini un corno un senatore comunista non merita la soddisfazione di vedere un prete in mutande tornata la luce Don Camillo trasse un'agendina e vi tracciò una notazione conversione e ricupero del compagno Walter rondella uno di meno commentò poi allegramente ad alta voce soltanto un prete poteva fare un gioco così infame ruggì Peppone ma un altro tiro non me lo farete Don Camillo sospirò e questo lo può dire soltanto lui disse mostrandogli la sua grossa penna stilografica Peppone lo guardò preoccupato allora Don Camillo tolse il cappuccio dalla grossa penna svitò il coperchietto e tirò fuori dal grosso tubo qualcosa di lungo e stretto che in un istante si trasformò in un piccolo crocefisso signore disse Don Camillo levando gli occhi al cielo perdonate se vi ho fatto le braccia snodabili assieme a quelle della croce ma voi siete la mia bandiera e non avevo altro modo per portarvi sempre con me sul mio cuore amen ruggì Peppone ficcando la testa sotto le lenzuola 5 riposo in branda l'aereo l'aereo sul quale egli viaggiava assieme al farmacista stava compiendo una scivolata d'ala da togliere il respiro e Peppone si domandò perplesso cosa centrasse quella roba in latino ripensandoci non riusciva a capire neppure come mai quell'odioso reazionario del farmacista si trovasse lì di fronte a lui sull'apparecchio che lo portava in Russia ma dovette lasciare la questione in sospeso perché la singolare interferenza si ripeteva Peppone sollevò faticosamente una palpebra che pesava mezza tonnellata lentamente mise a fuoco un pezzetto di muro coperto da una stinta tapezzeria poi un cartello penzolante di un chiodo infisso nel pezzo di un muro si accorse che sul cartello c'era qualcosa stampato in caratteri cirillici et vocabis nomen eius jesum i cherit magnus et filius altissimi vocabitur Peppone spalancò anche l'altro occhio si rigirò di colpo nel letto e si sentì mancare il fiato trasformato in altare il tavolinetto che l'amministrazione degli alberghi sovietici di stato aveva concesso in dotazione alla stanza il compagno tarocci camillo stava celebrando la messa e in quel preciso istante leggeva sul libretto rosso delle massime di lenin la sequenzia sancti evangelii secundum lucam Peppone saltò giù dal letto e andò a incollare l'orecchio alla porta aveva il cuore imballato e per un momento gli parve che l'unica cosa da farsi fosse quella di buttare un panno del letto in testa a Don Camillo poi ci ripensò e si mise a trafficare per la stanza cercando di fare il maggior fracasso possibile e avrebbe continuato chissà quanto se un dannato campanellino non si fosse messo a squillare in mezzo alla confusione del suo cervello non voleva sentirlo ma dovete dargli retta e quando Don Camillo levò l'umile bicchierino d'alluminio che fungeva da calice Peppone smise di agitarsi e abbassò il capo si udirono in quel momento passi pesanti nel corridoio ma Peppone non si mosse strinse i denti e disse fra sé succeda quel che Dio vuole successe soltanto che i passi si fermarono davanti alla porta e qualcuno bussò e borbottò in pessimo italiano Sveglia accompagnio Peppone rispose con un mogito e l'altro si allontanò per andare a bussare alla porta vicina Ite missa est disse al fine Don Camillo Basta ansimò Peppone che grondava a sudore La benedizione tenetela per voi Signore sussurrò Don Camillo inchinandosi davanti al piccolo Cristo crocefisso cui la bottiglia dell'acqua faceva da piedistallo Perdonatelo la sua paura è più forte della sua ragione Mi piacerebbe sapere che cosa avete provato voi quando hanno bussato alla porta e ruggì Peppone Qualcuno ha bussato? Si stupì Don Camillo Non ho sentito Peppone non insistette perché capiva che Don Camillo era sincero e poi era stanco e aveva una voglia matta di rimettersi a letto per dormire magari per riprendere il suo viaggio in aereo assieme a quell'odioso farmacista Voi siete belle pronto e adesso che avete rimesso a posto i vostri arnesi potete anche togliervi dai piedi e lasciarmi rivestire in pace esclamò Peppone con malgarbo Compagno gli rispose serio Don Camillo ti vedo nervoso forse l'aria dell'unione sovietica non ti giova Non mi giovate voi urlò Peppone spingendolo fuori dalla porta e allora si accorse di qualcosa d'orrendo la porta non era chiusa a chiave il tizio che era venuto a bussare avrebbe potuto aprirla semplicemente girando la maniglia La compagna Annadie Petrovna li aspettava nella saletta dove era stata apparecchiata la tavola per la colazione e appena ci furono tutti spiegò Possiamo prendere posto il compagno Oregov si farà aspettare un po' La compagna Petrovna aveva quella mattina la più discostante grinta da funzionario statale parlava con voce impersonale senza guardare in faccia nessuno impassibile rigida come se fosse di ghiaccio sedendosi a tavola non fece un movimento che non fosse strettamente necessario ridusse la colazione a una semplice tazza di tè sorbita a piccoli sorsi come per semplice e dovere d'ufficio dava insomma l'idea di essere avvolta da una invisibile quanto impenetrabile corazza disgraziatamente da qualche giuntura della corazza usciva un leggero e fresco profumino che guastava tutto l'effetto Nadia Petrovna dimenticando di essere un funzionario di stato si era spruzzata addosso un goccio della lavanda regalatale dal compagno Nanni Scamoggia il compagno Scamoggia era dislocato lontano dalla compagna Nadia ma aveva buon naso e se ne accorse il compagno Yenka Oregov arrivò alla fine della colazione era molto preoccupato accennò a un saluto poi si apportò in un angolo a parlare con la compagna Petrovna fu una discussione lunga e animata nel corso della quale venne ripetutamente consultato un foglio con timbri che il compagno Oregov si era portato nella borsa quando parve che i due avessero concordata una linea di azione la compagna Petrovna si rivolse a Peppone e spiegò il compagno Yenka Oregov ha ricevuto dall'organo turistico competente il programma preciso delle giornate che i graditi ospiti italiani trascorreranno nell'Unione Sovietica questa mattina alle ore 9 i compagni italiani visiteranno la fabbrica di trattori Stella Ros Peppone la guardò stupito compagna obiettò se non sbaglio la fabbrica Stella Rossa l'abbiamo già visitata ieri nel pomeriggio appena arrivati la compagna Petrovna confabulò col compagno Oregov il programma ricevuto questa mattina dal compagno Yenka Oregov comunicò in seguito a Peppone la compagna Petrovna mostrandogli il foglio stabilisce senza possibilità di equivoco che i compagni italiani dedicato il pomeriggio di ieri a riposo dal lungo viaggio dedichino questa mattina alla visita della fabbrica Stella Rossa il programma precedente è annullato dal nuovo e perciò anche la visita di ieri deve ritenersi non avvenuta Peppone non seppe far altro che allargare le braccia e la compagna Petrovna si volse ancora discutere col compagno Oregov poi riferì il risultato della discussione il compagno commissario del turismo non può modificare il programma che prevede la visita alla città solo oggi nel pomeriggio non pretende che i compagni italiani visitino per la seconda volta la fabbrica li prega di considerare questa mattinata come di riposo da trascorrere nei locali dell'albergo avevano tutti sonno perché il viaggio era stato lungo duro e noioso e si mostrarono soddisfatti della brillante soluzione il compagno Ienka si reca la fabbrica Stella Rossa per aggiornare la relazione della visita aggiunse la compagna Petrovna io rimango a vostra disposizione in quella saletta buon riposo compagni se ne andò a insediarsi nello scassato divano della saletta attraverso la quale doveva obbligatoriamente passare chiunque entrasse in albergo o ne uscisse camminava altera e gelida ma lasciando dietro di sé una sottile scia di lavanda Don Camillo appena entrato nella sua cameretta si tolse le scarpe e si buttò sul letto ancora disfatto ma proprio mentre stava per assopirsi Peppone incominciò ad agitarsi e a borbottare quando sul treno si era fatta la barba aveva dimenticato il rasoio nella toletta pigliati il mio e smettila di infastidire il prossimo gli gridò Don Camillo io uso soltanto il mio rasoio rispose Peppone oltre al resto non sono capace di radermi col rasoio a mano libera allora scendi fatti cambiare in rubli un po' delle lire che ci rubi come senatore e va a comprare una macchinetta il magazzino universale di fronte all'albergo stai attento nell'attraversare la strada perché c'è un maledetto traffico di automobili l'unica automobile che avevano visto in città era il torpedo nel sul quale avevano viaggiato e Peppone si secò arriveranno compagno reverendo noi non abbiamo fretta per il momento ci basta fare delle macchine che arrivano fin sulla luna poi penseremo agli automobili comprami per favore un paio di calze di lana lo pregò Don Camillo in quarant'anni di regime almeno un paio devono averlo fabbricato Peppone uscì sbatacchiando la porta si trattava del capo e la compagna Petrovna fu molto gentile il compagno direttore dell'albergo turistico da lei interpellato accettò di cambiare il bigliettone di Peppone in un pacchetto di rubli e Peppone partì sicuro anche perché la compagna Nadie aveva spinto la sua cortesia fino a scrivergli su un foglio un rasoio di sicurezza con dieci lamette un paio di calze di lana da uomo taglia terza il magazzino universale era lì a due passi e l'operazione fu fulminea in quanto la compagna venditrice letto il foglietto mise in mano a Peppone la merce richiesta e gli comunicò per iscritto quanto costasse però rientrando nella sua camera Peppone non pareva soddisfatto come avrebbe logicamente dovuto essere buttò le calze sul letto e Don Camillo le afferrò al volo e le guardò con piaciuto belle disse calze come queste da noi non ce le sogniamo nemmeno anche l'idea di farne una più lunga e una più corta è intelligentissima non esiste infatti nessun uomo che abbia i due piedi perfettamente identici quanto costano dieci rubli borbotò Peppone che stava armeggiando attorno alla macchinetta a quanto ti hanno messo il rublo non lo so ruggì Peppone so che per diecimila lire mi hanno dato settanta rubli Don Camillo fece il conto circa centocinquanta lire come il franco svizzero e il rasoio nove cinque per nove quarantacinque nove per uno nove quattro tredici circa mille trecento lire il rasoio e mille quattrocentocinquanta le calze Peppone si insaponava furiosamente e non fece commenti quanto costa da noi un rasoio come quello insistè perfidamente duecento lire ammise Peppone a denti stretti duecento lire con dieci lame un rasoio americano comprato all'upim non è possibile ci deve essere un errore no compagno nessun errore intanto all'upim si trattava di una vendita di propaganda cosa che qui non si fa perché grazie al comunismo negozi e fabbriche sono di stato e lo stato non deve battere nessuna concorrenza secondariamente quelli dell'upim sono rasoi americani mentre questo è un rasoio sovietico che è tutt'altra roba terzo mentre il rublo ha un valore di quaranta lire circa ai turisti lo fanno pagare giustamente centocinquanta il comunismo non ha mica lavorato quarant'anni per organizzare la pacchia a favore dei turisti stranieri il tuo rasoio al cittadino sovietico lo viene a pagare solo trecentocinquanta lire Peppone aveva incominciato a radersi smise si insaponò ancora cambiò la lametta e riprese a raschiarsi la faccia Don Camillo lo osservava con crudeltà e sentendosi osservato Peppone resisteva cocciuto ma alla fine non ce la fece più disse ad alta voce una gran brutta parola e buttò contro il muro il compagno rasoio tu sei un compagno di poca fede gli disse con voce grave Don Camillo Peppone con la faccia insaponata lo guardò con odio allora Don Camillo ebbe pietà di lui e tolta lassù da terra frugò nella sua valigia cavandone qualcosa che porse a Peppone è forse tuo questo disgustoso rasoio americano che ho trovato in giro gli domandò Peppone glielo strappò di mano vado sempre più convincendomi che uccidere un prete non è peccato disse con perfetta convinzione intanto la compagna Petrovna che continuava a far la guardia alla porta a un bel momento si trovò davanti il compagno Scamoggia non gli lasciò neppure il tempo di aprire quella sua odiosa bocca il compagno Yenke Oregov gli disse con voce dura vi ha pregato di considerare la mattinata come di riposo in albergo non è corretto da parte vostra cercare di uscire io non cerco di uscire spiegò Scamoggia io vorrei passare la mattinata di riposo seduto lì la compagna Petrovna lo squadrò curiosamente io non capisco com'è con tanto posto che c'è nell'albergo voi vogliate proprio riposarvi qui sul mio divano compagna adesso si dà del voi ai compagni no si dà del voi ai borghesi io non sono un borghese protestò lo Scamoggia certi atteggiamenti sono della peggior marca borghese posso aver sbagliato compagna ma se tu mi aiuti io sono pronto a fare un'onesta autocritica la compagna Petrovna fu toccata dal tono sincero delle parole dello Scamoggia puoi sederti compagno gli concesse senza abbandonare il suo cipiglio parlami di te mi chiamo Nanni Scamoggia ho 28 anni sono membro del partito sono comunista sin dal giorno in cui ho avuto l'uso della ragione lavoro e ho una piccola officina di scooterista cosa sarebbe? riparo gli scooters e li commercio vedendola perplessa trasse di tasca una foto sulla quale si vedeva uno Scamoggia bullissimo e fustissimo in tutta candida a cavalcione di una vespa questi sarebbero gli scooters spiegò è il mezzo più popolare di trasporto interessante stabilì la compagna Nadia Petrovna qual è la posizione dei tuoi familiari rispetto al partito? mio padre è iscritto dalla scissione di Livorno 1922 se non erro osservò la Petrovna esatto mia madre è morta mia sorella è capocellula dell'Udi e tua moglie? lo Scamoggia ridacchiò compagna ti pare che io sono il tipo da aver moglie? la Petrovna lo guardò severamente alla tua età una donna ci vuole e perché dovrei prendermene una sola come moglie quando posso averne tante gratis istintivamente la compagna Petrovna si scostò quanto tu hai detto stabilì dimostra che possiedi una mentalità borghese sono i borghesi sfruttatori che giudicano le donne alla stregua di semplice passatempo la donna ha diritti dignità e funzioni pari a quelli dell'uomo almeno nella società socialista compagna non mi sono espresso bene protestò lo Scamoggia io parlavo solo della ristretta categoria di donne che odiando il lavoro e non avendo nessuna fede politica o sociale rinunciano alla loro dignità e quindi ai loro diritti comprendo lo interruppe la compagna Nadie ciò non toglie che il compagno giunto a una rispettabile età debba formarsi una famiglia in modo da collaborare validamente alla formazione delle nuove leve del partito compagna sono d'accordo ma noi viviamo in un mondo diverso dal tuo in un mondo pieno di egoismi e di ipocrisia da noi comandano i preti e la gran parte delle donne schiava dei preti e bisogna stare attenti perché molte di esse sono agenti provocatrici non conosci nessuna compagna di sicura fede lo scamoggia spalancò le braccia sì parecchie però insomma capisco che è una debolezza ma non me ne piace nessuna mi pare impossibile compagna neppure una e qualcuna ci sarebbe ma è già sposata la compagna Petrovna meditò qualche istante poi concluse è una situazione difficile compagno e tu l'affronti con insufficiente serietà compagna confessò lo scamoggia lasciandosi andare gli anni passano ma con tutto quel sole quel cielo azzurro quei fiori quella quella musica quel buon vino che ci son laggiù pare di essere sempre giovani il nostro è un paese benedetto da Dio compagno lo interruppe la Petrovna ma è detto un'eresia non ci sono paesi benedetti o maledetti da Dio Dio non esiste lo so lo so ma sarà forse per tutti quei maledetti preti per tutte quelle chiese per tutti quei tabernacoli laggiù si ha l'illusione che ci sia la compagna Petrovna scosse il capo hai le idee molto confuse disse lo ammetto compagna però potresti dirmelo guardando dalla mia parte non verso la porta non bisognava ripetere l'errore di Stalin non si può parlare un linguaggio che serva ugualmente ai cittadini sovietici o ai cittadini americani gli uomini risentono della latitudine delle abitudini pretendere di aprire tutte le serrature con una stessa chiave è ragionevole questo pensò la compagna Petrovna e si volse verso lo scamoggia compagna perché non parliamo un po' di te le domandò lo scamoggia sono una donna sovietica rispose fieramente la Petrovna cercando di sottrarsi allo sguardo dello scamoggia sono membro del partito e funzionario dell'organizzazione turistica dello stato ho 26 anni e vivo a Mosca sola la Petrovna sospirò no purtroppo rispose abbassando il capo viviamo in tre compagne nella stessa stanza ma non mi lamento figurati se mi lamento io esclamò lo scamoggia la Petrovna sollevò gli occhi e lo guardò stupito cosa intendi dire? sul momento avevo creduto che tu vivessi assieme a un compagno spiegò lo scamoggia per conto mio insomma è più simpatico che tu viva assieme a due compagne piuttosto che a un solo compagno la Petrovna continuò a guardarlo stupita il tuo è un ragionamento che non ha ferro disse ma mentiva nel modo più spudorato e lo si capì dal pasticcio che combinò quando trovandosi ancora tra le mani la foto del fusto vespista in tuta candida invece di restituirla allo scamoggia la infilò nella borsetta tanto per dire che anche i funzionari sovietici pur essendo stati forgiati nella fucina ardente del socialismo hanno le loro debolezze 6 la cellula spaziale eccettuato Don Camillo tutti gli eletti della squadra di Peppone erano compagni di provata fede anche quel povero rondella che il gioco perfido di Don Camillo aveva eliminato degli otto rimasti il compagno Bacciga pareva quello più solidamente preparato e spesso aveva citato assai a proposito passi importanti dei sacri testi della dottrina comunista ma Bacciga era genovese e come si sa i genovesi prima ad essere ogni altra cosa sono genovesi vale a dire gente pratica con un innato senso degli affari e siccome Don Camillo aveva messo gli occhi su di lui fu proprio questo innato senso degli affari a metterlo in grossi guai il fatto accadde nel pomeriggio della prima giornata ufficiale durante la visita alla città il magazzino universale di stato era a pochi passi dall'albergo e la prima sosta avvenne qui il compagno Yanke Oregov incaricò la compagna Nadia Petrovna di spiegare agli ospiti che ognuno era libero di comprare ciò che voleva e dopo aver opportunamente ricordato che nel 1965 la produzione sovietica di tessuti di lana avrebbe raggiunto gli 8 miliardi di metri e quella delle calzature e i 515 milioni di paia si piantò sulla porta e si preoccupò esclusivamente di impedire che qualcuno tagliasse la corda naturalmente il compagno Scamoggia aveva bisogno di una quantità enorme di raguagli tecnici sull'organizzazione dei magazzini di stato e si appartò con la compagna Petrovna nel reparto degli articoli casalinghi Peppone si appiccicò alle costole di Don Camillo e gli altri si dispersero in giro il bottegone era pieno di donne moltissime indossavano la tuta da operaio o la divisa di tramviere o di portalettere ma tutte dopo aver comprato qualche scatoletta o qualche pacchetto di roba nel reparto alimentari andavano a rimirare con occhi incantati le mostre delle calzature degli abiti della biancheria e degli altri gingilli femminili il vero comunista disse Don Camillo a Peppone si distingue per la sua modestia e per la sua intollerabilità verso le cose superflue quindi i casi sono due o queste donne non sono buone comuniste o le cose che esse stanno guardando con tanto desiderio non sono più considerate superflue dato l'alto tenore di vita raggiunto dall'Unione Sovietica non capisco dove vogliate arrivare borbottò sospettosamente Peppone intendo dire che nell'Unione Sovietica i beni di consumo sono talmente abbondanti che una donna può considerare lecito desiderio quello di togliersi i pantaloni e di vestirsi da donna Peppone non raccolse la provocazione considerato che ti hanno dato tanti rubli in cambio delle tue diecimila lire insiste perfido don Camillo perché non comperi quella sottanina da regalare a tua moglie una sottana di stato confezionata con stoffa di stato e su modello di stato da sarte di stato non può indulgere alla leziosaggine delle sottane prodotte nei paesi capitalisti dalla iniziativa privata e Peppone ribatte fulmineo per una donna è meglio portare una brutta sottana ma essere libera piuttosto che portare una sottana di christian dior ed essere schiava ben detto compagno approvò don Camillo che finalmente aveva ripescato il suo pollo sperdutosi in mezzo alla confusione il compagno Bacciga si era sganciato abilmente dagli altri e stava discutendo con la compagna venditrice del reparto Pelliceria una discussione serrata e completamente muta perché eseguita dai due a suon di cifre scritte dall'uno e poi dall'altra su un blocchetto si misero rapidamente d'accordo e allora il compagno Bacciga incominciò a cavar fuori di sotto la giacchetta piccole buste luccicanti che la venditrice agguantava e faceva sparire sotto il banco con consumata abilità alla fine la venditrice gli incartò una stola di pelliccia e il commercio finì lì Peppone non si era accorto di niente ma Don Camillo aveva visto e capito tutto e adesso aveva una dannata fretta di tornare in albergo tornarono soltanto a sera fatta perché dopo il magazzino di stato visitarono una fabbrica di cuscinetti a sfere e poi l'ospedale e appena entrato in albergo Don Camillo corse subito a rifugiarsi nella sua stanza Peppone preoccupato della sua scomparsa piantava poco dopo la compagnia nella saletta dell'albergo e raggiunto Don Camillo lo trovava seduto per terra intento a consultare degli scartafacci che aveva tolto dalla valigia non bastano le massime di Lenin ruggì Peppone quali altre porcherie vi siete portati dietro Don Camillo non sollevò neppure la testa e continuò a scartabellare i suoi fogli e i suoi libercoli prenditi questo disse a Peppone passandogli una paginetta strappata da qualche rivista imparati a memoria i passi sottolineati in blu Peppone dette una sbirciata al foglio e subito ebbe un sussulto ma questo esclamò è un foglio del quaderno dell'attivista e allora volevi forse che mi portassi dei ritagli dell'osservatore romano Peppone diventò rosso e feroci come la rivoluzione d'ottobre io dico che questo foglio è stato strappato dalla raccolta dei quaderni dell'attivista urlò dalla mia raccolta personale che è nella biblioteca della sezione al paese ecco qui il timbro a secco io voglio sapere in che modo non t'agitare compagno per farmi una cultura comunista non potevo certo rivolgermi alla biblioteca del vescovado Peppone si chinò a controllare foglie e opuscoli sparsi per terra tutta roba mia gridò inorridito ma avete assassinato tutta la biblioteca io basta compagno taglio taglio corto d'un camillo è indegno offrire all'estero il miserabile spettacolo delle nostre piccole questioni personali vedi di mandare a memoria solo i pezzi sottolineati in blu quelli li citerai tu io sfrutterò i passi sottolineati in rosso Peppone lo guardò con occhi sbarrati voi disse ansimando mi state combinando qualche mascalzonata nessuna mascalzonata se non vuoi fare la figura dello stupido manda a memoria i passi che t'ho detto e spicciati perché hai soltanto mezz'ora di tempo va bene rispose Peppone a denti stretti ne parleremo dopo si sedette al tavolino inchiodò gli occhi al foglio e incominciò a imparare la sua lezione si trattava di due soli passi di poche righe ma li avrebbe mandati a memoria anche se fossero stati di una pagina intera tanta era la sua rabbia sentiamo disse alla fine Don Camillo riponendo la sua cartaccia nella valigia compagni ruggì Peppone Lenin ha detto gli estremi non sono buoni in nessuna occasione ma se si dovesse scegliere noi preferiremmo le affermazioni chiare anche se ristrette e insofferenti alla nebulosità morbide e sfuggenti bene questo lo dirai quando io fingerò di non ricordare una certa frase di Lenin l'altro pezzo invece è quando io ti chiederò il parere del partito quale partito che dio vi strafulmini gorgogliò Peppone glorioso partito comunista compagno gli rispose solenne Don Camillo il quale partito come giustamente scritto nel numero 9 di communist esige da tutti i suoi membri che essi che essi anche nella loro condotta personale lo interruppe con violenza Peppone e fu ribondo recitò la filastrocca numero 2 fino all'ultima parola senza mai incepparsi e senza sbagliare una virgola Don Camillo l'ascoltò con punto e alla fine gli disse bravo compagno sono orgoglioso di essere il tuo parroco la cena fu abbondante ed istruttiva perché il compagno commissario spiegò con straordinaria copiosità di dati statistici quali fossero le mete che l'industria sovietica avrebbe raggiunto nel 1965 alla fine dopo i regolari brindisi alla pace alla distensione all'immancabile trionfo finale del comunismo e via discorrendo si alzò Don Camillo compagni disse l'appartenenza al partito impegna ogni comunista a seguire i principi bolscevichi a sviluppare la critica e l'autocritica parlava ad agio scandendo le parole fissando fieramente il compagno Oregov al quale la compagna Petrovna traduceva una per una le parole di Don Camillo di fronte alla coscienza del partito ogni comunista deve soppesare severamente tutti i propri atti appurare se si poteva fare di più e meglio nessun comunista deve temere di dire la verità egli deve pronunciarsi in modo diretto e aperto anche se si tratta di fare apprezzamenti sgradevoli compagni la mia memoria non mi permette di trovare subito la parola di Lenin a tal proposito Lenin Don Camillo simulò un grande travaglio interno e allora Peppone intervenne non t'affaticare compagno Lenin scrisse gli estremi non sono buoni in nessuna occasione ma se si dovesse scegliere noi preferiremmo le affermazioni chiare anche se ristrette e insofferenti alle nebulosità morbide e sfuggenti il compagno Yenka Oregov informato diligentissimamente dalla Petrovna si volse verso Peppone e gli tributò un sorriso di viva approvazione grazie compagno continuò Don Camillo riagganciando gli occhi del commissario dopo questa premessa mi ritengo autorizzato a parlare con chiarezza lo spiacevole incidente accaduto ieri al compagno Rondella mi ha indotto a ricordare il comma quinto dello statuto del partito là dove è detto ogni iscritto al partito comunista ha diritto di essere in caso di mancanza disciplinare giudicato da un organismo regolare di partito e di potere in ogni caso fare l'appello all'assemblea della sua organizzazione nonché alle sue istanze superiori ora io dico se qualcuno di noi che facciamo parte del gruppo condotto dal compagno senatore Bottazzi commettesse una mancanza disciplinare quale organismo regolare di partito lo potrebbe giudicare il compagno senatore qui rappresenta il partito e provvederebbe a denunciare il responsabile della mancanza alla federazione alla sezione alla cellula a cui appartiene il responsabile ma da poi che gli atti censurabili commessi qui in terra sovietica sono strettamente legati alla vita sovietica o a situazioni particolarissime contingenti saranno in grado questi organismi di giudicare con perfetta serenità e cognizione di causa l'operato del compagno censurato no io dico il compagno che ha sbagliato qui deve essere giudicato subito qui e da poi che qui noi non siamo inquadrati in nessun organismo regolare di partito in conformità all'articolo 10 dello statuto e al suo spirito ritengo sia nostro diritto e dovere costituirci in cellula la compagna Petrovna tradusse puntualmente al compagno che però non si espresse e rimase imperturbabile a guardare Don Camillo compagni continuò Don Camillo voi mi guardate stupiti e vi domandate quale tipo di cellula quella di lavoro no perché non lavoriamo qui quella territoriale no perché non abitiamo qui compagni io potrei rispondervi che non siamo venuti nell'unione sovietica per divertirci ma per imparare e poi insegnare e questo è lavoro importante lavoro potrei rispondervi che se non risediamo fisicamente qui in terra sovietica la unione sovietica è la nostra grande patria e spiritualmente risediamo qui invece lasciate che io vi apra sinceramente il mio cuore Don Camillo era visibilmente e spudoratamente commosso e tutti l'ascoltavano con la massima attenzione compagni noi siamo un impercettibile puntolino che ad un tratto si è staccato da un vecchio decrepito pianeta ed è giunto a toccare un mondo nuovo meravigliosamente giovane noi siamo l'esiguo equipaggio dell'aeronave che ha abbandonato il putrido mondo capitalista ed ora naviga a bassa quota sulle terre fascinose del mondo del socialismo per scoprirne la stupenda realtà quell'esiguo equipaggio che è composto non di individui isolati ma di uomini uniti di una sola idea da un'unica fede da un'unica disperata volontà l'edificazione del mondo comunista compagni lasciatemelo dire non cellula di lavoro non cellula territoriale ma cellula spaziale cellula interplanetaria perché il mondo dal quale noi proveniamo il mondo fradicio del capitalismo è distante dal mondo sano e generoso del socialismo assai più di quanto non si allontana la terra dalla luna e perciò io propongo la costituzione in cellula del nostro gruppo e propongo di intitolarla al nome di colui che riassume in sé il desiderio di pace di progresso di civiltà e di benessere del grande popolo sovietico Nikita Khrushchev il compagno commissario pallido per l'emozione si alzò fra lo scrosciare degli applausi e continuò dieci minuti a stringere la mano a Don Camillo tramite la Petrovna Peppone parlò un poco col compagno quindi disse il nome del partito comunista italiano e in perfetto accordo col rappresentante del partito comunista sovietico autorizzo la costituzione della cellula Nikita Khrushchev l'assemblea dei nove si riunì immediatamente cosa che fu assai facilitata dal fatto che erano già tutti seduti alla stessa tavola e in base all'articolo 28 dello statuto procedette all'elezione del comitato direttivo di cellula segretario politico risultò il compagno Tarocci Camillo segretario di organizzazione risultò il compagno Scamoggia Nanni amministratore il compagno Peratto Vittorio solo mentre assieme agli altri levava il bicchiere per brindare al comitato direttivo della nuova cellula spaziale Peppone si accorse che il compagno capocellula era Don Camillo e quando beve il vino gli andò di traverso Compagni annunciò con voce grave Don Camillo vi ringrazio della fiducia che mi avete accordato e farò di tutto per meritarla per questo propongo che la cellula inizi immediatamente la propria attività Qualcuno ha argomenti da proporre nessuno aveva da proporre niente Ne propongo uno io disse Don Camillo mentre Peppone incominciava a soffrire tremendamente Compagni disse Don Camillo il comunista che ha paura della verità non è un comunista il partito educa i comunisti in uno spirito di intransigenza verso le deficienze in uno spirito di sana insoddisfazione per i risultati conseguiti Il membro del partito che non è capace di vedere le cose in modo critico che non è esigente nei propri confronti e nei confronti degli altri non può essere esempio ai senza partito non può essere un loro autentico dirigente Compagni nell'articolo 9 dello statuto fra i doveri dell'iscritto al partito c'è quello di avere una vita privata onesta esemplare Compagno Bacciga ammetti di aver comprato oggi al magazzino di stato una stola di pelliccia Il compagno Bacciga diventò smorto Sì rispose dopo qualche istante d'esitazione il compagno il compagno Orkoff ci aveva autorizzati a comprare ciò che volevamo esatto ammetti di aver pagato quella stola non con denaro ma con calze di nylon femminili che ti è riportato con te dall'Italia se non lo ammetti sei un bugiardo se lo ammetti sei un alimentatore di quel mercato nero che ostacola i piani dell'industria sovietica e perciò sei da considerare un sabotatore nell'un caso o nell'altro la tua vita privata non è né onesta né esemplare questa è la mia accusa l'assemblea ascolterà la tua difesa il compagno Bacciga stentava a riprendere fiato e intanto la compagna Nadia Petrovna informava dettagliatamente il compagno commissario le ragioni addotte dal compagno Bacciga furono trovate quanto mai insoddisfacenti aveva contrabandato mercanzia frodando la dogana sovietica e aveva esitanto la merce al mercato nero danneggiato l'economia sovietica in più aveva tradito la fiducia dei compagni sovietici al cospetto di un compagno commissario che pareva Robespierre il compagno Bacciga fu costretto a fare un'autocritica spietata che tu abbia lealmente riconosciuto il tuo torto concluse Don Camillo e cosa onorevole ma non basta perché la questione sia risolta chiedo a tal proposito l'autorevole parere del partito Peppone fece la grinta scura il partito disse facendo cadere le parole dall'alto esige da tutti i suoi membri che essi anche nella loro condotta personale siano un esempio morale per gli altri il partito non può essere indifferente verso quei comunisti che con la loro condotta indegna compromettono il suo prestigio lo compromettono moralmente il comunista ispirandosi al marxismo leninismo collega strettamente la sua vita personale con l'attività del partito le sue aspirazioni coincidono pienamente con le aspirazioni del partito il vero comunista si distingue per la sua modestia e per la sua intollerabilità verso le cose superflue le organizzazioni di partito svolgono il loro lavoro di educazione e correggono quei comunisti che a danno del dovere sociale cominciano a concentrare i loro pensieri principalmente sulle questioni del loro benessere personale cominciano a coprirsi di muffa muffa piccolo borghese così parlò Peppone e recitò la sua lezione perfettamente tanto che il compagno Oregoff lo guardò con palese ammirazione e gli sorrise per la seconda volta l'autocritica non paga il crimine continuò sentito il parere del partito Don Camillo anche i preti che pure rappresentano l'ipocrisia e la disonestà fatta persona intimano al penitente che confessa un furto la restituzione del maltolto Peppone che stava schiumando per la rabbia salto su compagno tu non riconosci i preti essi cercano di fare a mezzo colladro parlavo in linea teorica precisò Don Camillo ciò che ha illegalmente acquistato il compagno Bacciga è da considerare robato l'assemblea discusse poi il compagno Scamoggia avanzò una proposta il maltolto venga restituito all'unione sovietica il compagno Bacciga faccia omaggio della stola alla compagna Nadia Petrovna nacquero discussioni animate che furono troncate dalla compagna Petrovna ringrazio del gentile pensiero che però risento un po' di quella muffa piccolo borghese di cui parlava il vostro capo ho detto al compagno Oregov che voi avete proposto di offrire a Sonia Oregovna sua moglie la sola divisione che il compagno Bacciga aveva comprato proprio per lei era una soluzione formidabile e l'assemblea la provò per acclamazione e il compagno Bacciga fu costretto a sputare la stola che venne offerta da Peppone al compagno Oregov a nome della cellula spaziale Nikita Khrushchev e il particolare delle calze venne dimenticato ma il Bacciga se lo ricordava e quando Don Camillo prima di chiudere la seduta propose per il compagno Bacciga una sospensione di mesi e sei il Bacciga lo guardò con odio implacabile poi mentre salivano per la scala trovò il modo di avvicinarsi a Don Camillo e di sussurargli compagno nel partito comunista uno di noi due e di troppo in questo caso è meglio che se ne vada quello disonesto gli rispose Don Camillo nella stanzetta prima di spegnere la luce Don Camillo attrasse dalla borsa il famoso notes e scrisse numero due liquidato moralmente il compagno Bacciga Peppone si protese fuori dal letto e gli strappò di mano il libretto lesse l'annotazione poi gli lo ributtò preparatevi a scrivere numero tre liquidato il sottoscritto dal compagno Peppone Don Camillo lo guardò con alterigia compagno gli disse tu dimentichi che stai parlando con un dirigente non è mica facile liquidare un dirigente del partito comunista si vede che non conoscete il partito comunista ghignò feroce Peppone ficcando la testa sotto le lenzuola 7 Politica da viaggio Compagno tu hai un ruolino di marcia Peppone che stava facendosi la barba si volse corucciato verso Don Camillo Affari miei rispose con malgarbo Affari nostri replicò Don Camillo Come capocellula ho il dovere di conoscere i miei uomini Voi avete un solo dovere disse Peppone Quello d'andare all'inferno assieme alla vostra stramaledetta cellula Don Camillo volse gli occhi in su Signore esclamò Avete sentito di tutte le cellule comuniste dell'universo questa è l'unica che abbia un cappellano e lui la chiama stramaledetta Tutto è relativo a questo mondo e anche un rasoio di sicurezza a usarlo come fosse una zappa può diventare il più mal sicuro degli arnesi Peppone lo usò appunto come se dovesse zapparsi il mento e il mento di Peppone si scucì D'altra parte come poteva controllarsi un senatore comunista ricordando improvvisamente d'aver rimorchiato fin lì nel cuore della Russia sovietica un prete travestito da compagno di sicura fede ed aver permesso allo stesso diabolico emissario del Vaticano di diventare capucellula Mentre ruggendo Peppone armeggiava per tamponarsi il mento Don Camillo con bel garbo rimetteva dentro la valigia di Peppone il tacquino che aveva diligentemente consultato concludendo compagno se il ruolino di marcia è affare tuo personale facciamo conto che non esista però non prendertela con me se commetterò qualche gaff lo scamoggia venne ad avvertire che il torpedone aspettava la porta dell'albergo era una grigia mattina d'autunno nelle strade spopolate donne infagottate in abiti da lavoro maschili lavavano e spazzavano l'asfalto donne in pantaloni manovravano i vecchi tramvai scalcinati altre donne in tuta bitumavano una piazzetta e donne con brache impolverate lavoravano come manovali in un edificio in costruzione davanti a un gastronom una lunga coda di donne queste però in abiti assai modesti ma decisamente femminili don camillo si protese verso peppone e gli sussurrò all'orecchio qui le donne non solo hanno gli stessi diritti degli uomini ma hanno anche gli stessi diritti delle donne peppone non lo degnò ad uno sguardo don camillo e peppone occupavano gli ultimi sedili del carrozzone il compagno oregov e la compagna petrovna i due primi subito dietro l'autista gli otto eletti erano sistemati nei rimanenti seggiolini a destra e a sinistra del corridoietto centrale questa dislocazione permetteva alla compagna petrovna di dominare tutta l'assemblea quando alzandosi in piedi e volgendosi traduceva le comunicazioni del compagno oregov e permetteva altresì al compagno don camillo di farsi intendere parlando a mezza voce da peppone e dai compagni tavane e scamoggia seduti rispettivamente davanti a lui e a peppone senza che gli altri e l'interprete potessero udire le sue parole particolare assai importante perché don camillo liquidato definitivamente il compagno rondella e minata alla base la fede del compagno bacica aveva ora messo gli occhi sul compagno tavana tavana antonio anni 42 nato e residente a pranovo veneto iscritto al partito dal 1943 mezzadro attivissimo abile tenace fidatissimo da impiegare esclusivamente nell'ambiente contadino data la sua visione limitata dei problemi sociali ed economici padre socialista la sua famiglia conduce a mezzadria da 150 anni lo stesso podere agricoltore abile e laboriosissimo questo stava scritto sul ruolino di marcia e Don Camillo attendeva al varco il compagno mezzadro unico contadino fra gli eletti abbandonata la città ecco la campagna triste e sconfinata la strada ora era stretta e fangosa stiamo attraversando il soft coast bandiera rossa spiegò la compagna Petrovna uno dei primi sorti dopo la rivoluzione d'ottobre ha un'estensione totale di 16.000 ettari di cui 6.000 arativi è equipaggiato con 54 trottori 15 mietitrebbia 15 autocarri gli operai annualmente addetti alla produzione sono 370 le grandi aziende di stato che vanno sotto il nome di soft coast sono oggi più di 6.000 con 4 milioni di bovini 6 di suini e 12 di ovini come sbucando dalla terra apparve un lontano abitato piccole case sparse attorno ad alcuni smisurati cappannoni col tetto coperto di lamiera ondulata granai magazzini stalle officine il carrozzone continuava a beccheggiare nella stradetta fangosa si incominciarono a vedere in giro abbandonati nell'umida terra arata massicci trattori cingolati incrostati di fango e di ruggine quando il gruppo di edifici fu più vicino si videro altri trattori autocarri e macchine agricole d'ogni genere piantati là all'acqua e al sole nei grandi spiazzi davanti ai capannoni don camillo sospirò quattro milioni di vacche disse a peppone certo è un bel mucchio rispose peppone più i 27 milioni dei colcos fanno 31 milioni di capi una cosa colossale si entusiasmò peppone alla fine del 1960 saranno 40 milioni incalzò perfido don camillo però per il momento sono ancora 2 milioni e 200 mila capi meno del patrimonio bovino esistente nel 1928 prima della collettivizzazione peppone guardò perplesso don camillo compagno l'unione sovietica è l'unico paese al mondo dove si sa tutto dove si dicono pubblicamente le cose che vanno e quelle che non vanno spiegò don camillo queste sono le statistiche ufficiali e così si deve dolorosamente concludere che nell'unione sovietica mentre l'industria la scienza e tutto il resto hanno fatto passi da gigante nel settore agricolo si lotta duramente ancora e si sono dovuti dissodare 13 milioni di ettari di terre vergini siberiane con l'aiuto degli operai volontari di Mosca di Kiev eccetera don camillo allargò le braccia poi dopo aver sbirciato le orecchie del compagno mezzadro seduto davanti a lui sparò il colpo vigliacco compagno confidò a peppone tu hai visto in che stato sono quei trattori e potrai giudicare se sbaglio io ti dico che il guaio è uno solo tutto il mondo è paese e i contadini sono sempre contadini guarda da noi chi sono i più duri a smuoversi i contadini sì i braccianti agricoli si muovono lottano ma sono operai operai dell'agricoltura ma operai prova a portare in piazza degli affettuari o dei mezzatri provati a fargli capire gli interessi della categoria e della causa proletaria le orecchie del compagno tavan erano dritte e non perdevano una sillaba e adesso guarda qui continuò spietato don camillo chi sono i più duri quelli che rallentano la marcia di tutto il paese i colcosiani che se ne infischiano della terra della cooperativa e pensano soltanto a cavar fuori roba da quella biolca o biolca e mezzo di terra che lo stato ha loro generosamente regalato compagno 80.000 sono i colcos e 6.000 i sovcos ma le vacche di proprietà privata dei colcosiani sono 17 milioni mentre fra colcos e sovcos essi arrivano solo a 14 milioni bisogna toglierglielo quel pezzetto di terra non se lo meritano e glielo toglieranno le orecchie del compagno Tavan stavano assumendo un'intensa colorazione rossa guarda da noi insistè Don Camillo chi alimentava la borsa nera durante la guerra i contadini e chi alimenta qui il mercato nero i colcosiani dove è da noi che i preti hanno ancora maggior presa fra i contadini e nell'unione sovietica perché i preti riescono a sopravvivere ancora ritardando il cammino del progresso perché sono sostenuti dai rubli dei colcosiani le orecchie del compagno Tavan avevano raggiunto quel rosso ciliegia che già infiammava il viso di Peppone compagno concluse spietato Don Camillo in un paese che ha conquistato in ogni campo il primato mondiale che è riuscito ad arrivare fino alla luna chi è rimasto chiuso nel suo gretto egoismo e insidia il comunismo il colcosiano il contadino brutta razza i contadini ben detto compagno approvò lo scamoggia voltando la testa mi fanno ridere quelli che vogliono dare la terra ai contadini sì gli diamo la terra e loro cosa fanno ci affamano la terra è roba di tutti e deve andare a tutti la terra ha lo stato comunista e i contadini devono essere trattati come gli operai il contadino siccome zappa la terra deve avere il frumento il latte e i polli è l'operaio che fabbrica le automobili perché non dovrebbe avere la macchina del resto il fascismo chi ce l'ha regalato i contadini la camicia nera non era forse la tenuta di lavoro dei vostri contadini emiliani e romagnoli guardala quell'impunito come assassina quel trattore effettivamente il trattorista che manovrava il cingolato lì vicino alla strada faceva rapprividire però ad onor del vero non si trattava di un contadino ma di un operaio specializzato delle MTS comunque era arrivato come il cacio sui maccheroni e se non aiutava molto la realizzazione del sesto piano quinquennale aiutava la realizzazione dei piani di Don Camillo Burino gli gridò lo scamoggia mentre il carrozzone passava vicino al cingolato ma il compagno Burino lo credette un saluto e rispose agitando il braccio e sorridendo stupidamente le orecchie del compagno Tavane erano diventate pallide Peppone scrisse qualcosa su un pezzetto di carta e lo passò a Don Camillo spiegando compagno vedi di tenerne conto per la relazione va bene compagno rispose Don Camillo dopo aver preso visione dell'appunto che diceva o la piantate o vi rompo uno stinco il pericolo che lo scamoggia continuasse la polemica anticontadina venne scongiurato dalla compagna Nadia Petrovna che incominciò a parlare acaparrandosi la completa attenzione del compagno scamoggia abbiamo attraversato senza fermarci il soft cost bandiera rossa perché essendo essenzialmente un'azienda cerericola e dato che le semine sono già terminate non avrebbe offerto sufficiente motivo di interesse stiamo ora avviandoci al col cost di Grevinec una cooperativa contadina che lavora a 2000 ettere di terreno e a culture varie e allevamento di bestiame bovino e suino è completamente autonoma e può quindi svolgere senza intrarci il suo piano perché non dipende più dall'MTS ma ha acquistato dall'MTS il macchinario che le necessita ecco compagni qui cominciano le terre del col cost di Grevinec non occorreva dirlo perché pur non cambiando la natura del terreno la faccenda si presentava in modo molto diverso tutto più ordinato più pulito con solchi e dritti campi ben livellati e nei pascoli bestie ben nutrite le case del villaggio di Grevinec erano le normali miserabili catapecchie dei borghi rossi basse col tetto di paglia ma ognuna aveva attorno un pezzetto di terra coltivato con estrema cura con piccolo frutteto e orto e nei recinti annessi ad ogni catapecchia c'erano galline il maialetto e nella stalla la vacca l'unico edificio di una certa mole e di qualche pretesa era quello del soviet rurale col tetto di lamiera ondulata e l'altro molto più modesto della scuola la compagna Petrovna spiegò che il 93% dei kolkos erano elettrificati disgraziatamente quello di Grevinec faceva parte dell'altro 7% per arrivare al villaggio bisognava servirsi di una delle normali strade russe di campagna e così la cellula a volante Nikita Khrushchev giunto il carrozzone a circa un chilometro da Grevinec comunicò al compagno Orgov che tutti avrebbero volentieri continuato a piedi per sgranchirsi le gambe il fango si era indurito e avendo cura di non precipitare dentro le carreggiate profonde un paio di spanne si riusciva a camminare mentre sgambettavano verso il villaggio sopraggiunse un biroccio trascinato da un cavalluccio rustico e sul biroccio c'era un ometto piuttosto rotondo in stivaloni gabbano di cerata con un collo di pelo e un berretto di pelo sulla zucca mentre passava Don Camillo se lo guardò bene ed ebbe come un sussulto compagna domandò alla Petrovna raggiungendola con un balzo chi è quel signore la compagna Nadia si mise a ridere poi spiegò al compagno Oregov perché ridesse e anche il compagno Oregov fece una risatina non hai sbagliato compagno spiegò la Petrovna a Don Camillo quel signore è un pop un prete si stupì lo scamoggia che naturalmente navigava negli immediati paraggi della compagna Petrovna e cosa fa da queste parti viene a portare via un po' di rubli a qualche vecchia rimbambita del Colcos lo scamoggia si eccitò un prete e voi lo lasciate andare in giro a combinare porcherie la Petrovna lo guardò severamente compagno articolo 124 allo scopo di assicurare ai cittadini la libertà di coscienza la chiesa nell'unione sovietica è separata dallo stato e la scuola dalla chiesa la libertà di praticare i culti religiosi e la libertà di propaganda antireligiosa sono riconosciute a tutti i cittadini ma quello non è un cittadino quello è un prete esclamò indignato lo scamoggia la Petrovna rise e naturalmente dovette spiegare al compagno Oregov il perché della sua ilarità suscitando nel compagno Oregov una gran sghignazzata compagno nell'unione sovietica i sacerdoti hanno gli stessi diritti degli altri cittadini purché non facciano propaganda nessuno li molesta se qualcuno vuole il pop se lo paghi e si accomodi lo scamoggia si volse verso Don Camillo compagno avevi ragione tu e io che non vedevo l'ora di arrivare qui per non trovarmi più fra i piedi neanche un prete i preti stabilì Peppone con voce feroce sono la più infame razza che esista sulla terra Noè quando fece salire sull'arca tutte le bestie non voleva portarsi la vipera ma il padre eterno gli gridò Noè e io come potrei fare a vivere senza i preti il compagnore che ho informato dalla Petrovna rise di gusto e la battuta gli piacque tanto che volle prenderne nota sul suo taccuino rise un po' astento anche Don Camillo e portatosi alla pari di Peppone che arrancava in coda gli disse a mezza bocca sei un disonesto compagno la storia che io ti ho raccontato ieri era diversa Noè non voleva portare l'asino e allora Dio gli disse e come potrebbe divertirsi il mondo senza senatori comunisti suona meglio così rispose Peppone però bisognerà che domandi scusa alle vipere vile si bilò Don Camillo te ne approfitti perché sono capocellula camminarono un po' in silenzio poi Peppone salto su io l'avevo visto quell'uomo tutti l'avevamo visto ma nessuno ci aveva fatto caso voi invece avete subito fiutato il prete la voce del sangue però non vi ludete quando comanderemo noi voi non potrete girare né in biroccio né in macchina né a piedi chi è morto non si muove poco male replicò calmo Don Camillo accendendo il suo mezzo toscano il regime comunista chi si muove è morto quindi un morto vale l'altro stavano entrando nel villaggio e scamoggia si volse e gridò a Don Camillo compagno avevi ragione anche quando dicevi che sono i contadini a dare corda ai preti guarda il pop nell'orto d'una delle prime case stava parlando a un gruppo di vecchi e vecchie Don Camillo guardò e guardò anche il compagno Tavan che camminava davanti a lui e le orecchie a parafango del compagno mezzadro diventarono rosse la compagna Nadia scosse il capo compagno disse allo scamoggia non ti agitare si tratta soltanto di pochi vecchi e così dappertutto morti questi quattro vecchi morto anche Dio che vive soltanto nelle loro menti ottenebrate dalla superstizione morto Dio finiti anche i preti l'unione sovietica ha del tempo davanti a sé e può aspettare aveva parlato a voce alta e sentì anche Don Camillo figurati se non può aspettare anche Dio borbottò Don Camillo rivolto verso Peppone che non fece commenti poi siccome il compagno capece salvatore di Napoli trentenne e dagli occhi ardenti era lì a portata di mano esclamò hai sentito compagno capece non ti pare in gamba la compagna ingambissima rispose con sincero entusiasmo il compagno capece mi piace assai Don Camillo si mise a ridere dall'insistenza con la quale continua a guardarti insinuò direi che anche tu devi piacerle assai la compagna Nadia Petrovna non si era mai sognata di guardare intenzionalmente il compagno capece ma il compagno capece prese la cosa maledettamente sul serio compagno voi mi capite rispose allargando le braccia la donna sempre donna rimane poi partì caracollando verso la testa della colonna e la compagna Nadia anche di questo siete capace pur di seminare zizzania ruggì Peppone compagno rispose Don Camillo devo darmi da fare intanto che Dio è ancora vivo domani è troppo tardi 8 agente segreto di Cristo a Grevinec i compagni italiani erano attesi il dirigente del reparto agitazione e propaganda li prelevò all'ingresso del villaggio e li guidò alla sede del soviet rurale dove il primo segretario del comitato distrettuale del partito e il presidente del colcos li accolsero con parole di circostanza che la compagna Nadia Petrovna tradusse puntualmente Peppone rispose recitando il discorsetto che aveva diligentemente mandato a memoria e alla fine del suo dire batte anche lui le mani applaudendo chi l'applaudiva oltre ai pezzi grossi c'era altra gente e si trattava come risultò dalle spiegazioni con le quali la compagna Nadia corredò le presentazioni dei responsabili dei vari settori allevamento bovino allevamento suino coltivazione frutticultura macchinario e via discorrendo il salone delle assemblee dove si svolgeva il ricevimento dava soprattutto l'idea di un magazzino anche perché l'aredamento era costituito da un rustico tavolo centrale con annesse panche e da un ritratto di Lenin appeso a una parete il comitato dei festeggiamenti del Colcos aveva provveduto a fare adornare il ritratto di Lenin con una frasca verde che girava tutto attorno alla cornice luccicante di porporina d'oro ma ciò non sarebbe bastato a rendere caldo e ospitare l'ambiente se la lunga tavola non fosse stata ingentilita da una generosa decorazione di bicchieri vuoti e di bottiglie piene di vodka un bicchierozzo di vodka buttato giù come fosse un bicchiere di lambrusco riscalda rapidamente le orecchie e Peppone si trovò in pochi secondi col motore al massimo di giri così che quando la compagna Petrovna ebbe spiegato che il Colcos di Grevine c'era uno dei più efficienti avendo raggiunto le massime punte nella produzione del latte dei suini e dei cereali domandò la parola e piantatosi davanti al compagno Oregov disse con voce ferma staccando proposizione da proposizione in modo da lasciare il tempo alla Petrovna di tradurre compagno io vengo dall'Emilia da quella regione cioè dove esattamente 50 anni fa esistevano uniche in Italia e fra le pochissime del mondo cooperative proletarie perfette una regione con agricoltura intensamente meccanizzata e con una produzione di latticini salumi e cereali fra le prime del mondo come quantità e qualità al mio paese io e i miei compagni abbiamo fondato una cooperativa agricola di braccianti che ha avuto l'alto onore di ricevere dai fratelli dell'Unione Sovietica il dono più gradito Peppo ne trasse dalla sua borsa di pelle un fascio di fotografie che porse al compagno Oregov e le fotografie rappresentavano l'arrivo trionfale in paese di Nikita il trattore ricevuto in regalo dall'URSS il trattore stesso in azione di dissodamento sulle terre della cooperativa agricola Nikita Khrushchev e mercanzia del genere le grandi fotografie girarono da mano a mano e suscitarono in tutti viva impressione a cominciare dal compagno Oregov Procede l'opera di smantellamento del capitalismo continuò Peppone e se non siamo ancora alla fase finale siamo però a buon punto e come potrebbe dirvi meglio di me il compagno Tarocci che appartiene alla mia stessa regione è fatale che i privilegi dei proprietari e del clero vengano cancellati dalla lavagna della storia e incominci l'era delle libertà e del lavoro le cooperative agricole modellate sui colcos oltre alle aziende statali sul tipo dei softcos sostituiranno fra non molto l'attuale forma di conduzione schiavistica delle tenute agricole e come è facile capire è per me di grandissimo interesse conoscere del colcos ogni particolare tecnico e organizzativo vorrei quindi che tu compagno Oregoff pregassi i compagni dirigenti del colcos di Grevinec di mettermi dettagliatamente al corrente dell'esatto funzionamento dei colcos in ogni minimo settore il compagno Oregoff fece rispondere che si rendeva conto dell'importanza della richiesta e promise di fare del suo meglio per venire incontro al giustificato desiderio di Peppone poi parlò toco ai dirigenti del colcos e alla fine la compagna Nadie riferì a Peppone compagno il tuo particolare interesse per l'aspetto tecnico e organizzativo è stato riconosciuto da tutti ma se io rimanessi qui a disposizione tua ed i dirigenti del colcos i tuoi compagni non potrebbero compiere quella completa visita al colcos che è stabilita dal programma fortunatamente fra i tecnici qui presenti c'è qualcuno che potrà spiegarti ogni cosa senza bisogno di interpreti la Petrovna si interruppe e fece un cenno dal gruppo dei dirigenti si staccò un uomo bruno magro in tuta da meccanico fra i 35 e i 40 anni i responsabili dei reparti meccanizzazione rifornimenti coordinamento lavori spiegò la compagna Petrovna presentando l'uomo a peppone stefan bordoni italiano stefan bordoni cittadino sovietico precisò l'uomo magro porgendo la mano a peppone ma guardando la Petrovna cittadino sovietico come i miei figli la Petrovna sorrise per nascondere il suo imbarazzo hai ragione stefan bordoni rettificò dovevo dire d'origine italiana mentre noi proseguiamo la visita tu rimarrai a disposizione del compagno senatore Bottazzi la compagna Petrovna se ne andò per raggiungere il gruppo e Don Camillo fece l'atto di seguirla ma Peppone lo bloccò tu compagno tarocci resterai con me e prenderai nota di tutto quanto ti dirò io agli ordini borbottò Don Camillo a denti stretti sei membro del partito si informò Peppone uscendo dalla baracca del soviet a fianco dell'uomo magro non mi è stato ancora concesso quest'onore rispose con voce impersonale l'altro era di una gelida cortesia mentre Don Camillo si affaccendava a prendere appunti su un libretto di note il cittadino stefan bordoni rispondeva con esattezza ogni domanda di Peppone ma si notava in lui lo sforzo per cercare di esprimersi col minor numero di parole possibile conosceva perfettamente il funzionamento del colcos in ogni minimo dettaglio citava con sicurezza date e dati ma non aggiungeva mai niente di più Peppone gli offerse un mezzo toscano ed egli cortesemente lo rifiutò con un semplice grazie rifiutò la nazionale offerta gli da Don Camillo siccome gli altri fumavano trasse di tasca un pezzetto di carta da giornale un pizzico di macorca e si arrotolò abilmente una sigaretta visitarono il silos per il frumento poi il capannone dove erano contenuti i mangimi speciali i disinfettanti per i trattamenti dei frutteti e gli attrezzi agricoli per il lavoro manuale tutto esattamente ordinato e catalogato in un angolo c'era una strana macchina nuova di zecca e Peppone domandò a cosa servisse a cardare il cotone rispose il cittadino sovietico Stefan Bordoni il cotone? si stupì Don Camillo con questo clima voi coltivate il cotone? no rispose l'uomo e come mai si trova qui? insistè Don Camillo un errore di smistamento spiegò l'uomo è arrivata al posto di una macchina setacciatrice per la selezione del seme di frumento Peppone fulminò Don Camillo con un'occhiata atomica ma Don Camillo ora che aveva trovato un uncino ci si aggrappò e voi selezionate il grano con una macchina per cardare il cotone? no rispose glaciale l'uomo magro usiamo una macchina selezionatrice è costruita con mezzi nostri nella nostra officina e quelli che hanno ricevuto la selezionatrice con che cosa cardano il cotone? è cosa che non interessa il colcos di Grevinach rispose l'uomo errore di questo genere non dovrebbero succedere osservò vilmente Don Camillo la nostra patria è 300.000 km quadrati comunicò con voce ufficiale l'altro l'unione sovietica e oltre 22 milioni di chilometri quadrati di superficie intervenne Peppone Stefan Bordoni disse spedendo una zampata sul piede sinistro di Don Camillo sei tu l'addetto a questo magazzino? no io collaboro vi interessano gli allevamenti di bestiame? mi interessa il parco macchine agricole rispose Peppone il capannone delle macchine agricole non si presentava bene perché non assomigliava neppure a un capannone ma era una gran baracca con le pareti di legno e paglia e il tetto coperto di rugginosa lamiera però una volta entrati c'era da rimanere a bocca aperta sul pavimento di terra battuta non c'era un bruscolo e le macchine perfettamente ordinate erano tirate a lucido come per l'esposizione campionaria il cittadino Stefan Bordoni conosceva le macchine una per una dalla A alla Z età ore di lavoro compiuto consumo rendimento potenza come se avesse dentro il cervello uno schedario completo in fondo alla baracca c'era l'officina l'unica parte costruita in mattoni una povera officina col minimo indispensabile d'attrezzi e macchinari ma ordinata in modo tale da strappare le lacrime a Peppone un grosso cingolato era sotto cura e i pezzi del suo motore si alineavano su un banco Peppone ne tolse su uno lo guardò poi guardò il cittadino Stefan chi è che ha rettificato questa roba? domandò io mi rispose sempre con indifferenza Stefan con quella specie di tornio esclamò Peppone indicando un vecchio escassato arnese che poteva ricordare appunto un tornio no spiegò l'altro con la lima Peppone guardò ancora il pezzo poi ne tolse su un altro dal banco e lo considerò con pari stupore infisso nel muro sopra il banco c'era uno spezzone di ferro e una biella penzolava da esso legata con un pezzo di spago Stefan prese un punteruolo e percosse la biella che risuonò come una campanella dal suono che manda si sente se sbilanciata spiegò l'uomo deponendo il punteruolo questione di avere un po' d'orecchio Peppone si tolse il cappello e si asciugò il sudore vecchio mondo esclamò io avrei giulato che quello fosse l'unico a usare questo sistema e invece te ne trovo un altro qui in mezzo alla Russia quello chi si informò Don Camillo il meccanico di Torricella rispose Peppone era un fenomeno preparava le automobili per i corridori venivano fin dall'estero un ometto che a vederlo non gli dava i quattro soldi il secondo anno di guerra un canchero inglese che voleva colpire il ponte sullo Stivone gli ha centrato la casa è rimasto sotto le macerie lui la moglie e i due figli uno precisò il contadino sovietico Stefan l'altro per sua fortuna era soldato il cittadino sovietico Stefan Bordoni aveva parlato con una voce diversa dal solito mi fa piacere che qualcuno si ricordi ancora di mio padre aggiunse uscirono senza più parlare dall'officina trovarono fuori un cielo livido che minacciava tempesta io abito in quella casa là disse Stefan ci conviene arrivarci prima che venga giù il diluvio lì aspettando che smetta di piovere vi potrò fornire tutti i dati che ancora vi servono arrivarono alla casa proprio quando incominciavano a precipitare i primi goccioloni era una casa rustica povera ma pulita e accogliente con una vasta cucina dalle travi annerite e la grande stufa Peppone non si era ancora riavuto dalla sorpresa presero posto alla lunga tavola l'ultima volta che andai all'officina di Torricella disse Peppone come parlando tra sé fu nel 1939 ma era capitata una ballilla d'occasione e non riuscivo a capire cosa avesse il motore una biella sbilanciata spiegò Stefan l'ho sistemata io quelle cosette mio padre le dava da fare a me e poi andava bene va ancora rispose Peppone allora quel ragazzo magro col ciuffo nero sempre sugli occhi avevo 19 anni borbottò Stefan lei non aveva i baffi allora no intervenne Don Camillo se li ha fatti crescere quando l'hanno messo in prigione per ubriachezza molesta e repugnante e schiamazzi notturni a sfondo antifascista è in quell'occasione che ha guadagnato l'attestato di perseguitato politico acquistando il diritto di diventare senatore comunista Peppone pestò un pugno sulla tavola ho fatto anche qualcosa d'altro esclamò Stefan continuava a guardare Don Camillo eppure borbottò alla fine lei non ha una faccia nuova è anche lei dei paraggi no rispose in fretta Peppone abita da quelle parti ma è un importato non puoi conoscerlo dimmi piuttosto come sei arrivato qui Stefano allargò le braccia perché ricordare quello che i russi hanno generosamente dimenticato disse con voce ritornata gelida se vi servono altre spiegazioni sul Colcos sono a vostra disposizione intervenne Don Camillo amico disse non ti preoccupare se lui è senatore comunista parliamo da uomo a uomo la politica non c'entra Stefano guardò negli occhi Don Camillo e poi Peppone non ho niente da nascondere spiegò è una storia che sanno tutti qui a Krevinec ma siccome nessuno ne parla vorrei non parlarne neppure io Don Camillo gli allungò il pacchetto delle nazionali fuori era scoppiato il diluvio e il vento buttava rovesci d'acqua contro i piccoli vetri delle due finestre sono 17 anni che sogno di fumare una nazionale disse Stefan accendendosi una sigaretta non posso abituarmi al macorca e alla carta da giornale mi spaccano lo stomaco inghiottì avidamente qualche boccata osservando poi il fumo azzurrino uscire lentamente dalla bocca la storia continuò ero soldato dell'autocentro un giorno i russi ci presero era la fine del 42 neve e freddo da crepare ci spingevano avanti come una mandria di pecore ogni tanto qualcuno cadeva se non si rialzavano inchiodavano sulla neve fangosa della pista con una pallottola sulla fronte arrivò il noturno e caddi cadivo il russo e sapevo farmi capire quando caddi un soldato russo mi raggiunse e mi smosse col piede alzati ordinò tovarish gli risposi non ce la faccio più lasciami morire in pace nella fine della colonna io ero uno degli ultimi era già lontana a una decina di metri e incominciava a nevicare mi sparò un colpo mezzo metro più in là della testa borbottando vedi di morire alla svelta di non mettermi nei guai Stefan si interruppe era entrato in cucina un gran fagotto coperto di tela da sacco crondante acqua e caduta la tela si vide una bella donna che dimostrava poco più di 30 anni mia moglie spiegò Stefan la donna sorrise poi spiegò in fretta qualcosa in una strana lingua e disparve su per la scaletta a pioli che spariva nel soffitto dio aveva stabilito che campassi continuò Stefan quando rinvenni ero in un'isba al caldo ero caduto a mezzo chilometro da qui tra il villaggio e il bosco e una ragazza di 17 anni tornando dal bosco dove era andata a far legna aveva sentito dei lamenti uscire da sotto un mocchietto di neve era una ragazza robusta mi aveva agguantato per il bavero e senza mollare la fascina che portava in spalla e mi aveva trascinato fino alla sua isba come un sacco di patate buona gente e i contadini russi osservò Peppone anche Bagò del Molinetto è stato salvato così sì riconobbe Stefan ne hanno salvati parecchi dei disgraziati come me però quella ragazza non era russa ma polacca l'avevano portata qui assieme al padre e alla madre perché c'era bisogno di gente che lavorasse la terra e mi tennero nascosto due giorni poi capì che la cosa non poteva durare e siccome io e la ragazza riuscivamo a capirci bestemmiando il russo le disse di andare dal capo del villaggio e spiegare che un soldato italiano disperso le era capitato in casa da poche ore le dispiaceva ma andò ritornò di lì a poco assieme a un tizio armato di pistola e due altri armati di fucile alzai le mani e mi fece lo cenno di uscire la capanna della ragazza polacca era la più lontana dal centro del villaggio e dovetti camminare un bel pezzetto sempre con le armi puntate alla schiena arriviamo finalmente nello spiazzo dove avete visto il silos un camion carico di sacchi di grano era lì e un vigliacco maledetto lo stava assassinando per rimetterlo in moto e dimenticai il resto e pensai soltanto al camion mi arrestai e mi volsi verso il capo tovarish gli dissi quello scaricherà le batterie e non riuscirà più a metterlo in moto ordinali di smetterla e di spurgare prima la pompa il capo sentendomi parlare in russo rimase a bocca aperta poi esclamò duro e cosa ne sai tu gli risposi che era il mio mestiere il maledetto continuava ad assassinare le batterie che già incominciavano a tirare gli ultimi il capo mi spinse avanti con la canna della pistola e quando fu arrivato al camion si fermò e gridò all'autista di smetterla e di guardare la pompa dal finestreno della cabina venne fuori la faccia melenza di un ragazzotto vestito da soldato non sapeva neanche di che pompa si trattasse era la prima volta che guidava a un diesel gli dissi di darmi il cacciavite e avutolo tirai su il coperchio del cofano e 448 spurgai la pompa di iniezione poi riabbassai il coperchio e gli allungai il cacciavite adesso va gli dissi dopo due secondi il camion partiva mi portarono in una stanzetta della baracca del soviet e lì mi chiusero chiesi una sigaretta e me la diedero tornarono dopo dieci minuti e mi fecero uscire spingendomi sempre con la bocca dei fucili contro la schiena fino a una tettoia dove erano riparati alla belle meglio trattori e macchine agricole il capo mi indicò un cingolato e mi domandò perché non andasse feci portare dell'acqua bollente riempì il radiatore e provai la messa in moto scesi subito c'è una bronzina fusa spiegai bisognerebbe smontare tutto rifare la bronzina e rimontare ci vuole tempo con quei quattro arnesi malandati che mi misero a disposizione e dovetti lavorare come un pazzo ma 48 ore dopo io stavo finendo di rimontare l'ultimo pezzo fu allora che arrivò un ufficiale con due soldati armati in parabellum rimasero a contemplarmi e quando ebbe finito e il radiatore fu pieno d'acqua bollente io salì sul trattore dio aveva stabilito di salvarmi ad ogni costo il motore attaccò subito e marciava come un orologio lo provai con un giretto attorno alla tettoia poi lo rimisi al suo posto mi pulì le mani con uno straccio saltai giù e mi presentai all'ufficiale a braccia levate mi scoppiarono a ridere in faccia te lo lasciamo compagno disse l'ufficiale al capo sotto la tua responsabilità se scappa paghi tu allora mi misi a ridere io signor capitano risposi la Russia è grande e io al massimo potrei scappare fino a quell'isba laggiù dove c'è una bella ragazza che mi piace molto anche se mi ha denunciato al segretario del comitato distrettuale del partito l'ufficiale mi guardò tu sei un bravo lavoratore italiano perché sei venuto a combattere i lavoratori russi gli risposi che ero venuto perché mi ci avevano mandato comunque io ero capo meccanico dell'autocentro e gli unici russi che avevo ammazzato erano i due polli finiti sotto le ruote del mio camion fuori il diluvio era diventato una vera burrasca Stefan si alzò e andò a parlare in russo dentro un telefono militare da campo che era in un angolo tornò di lì a poco dicono che potete rimanere qui gli altri sono rimasti bloccati alla stalla numero 3 che è a casa di Dio tornò a sedersi e allora domandò Don Camillo allora io incominciai un lavoro infernale perché rimisi a posto tutte le macchine sistemai l'officina e la rimessa e quando potei incominciare a pensare a me la guerra era finita da due anni il padre della ragazza polacca era morto e io sposai la ragazza poi passarono altri anni e fu concessa la cittadinanza sovietica a me e a mia moglie e non hai mai pensato a tornare a casa insinuò Don Camillo a fare che a vedere il mucchio di calcinacci sotto il quale marciscono mio padre mia madre e mio fratello qui adesso mi trattano come uno di loro anzi meglio perché io lavoro e il mio mestiere lo so fare chi si ricorda di me laggiù sono scomparso nel niente come come uno dei tanti dispersi in Russia avvenne a questo punto una confusione maledetta e la porta si spalancò di botto lasciando entrare assieme a uno scroscio d'acqua una strana bestia una specie di mille gambe dalla pelle scura e viscida con un urlo la moglie di Stefano balzata fuori da chissà dove si precipitò verso la porta e la richiuse allora la pelle viscida del mostro cadde e liberati dallo sbrindellato telone cerato sotto il quale si erano riparati dalla pioggia apparvero sei bambini uno più bello dell'altro e in perfetta scala dai sei ai dodici anni amico accidenti quanto sei disperso in russia esclamò don camillo Stefan smirciò ancora don camillo eppure ripetè io vi devo aver visto da qualche parte probabilmente no rispose don camillo comunque anche fosse dimenticati di avermi visto erano sei bambini educati starnazzavano come gallinelle ma bastarono tre parole della madre per ammutolirli si misero a sedere tranquilli nella panchetta attorno alla stufa chiacchierando a bassa volta sono piccoli spiegò la donna con un italiano strano ma chiaro avevano dimenticato la nonna malata don camillo si alzò vorremmo salutarla disse sarà molto contenta esclamò sorridendo la donna non vede mai nessuno salirono per la scaletta a pioli e si trovarono in una bassa stanza a soffitta una vecchietta striminzita giaceva su un lettuccio dalle lenzuola candide senza una piega la moglie di stefana le parlò in polacco e la vecchia le bisbigliò qualcosa ha detto che il signore benedica chi visita gli infermi spiegò la moglie di stefana è una vecchia donna e bisogna perdonare se la sua mente è ancora nel passato sopra la testiera del lettuccio appesa al muro era un'immagine ed un camillo si avvicinò curioso è la madonna nera esclamò si spiegò sottovoce la moglie di stefana era protettrice della polonia i vecchi polacchi sono cattolici bisogna capire i vecchi la moglie di stefana si esprimeva con molta cautela e un vago timore era nei suoi occhi pepone risolse la situazione non c'è niente da perdonare affermò in italia sono cattolici non solo i vecchi ma anche i giovani l'importante è che siano onesti noi avversiamo solo i maledetti preti che invece di fare i ministri di dio fanno i politicanti la vecchia le sussurrò qualcosa all'orecchio e la moglie di stefana prima di parlare lanciò un'occhiata interrogativa al marito non sono qui per farci del male la rassicurò stefana vorrebbe sapere balbettò la donna arrossendo vorrebbe sapere come sta il papa anche troppo bene rispose ridendo peppone don camillo dopo aver armeggiato sotto il giubbotto trasse un cartoncino e lo porse alla vecchia che dopo averlo guardato con occhi sbarrati tirò fuori faticosamente dalle coperte una piccola mano tutta a ossicini e lo afferrò poi parlò concitatamente nell'orecchio della figlia dice se è proprio lui tradusse con l'ansia nella voce la moglie lui in persona confermò don camillo papa giovanni vigesimo terzo peppone impallidi e si guardò attorno preoccupato incontrando gli occhi stupiti di stefana compagno gli intimò don camillo afferrandolo per un braccio e spingendolo verso la porta scendi insieme a lui e andate a vedere come piove a pian terreno peppone tentò di protestare ma don camillo tagliò corto non ti impicciare compagno se non vuoi avere dei guai rimasero soli don camillo la moglie di stefana e la vecchietta dille che può parlare perché io sono cattolico come lei ordinò perentorio don camillo le due donne parlottarono a lungo quindi la moglie di stefana riferì dice che vi ringrazia e vi benedice ora con quell'immagine che le avete dato si sente maggior forza nell'aspettare la morte ha sofferto molto vedendo mio padre morire come un cane senza la benedizione di dio ma avete dei preti che girano liberamente e arrivano fin qui si stupì don camillo la donna scosse il capo sembrano preti ma non dipendono da dio ma dal partito spiegò non sono buoni per noi polacchi fuori pioveva che dio la mandava don camillo si strappò il giubbotto cavò dalla finta stilografica il croce fisso dalle braccia pieghevoli l'infilò nel collo di una bottiglia e lo dispose in mezzo al tavolino che era contro al muro a fianco del lettuccio della vecchia trasse il bicchierino di alluminio che fungeva da calice un quarto d'ora dopo allarmati dal lungo silenzio peppone e stefan salivano si affacciavano alla porta della soffitta e rimanevano senza parola don camillo celebrava la santa messa la vecchia a mani giunte lo guardava con occhi pieni di lacrime quando la vecchietta poté ricevere la comunione parve che la vita le rifluisse di improvviso impetuosa nelle vene e sangue la vecchia parlò convulsa all'orecchio della figlia che ad un balzo raggiunse il marito reverendo disse ansimando sposateci davanti a dio ora siamo sposi soltanto davanti agli uomini fuori diluviava pareva che le nuvole di tutta la grande russia si fossero concentrate nel cielo di grevinec mancava l'anello ma la vecchia portese la mano e la consunta vera matrimoniale un sottile cerchietto d'argento si infilò nel dito della figlia signore implorò don camillo non badate se mangio qualche parola o qualche periodo peppone pareva la classica statua di gesso don camillo interruppe un momento il rito e lo spinse verso la porta spicciati porta su tutta la banda ormai la pioggia stava decrescendo rapidamente ma don camillo era lanciato e pareva una mitragliatrice battezzò tutte e sei i bambini con una rapidità da togliere il fiato e non è che come aveva detto mangiasse le parole o saltasse addirittura dei periodi interi diceva tutto quel che doveva dire dalla prima sillaba all'ultima ma il fiato glielo dava Gesù forse tutto era durato un'ora forse un minuto don camillo non lo sapeva si ritrovò seduto alla tavola di cucina con peppone al fianco e stefan davanti il sole ora sfolgorava e nell'angolo semibuio della stufa sfolgoravano ancora più del sole occhi sgranati che cercavano gli occhi di don camillo don camillo li contò ed erano sedici dodici dei bambini due della madre e due della vecchietta ma questi non erano incastonati in uno dei visi celati nella penombra della stufa ma gli aveva dentro il cervello don camillo perché mai aveva visto due occhi guardarlo così e non poteva toglierseli dalla mente la compagna Nadia Petrovna comparve sulla porta tutto a posto si informò tutto perfettamente a posto rispose don camillo alzandosi siamo grati al compagno Oregov che ci ha messo a disposizione un tecnico competente come il cittadino Stefan Bordoni aggiunse Peppone stringendo la mano a Stefan e avviandosi verso la porta don camillo fu l'ultimo a uscire e giunto sulla soglia si volse e tracciò un rapido segno di croce sussurrando pax uo viscom Amen risposero gli occhi della vecchietta 9 come pioveva come era tassativamente stabilito dal programma ufficiale il desinare agli ospiti italiani venne offerto dai colcosiani di Grevines e tutti furono commossi dalla spontaneità del gesto compagno comunicò discretamente don camillo a Peppone che per prudenza l'aveva voluto vicino di tavola io detesto coloro che quando vanno all'estero trovano tutte le cose superiori a quelle di casa loro ebbene davanti a questa sana minestra di cavoli non posso evitare di pensare con schifo alla borghese pasta asciutta di casa nostra compagno gli rispose a denti stretti Peppone dopo quanto è combinato stamattina meritereste una minestra di chiodi in brodo d'arsenico beh quasi ci siamo borbottò don camillo in compenso l'arrosto di montone e la vodka funzionavano lodevolmente tanto che alla fine Peppone sentì il dovere di ringraziare gli ospiti un discorsetto in verità molto convenzionale al quale il compagno Orekov rispose con parole non meno convenzionali fortunatamente c'era il compagno don camillo la straordinaria avventura vissuta poco prima in casa di stefan e un paio di bicchierozzi di vodka gli avevano incendiato il cuore e scaldate le orecchie costruitasi una formidabile rampa di lancio su granitiche citazioni di marx lenin e khrushchev partì come uno sputnik e sparò un discorso da togliere il fiato la stessa compagna Nadia Petrovna che traduceva puntualmente proposizione per proposizione tradiva nell'eccitazione della voce il suo entusiasmo e gli occhi del compagno commissario Yenke e Orygov scintillavano come per il riverbero di una grande fiamma parlò del kolkos di Grevinec come di una creatura viva e probabilmente i kolkosiani di Grevinec si accorsero di un particolare che mai prima d'allora avevano notato essere cioè uomini importanti e felici quando concluse con un finale verdiano che strappò a peppone due lacrimoni grossi come nocciole scoppiò un applauso atomico e il compagno Orygov balzò in piedi e andò ad abbrancare la mano di Don Camillo continuandogliela a scuotere come se dovesse azionare una pompa d'incendio e mentre pompava parlava in fretta in tono eccitato dice il compagno Orygov tradusse Nadia Petrovna che il partito ha bisogno di uomini come te per la propaganda aurorale e vorrebbe che tu rimanessi abbiamo scuole specializzate e potrei imparare rapidamente la lingua russa ringrazia il compagno Orygov rispose Don Camillo gli chiedo soltanto il tempo di sistemare mia moglie e i miei piccoli figli tornerò ti concede tutto il tempo che ti occorre gli spiegò Nadia Petrovna dopo aver parlato col compagno Orygov per qualsiasi difficoltà sai dove rivolgerti i colcosiani portarono in tavola altra vodka e quando gli eletti ripresero la via del ritorno era già pomeriggio inoltrato il diluvio aveva trasformato la strada in una specie di fiumicello di fango e per districare il torpedone da quella melma ci volle il suo tempo dopo una decina di chilometri arrivarono all'imbocco della strada che tagliava il sofcos bandiera rossa il canale era straripato e sopra la strada c'erano trenta buoni centimetri d'acqua il compagno autista con l'autorizzazione del compagno Orygov deviò a sinistra verso Tifitz e il torpedone viaggiò per un paio d'ore su una carareccia stretta e tortuosa che però aveva un fondo abbastanza consistente disgraziatamente riprese a piovere e per il compagno autista incominciarono i guai perché il carrozzone prese a scolettare rischiando di uscire ad ogni momento di strada così andò a finire che dopo aver bloccato e sbloccato il differenziale cinquanta volte alla cinquantunesima il compagno autista dimenticò di sbloccarlo e alla prima curva la corona del differenziale si sgranò come fosse di croccante e pioveva e tutto dava l'idea che dovesse continuare a piovere Dio sa fino a quando la sera incominciava a cadere e bisogna decidere qualcosa il villaggio di Tifitz era a soli cinque chilometri il compagno autista venne spedito là con l'ordine di tornare con un autocarro o un cingolato del Colcos tornò a piedi l'unica macchina del Colcos di Tifitz in grado di funzionare era un elevatore per foraggi con motorino autonomo si decise che un arnese del genere poteva servire a ben poco e anche in considerazione del fatto che quello di Tifitz faceva disgraziatamente parte di quei miserabili sei Colcos su cento non ancora forniti di telefono ci si incamminò a piedi verso il villaggio e fu una marcia da non dimenticare perché alla pioggia si era aggiunto il vento e si camminava con la melma fino alla caviglia entrarono a Tifitz che era già buio e il villaggio essendo uno di quegli otto su cento non ancora forniti di luce elettrica non presentava un aspetto molto accogliente il salone delle assemblee del soviet rurale era ingombro di sacchi di mangimi ma il compagno Oregov tirò fuori una voce che non si era mai sentita e in mezz'ora i sacchi sparirono una squadra di colcosiani armati di ramazze perfezionò l'opera di sgombero e gli eletti che aspettavano sgomenti raggruppati in un angolo dello stanzone squalido male illuminato dalle lanterne a petrolio si trovarono sepolti da un nembo di polvere il compagno mezzadro Tavan era proprio lì davanti a lui e Don Camillo ne approfittò per continuare la sua azione di smantellamento morale compagno comunicò con voce aspra Peppone ricordi quello che ti dicevo stamattina a proposito dei contadini a Grevinec dove i dirigenti sono funzionari inviati dal partito tutto funziona meravigliosamente qui dove i colcosiani si autodirigono non funziona niente autocarri e trattori guasti e il salone del soviet trasformato in un magazzino non è così anche da noi alle pioppette dove sono stati rifatti i fabbricati rustici e civili cosa trovi nelle vasche da bagno patate e nel capannone delle macchine fascine melicacci polli tacchini e le macchine a marcire sotto i portici o addirittura all'aperto credi compagno il contadino non ha le qualità necessarie per vivere libero in un mondo socialista deve semplicemente eseguire degli ordini ma che terra i contadini la terra allo stato dal primo centimetro all'ultimo sovcos statali fino a quando il contadino non abbia acquistato la coscienza dei suoi doveri e della sua funzione hai voglia compagno ridacchiò lo scamoggia secoli ci vorranno prima che entri un po' di cervello in quelle zucche di cemento la luce era poca ma le orecchie a parafango del compagno mezzadro tavan avevano preso un rosso così acceso da farsi facilmente notare anche nel buio completo don camillo si preparò a sparare la seconda raffica ma il tacco della scarpa destra di peppone si posò a monitore sulla punta del suo piede sinistro in corrispondenza del callo più sensibile con la bocca di un mitra appoggiata sull'ombelico don camillo non avrebbe taciuto ma con un tacco puntato su un callo già duramente provato dalla cattiva stagione e dal duro cammino insistere sarebbe stato pura follia si può gettare l'anima oltre l'ostacolo ma gettare il callo oltre l'ostacolo e non si può don camillo sospese l'offensiva il polverone si diradò il compagno oregoff piantato a gambe larghe in mezzo allo stanzone impartiva ordini rapidi tassativi arrivarono dei cavalletti e delle sponde d'autocarro e fu organizzata una lunga tavola poi il magazziniere sputò un rotolo di tela grezza e la tavola ebbe una tovaglia l'enorme stufa incominciava a cacciar fuori calore arrivarono altri lumi poi scodelle posate bicchieri il compagno oregoff volse gli occhi verso l'angolo nel quale erano relegati peppone e compagni e si rese fulminiamente conto della situazione un ordine e pochi minuti dopo arrivarono tre ragazze con bicchieri e bottiglie due passate di vodka ed ecco completamente ristabilita nell'animo degli eletti la fede nella vittoria della causa socialista eccezione fatta per il compagno don camillo nel cui animo la vodka non poteva che reintegrare i sopiti timori data la fame veramente comunista che avevano in corpo quando arrivò in tavola una gran pentola fumante piena di zuppa di cavoli e patate peppone e compagni ebbero un mugito di gioia e si buttarono all'arrembaggio e come li vide sazi il compagno oregoff comunicò attraverso l'interprete il suo rincrescimento per tutti i deprecabili inconvenienti che si erano verificati don camillo era diabolico quel giorno e senza un istante di esitazione affermò siamo felicissimi di tutto quanto è accaduto perché questo ci ha permesso di ricevere dal compagno oregoff una stupenda lezione pratica su come debba comportarsi un dirigente comunista al mio paese un vecchio proverbio dice che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo possiamo oggi dire nell'era della meccanizzazione dell'uguaglianza sociale e quindi liquidati il cavallo e il padrone che l'occhio del partito ingrassa il compagno al compagno oregoff la battuta piacque in un modo incredibile e il brindisi alla sua salute lo commosse peppone come parlamentare comunista capo della missione e funzionario del partito portava sempre con sé una gran borsa di pelle gonfia di documenti importanti e riservati mentre mangiava ebbe l'ingenuità di deporre la borsa per terra alla sua sinistra sicché don camillo colto il momento giusto poteva aprirla eseguire un sondaggio e scoprire che sotto le scartoffie sonnecchiavano adagiati sul fondo una bottiglia di cognac e un salame fuori serie peppone si accorse che qualcosa non andava quando la compagna nadia annunciò ad alta voce che il compagno oregoff ringraziava di cuore il compagno senatore e accettava il dono solo a condizione di dividerlo con tutti i convidati il dono era rappresentato dalla bottiglia di cognac e dal salame del compagno peppone compagno gli disse don camillo tornando al suo posto è stato un gran bel gesto da parte tua anche l'idea di offrire un giro di vodka con i rubli che t'erano rimasti delle 10.000 lire cambiate all'albergo è stata veramente la signore peppone lo guardò con odio non è finita gli rispose a mezza bocca per arrivare in italia c'è ancora tanta strada il compagno oregoff sedeva a un capo della lunga tavola alla sua destra erano il presidente e il segretario politico del colcos alla sua sinistra era la compagna nadia petrovna e alla sinistra della compagna nadia stava appiccicato il compagno capece salvatore che con una manovra studiata diligentemente era riuscito a far fesso il compagno nanni scamoggia incuniandosi fra lui e la ragazza cognac e salame dimostrarono borghesissime tendenze sedentarie e rimasero appiccicati lì perché si erano affezionati a oregoff e ai suoi vicini e lì finirono i loro giorni compagna esclamò a un bel momento il compagno capece salvatore volgendo due languidissimi occhi verso la donna io potrei fare un discorso ancora più bello di quello del compagno da rocci se avessi una chitarra la compagna nadia parlottò col presidente del colcos e nessuno fece caso al fatto che il colcosiano si alzasse e sparisse perché la confusione e il vocio e il caldo e la vodka e il cognac e il fumo delle sigarette avevano creato qualcosa che somigliava molto alla romanesca cacciara ma quando lo metto riapparve tutti se ne accorsero perché l'urlo che gettò il compagno capece salvatore era inumano la chitarra il colcos di tifiz non aveva un motore funzionante ma possedeva una chitarra funzionante in più disponeva anche di una fisarmonica con annesso suonatore mentre il compagno capece salvatore arraffata la chitarra l'accordava il ragazzotto arrivato al seguito del capo colcos si sedette e attaccò una marcetta qualcosa di penoso uno strazio che a un bel momento fece perdere ogni riservo al duro e taciturno compagno tavan il mezzadro dalle orecchie a sventola il compagno tavan balzò in piedi era giunto il ragazzo gli strappò la fisarmonica sparando un accordo che fece ammutolire tutti poi attaccò il volo del calabrone poi la mazzurca di miglia vacca e le sue orecchie parevano perfino piccole tanto suonava bene due minuti dopo lo stanzone era zeppo di gente vecchie vecchie giovanotti e ragazze non ne mancava uno il compagno capece salvatore era pronto e mentre il compagno orecchie gli faceva il controcanto attaccò oh sole mio con una voce nella quale c'era tutto dal vomero a posillipo da zi teresa a funicoli funicolà dalla luna marinara al problema del mezzogiorno se non avesse concesso il bis lo avrebbero sbranato cantò ancora una due tre dieci volte e il compagno scamoggia schiumava rabbia perché gli occhi del compagno capece salvatore non mollavano un secondo quelli della compagna nadia petrovna che pareva come allocchita poi il compagno tavan partì in quarta e attaccò una polca infernale e fu l'inferno tovaglia tavole cavalletti tutto scomparve chi voleva bere si accomodasse nell'ufficio dell'amministrazione del colcos dove c'era una scrivania che poteva reggere bottiglie di vodka e bicchieri finché si voleva ballavano tutti fuorché Don Camillo che per non assistere a quell'orrendo spettacolo si era ritirato nell'ufficio amministrazione a far compagnia alla vodka e allo squallido Lenin appeso al muro lasciata la chitarra il compagno capece salvatore ballava con la compagna Nadia e non la mollava un minuto secondo tanto che Peppone dovendo comunicare qualcosa di importante alla compagna Nadia fu costretto a strappargiela dalle braccia compagna le disse Peppone appartandosi in un angolo divertirsi onestamente dopo il lavoro è lecito e chi come il compagno Tarocci non partecipa al divertimento della comunità non è un buon compagno e deve essere punito sono d'accordo rispose Nadia Petrovna il compagno Tarocci riprese Peppone ha la stoffa del dirigente ma in casa sua chi dirige tutto è sua moglie una tremenda donna afflitta da un cervello reazionario e da una spaventosa gelosia egli ora è qui lontano migliaia di chilometri da sua moglie ma ha paura a ballare deve ballare compagno ci penso io rispose ridendo la compagna Nadia cinque minuti dopo una piccola banda di ragazze scatenatissime invase l'ufficio vodka e amministrazione Don Camillo venne divelto dalla sua sedia e trascinato nello stanzone dovette ballare Peppone si godeva la scena e non appena Don Camillo venne avvinghiato dalla più bella e scatenata ragazza del gruppo fece cenno e il flash del compagno operato Vittorio fotografo torinese scattò una due tre dieci venti volte perché tutte le più pazze e indiavolate donne volero farsi fotografare avvinghiate a Don Camillo compagno disse al fotografo Peppone finito che fu il rollino di quelle foto ne rispondi con la vita ci fu un po' di intervallo per liberare lo stanzone dal fumo e portarono roba fresca da bere ma il ritmo della barahonda non ne risentì perché il compagno Peratto Vittorio imitò alla perfezione le voci di tutti gli animali domestici il compagno Lifreddi siciliano si produsse con un'armonica a bocca lunga sei o sette centimetri il compagno Curullo sardo fece la macchietta dell'ubriaco che tenta di infilare la chiave nella toppa il compagno Gibetti toscano eseguì un pezzo d'opera cantando in falsetto da ultimo il compagno Bacciga genovese fece impazzire i colcosiani con incredibili giochi di prestigio il dopo lavoro e la televisione hanno fatto molto per il miglioramento culturale delle masse lavoratrici comunicò Don Camillo a Peppone indubbiamente rispose Peppone io credo però che invece di farne dei manifesti sia più conveniente cavarne una serie di cartoline da vendere a favore delle opere assistenziali del partito di che cosa? delle foto scattate mentre il reverendo arciprete in abito simulato stava ballando allegramente non è finita replicò cupo Don Camillo per arrivare in Italia ce n'è ancora tanta di strada le danze avevano ripreso ed ecco un colcosiano piccoletto magro sui 40 anni avvicinarsi compagno disse sottovoce a Don Camillo esprimendosi in ottimo italiano sei tu il capo no rispose Don Camillo indicando Peppone il capo è questa vescica di lardo io sono soltanto il capocellula ve lo dico a tutte e due continuò l'altro parlando senza quasi muovere le labbra sta per succedere un guaio grosso il compagno romano se il compagno napoletano non molla la ragazza gli salda addosso e gli rompe la testa era ben strano che un colcosiano parlasse così ma bisognava evitare il pasticcio e Peppone partì a razzo Don Camillo incominciò a gesticolare rivolto allo strano colcosiano e quello dopo averlo guardato un po' si mise a ridere facendo capire che aveva capito vodka vodka esclamò da da rispose Don Camillo nell'ufficio vodka e amministrazione poterono parlare liberamente signore disse il colcosiano io sono romeno e come mai parli italiano con accento napoletano perché su di Napoli facevo il marinaio e a 19 anni nel 1939 incontrai una guaglione veniva dalla Romania e tornò in Romania mi imbarcai su un mercantile che andava a costanza li sparcai e mi misi in giro per trovare la guaglione il colcosiano allargò le braccia e sospirò scuotendo il capo non l'hai trovata si informò Don Camillo ho trovata sì ma non arrivai al tempo giusto troppo tardi già sposata no troppo presto e non ancora sposata così la sposai io poi per fortuna scoppiò la guerra arrivarono i russi e siccome volevano a gente che lavorasse nei colcos io mi presentai ai volontari e partì intanto che lo strano colcosiano faceva il suo rapporto Peppone stava aggirando la compagna Nadia alla fine di una mazzurca la portò via al compagno capece e si buttò a capofitto nel waltzer che la fisarmonica attaccò pochi istanti dopo compagna le disse Peppone con voce grave cerca di capirmi il compagno scamoggia è un ottimo attivista ben preparato ma non possiede ancora una sufficiente maturità politica quindi ha ancora dei sedimenti borghesi me ne sono accorta anch'io convenne la compagna Petrovna però credo che possa liberarsene d'accordo il guaio è che stasera quei sedimenti borghesi li ha ancora e se tu non la smetti di ballare col compagno della chitarra lo prenderà per il collo e gli darà un sacco di pugni conosco i miei uomini e lo so per sicuro non vorrei che la festa finisse in modo così antipatico comunque il mio dovere era quello di avvertirti finirono il ballo senza più parlare e alla fine si lasciarono Peppone si avviò deciso verso l'ufficio vodka e Don Camillo lo mise al corrente di tutta la storia è un poveretto che non si è mai occupato di politica concluse e chiede che lo aiutiamo è nei guai Peppone si strinse nelle spalle ci si è messo lui borbottò perché non è rimasto dove era po' via che c'è stava pure mia moglie spiegò l'uomo non tenevo altro modo per sfuggirle e poi per un napoletano è più facile fare rumene e russia che romania io starei benissimo so il fatto mio sono l'unico barbiere della zona e giro da colcossa a colcossa a fare barba e capilla ma la mia specialità è la permanente la permanente comanda le donne sono uguali in tutto il mondo e quando possono farsi belle rinunciano magari al mangiare appena gli altri hanno visto una ragazza con una testa da parigina tutti hanno voluto l'ondulazione e la voce è corsa da colcossa a colcossa voi mi capite capisco sì esclamò Peppone non capisco perché tu ti trovi nei guai comanda un uomo giovane solo nella grande russia sconfinata non vi lasciate anche voi ingannare dalla storia dell'amore libero passata a calci al terzo e via discorrendo e di che ti preoccupi disse sghignazzando Peppone l'unione sovietica ha 80.000 colcos il guaio è che io c'ho un sedere solo spiegò con tristezza il colcosiano Peppone fu preso da un colvulso di riso e Don Camillo approfittò del momento di bonaccia capo disse questo poveraccio scherza ma ha una voglia matta di rivedere Napoli perché non la rivediamo aiutarlo in che modo mica possiamo portarcelo in Italia dentro una valigia no ma il compagno rondella è stato rimpatriato e il tuo documento di viaggio è rimasto per 11 persone mentre adesso siamo 10 pazzia furiosa stabilì Peppone col compagno Orekov che non ci molla un minuto secondo dovrà pur morlarci a un certo punto non diciamo sciocchezze taglio corto Peppone rimanga qui a fare il suo mestiere e lasci tranquille le donne degli altri come no protestò timido il colcosiano e che razze comunismo sarebbe chista sì d'accordo è un tipo divertente stabilì Peppone ma io di questa storia non voglio più sentir parlare Peppone uscì come no non mi ha mandurato implorò il colcosiano rivolto verso Don Camillo voi non dovete fare niente voi ditemi soltanto quando e di dove ripartite arriverò a calci fin là non ci sta nessuno che possa fermare una boletana che vuole rivedere Napoli sul dante Dio lo può fermare ma Gruschev non è Dio Don Camillo si era copiato il programma e gli disse il giorno e il luogo della partenza è tutto quello che posso fare per te concluse dimentica di avermi conosciuto io l'ho già dimenticato nello stanzone l'inferno era sempre scatenatissimo e Peppone cercava disperatamente di rintracciare la compagna Nadia disperatamente perché non si vedevano più né il compagno Capece Salvatore né il compagno Nanni Scamoggia finalmente la ragazza venne improvvisamente a galla ed egli la bloccò e allora sono arrivata troppo tardi confessò la compagna Nadia Petrovna erano già usciti tutte e due li ho raggiunti quando tutto era stato fatto dove è adesso Capece nel finile della stalla numero tre e Scamoggia nel finile della stalla numero tre sta facendo gli impacchi freddi all'occhio del compagno Capece nessuno si è accorto di quello che ha fatto Scamoggia nessuno rispose a denti stretti la compagna Nadia Petrovna nessuno eccettuato il compagno Capece che si è preso il pugno nell'occhio e la compagna Nadia Petrovna che si è preso uno schiaffo la compagna Nadia Petrovna si irrigidì e strinse i pugni capisci disse con voce nella quale vibrava l'indignazione capisci quel mascalzone ha avuto il coraggio di prendermi a schiaffi la cosa era grave perché Nadia Petrovna non rappresentava una qualsiasi cittadina sovietica ma era membro autorevole del partito e funzionario statale capisco rispose Peppone gravemente e ti chiedo vuoi che gli dia tanti pugni da ridurlo peggio di uno straccio o preferisci che io lo denunci al compagno Orykov la compagna Nadia Petrovna scosse il capo per il buon nome del partito rispose nobilmente bisogna saper sacrificare i propri risentimenti personali lasciamo correre ore gonfio di vodka quando gli saranno svaniti i fumi dell'alcol comprenderà la gravità del suo gesto volgare e stupido Peppone tentennò il capo compagna Borbotto come vuole Lenin ti dirò la verità anche se essa è sgradevole Scamoggia non ha bevuto un solo goccio di vodka o di cognac stasera il suo non è stato l'incosciente gesto di un ubriaco ma aveva un motivo e un significato precisi la compagna Nadia Petrovna era bellissima e gli occhi le brillavano come se fossero palpitanti di lacrime la sua guancia sinistra era un po' più rossa dell'altra e la coperse con la mano compagno confessò a bassa voce è umiliante doverlo ammettere ma credo proprio di non aver raggiunto neppure io una sufficiente maturità politica sopraggiunse Don Camillo c'è qualcosa che non va si informò no rispose perentorio peppone tutto regolare 10 tre fili di frumento nella notte un vento furibondo venuto da Dio sa dove si era scatenato sul grande pianoro e il suo alito gelato aveva indurito la terra fradicia di pioggia Don Camillo fu il primo ad aprire gli occhi al nuovo giorno e la sveglia gliela suonò il russare di peppone candelotti di ghiaccio incrostavano i vetri delle piccole finestre percossi dal vento la stufa smisurata emanava un dolce tepore e stravaccati sulle tucci di fortuna tutti attorno alla stufa gli otto eletti sfiancati dalla gazzarra e gonfi di vodka dormivano un sonno di piombo anche Don Camillo come tutti gli altri si era buttato vestito sul suo giaciglio togliendosi soltanto le scarpe e peppone stava nella cuccia di fianco se non russasse in quel modo in verecondo pensò Don Camillo dopo averlo contemplato per qualche istante quasi mi dispiacerebbe di avergli combinato tanti guai Don Camillo eseguì un rapido controllo eccettuati il compagno Oregof e la compagna Nadia Pedrovna erano tutti presenti e il compagno Capice Salvatore aveva la sua brava pezzuola bagnata sull'occhio sinistro Gesù implorò Don Camillo abbi pietà di questa povera gente e cerca di illuminare i loro cervelli pieni di buio buttò giù le gambe dalla branda per infilarsi le scarpe ma calzata senza nessuna particolare difficoltà la sinistra quando tirò sulla terra alla destra trovò un inaspettato impedimento il laccio doveva essersi impigliato in qualche fessura del pavimento di legno ed egli cercò di liberarlo con uno strattone immediatamente il russare di Peppone cessò e questo accadde non per caso ma perché la scarpa destra di Don Camillo era collegata con uno spago ad una caviglia di Peppone compagno commentò con amarezza Don Camillo mentre recuperava la sua scarpa non capisco la tua diffidenza nei miei riguardi dopo quello che mi avete combinato sotto i miei occhi borbottò Peppone levandosi a sedere figuratevi che cosa potete combinarmi quando dormo uscirono dallo stanzone del soviet e andarono a lavarsi la faccia ad una pompa soffiava un vento sottile e freddo che mozzava il respiro e teneva la gente rintanata nelle catapecchie dai tetti di paglia e di legno appena Don Camillo e Peppone ebbero finita la loro approssimativa toletta il Colcos si animò d'improvviso arrivò di fatti un autocarro e sbucarono fuori da qualche parte il compagno Oregov e un gruppo di colcosiani quando l'autocarro si arrestò in mezzo allo spiazzo davanti al baraccone del Soviet tutti gli furono attorno e anche Don Camillo e Peppone andarono a ingrossare il crocchio primo a saltar giù dall'autocarro fu un ragazzotto e gli altri lo aiutarono a scaricare dal camion una motocicletta poi scese l'autista che andò a prendere ordini dal compagno Oregov e tiratosi giù il bavero di pelliccia mostrò la nota faccia di Stefan Bordoni erano arrivati i soccorsi che il ragazzotto in moto era andato a richiedere al colcos di Grevinec vennero a galla l'autista del torpedone e la compagna Nadia Petrovna non preoccupatevi spiego a Don Camillo e a Peppone la compagna Nadia dopo aver ascoltato la discussione fra Stefan e il compagno Oregov all'artel di Grevinec c'era il pezzo di ricambio e tutto andrà a posto bisognerà rimorchiare il torpedone fino a qui osservò Peppone Stefan scosse il capo e disse in russo qualcosa che la compagna Nadia tradusse non è possibile la strada è gelata e l'autocarro è leggero e non ha presa sufficiente occorre eseguire la riparazione sul posto il mio mestiere è quello di meccanico si offerse generosamente Peppone se mi date una tuta sarò ben contento di collaborare il compagno Oregov trovò la proposta di suo completo gradimento rispose che apprezzava nel suo giusto valore l'offerta di Peppone la compagna Nadia tradusse e concluse avrai subito la tuta compagno senatore due precisò Peppone indicando Don Camillo ci occorre un aiutante robusto e competente il compagno Tarocci che anche è un esperto di meccanica è l'uomo che fa per noi il compagno Oregov approvò il piano dei lavori e partì in motocicletta verso Drewinka dove esisteva un telefono e da dove avrebbe potuto avvertire l'autorità competente della necessaria variazione che aveva dovuto subire il programma compagna disse Peppone alla Petrovna ora il comando dei nostri uomini passa a te se qualcuno dovesse venire meno ai suoi doveri agisci senza pietà ti segnalo il compagno Scamoggia sorveglialo perché è pericoloso ho ripensato tutta la notte all'affronto che egli mi ha fatto confessò la compagna Petrovna è una cosa inconcepibile ed egli dovrà rendermene ragione c'era negli occhi della compagna Petrovna una fredda determinazione inoltre e ciò era grave il colcosiano napoletano aveva approfittato del suo sdegno per farle un'ondulazione che pareva pitturata oramai erano arrivate le tute Don Camillo e Peppone salirono in cabina e l'autocarro partì lo sguardo minaccioso della compagna Nadia aveva profondamente preoccupato Peppone quella donna comunicò con cautela a Don Camillo è in uno stato d'animo pericoloso io credo che se avesse l'occorrente non esiterebbe a pitturarsi le labbra e a smaltarsi le unghie sono d'accordo compagno rispose Don Camillo in politica le donne sono sempre estremiste durante il viaggio Stefan non aprì bocca e si comportò come se non capisse ciò che dicevano Peppone e Don Camillo il compagno autista del torpedone era salito dietro accucciandosi sotto il telone che copriva il pianale dell'autocarro ma Stefan prudentemente non voleva correre rischi Stefan si era portato tutti gli attrezzi necessari e una volta raggiunto il torpedone abbandonato nella solitaria stradetta si diede subito da fare il retrotreno del carrozzone venne sollevato rapidamente ma si vide subito che per sistemare le cose in modo che i puntelli non corressero il rischio di scivolare sul terreno ghiacciato occorreva un pezzo di trave il compagno autista invitato a infilarsi sotto il torpedone per incominciare il lavoro di smontaggio del differenziale si rifiutò aveva ragione da vendere e Peppone si stupì che Stefan si intestardisse e impiantasse col giovanotto una gran discussione provò ad obiettare qualcosa ma l'altro non gli diede retta e continuò a sbraitare il compagno autista non mollò e a un bel momento gli voltò le spalle e prese la strada del Colcos vai all'inferno borbottò Stefan non appena il giovanotto fu scomparso non ha torto osservò con garbo Peppone è pericoloso infilarsi lì sotto era l'unico modo per toglierselo dai piedi spiegò Stefan le sponde dell'autocarro servirono egregiamente a rendere sicuro il puntellamento e il lavoro incominciò mentre aiutato dal Peppone e Don Camillo si arrabattava ad allentare i dadi e a togliere i bulloni Stefan parlava sottovoce qui raccontò proprio in questi paraggi avvenne la famosa battaglia di Natale del 1941 gli russi parevano formiche tanti erano e gli italiani dovettero ritirarsi lasciando un sacco di morti un gruppo d'una trentina fra bersaglieri e artiglieri fu accerchiato e cadde prigioniero molti erano feriti o ammalati li portarono in un magazzino del Colcos vicino a quello di Tifiz e li chiusero lì il 26 dicembre gli italiani riacquistarono la località e li trovarono tutti morti i russi li avevano fatti fuori a raffiche di mitra li ho visti era uno spettacolo orrendo Don Camillo e Peppone continuavano a lavorare e il vento crudo gelava loro le dita raccogliemmo tutti i morti e li seppellimmo continuò Stefan se camminate per 1500 metri verso nord trovate una carareccia che parte da questa strada e va verso destra cento metri prima da arrivare alla carareccia sempre sulla destra incomincia un canale di scolo dei campi che ha sulla riva sinistra una gran siepe selvatica camminando lungo la siepe fatto un centinaio di passi si trova una gran quercia col tronco coperto d'edera il cimitero dei soldati italiani è lì in quel riquadro che ha perlati i cento metri di questa strada cento metri di carareccia cento metri di fosso e la linea parallela alla strada che parte dalla quercia e raggiunge la carareccia lavorarono tutte e tre febbrilmente per una mezz'ora senza più parlare adesso disse un certo momento Stefan posso fare da solo in caso di pericolo darò un colpo di clacson se sollevate l'edera troverete qualcosa Don Camillo partì verso nord senza un attimo di indecisione e Peppone dovete seguirlo il cielo era cupo e il vento continuava a percorrere la sconfinata pianura deserta se il vento molla osservò ad un tratto Don Camillo sarà neve venisse giù una varanga che vi seppellisse rispose Peppone ansimando adesso correvano e ad un tratto trovarono sulla destra il fosso di scolo e la grande siepe sul fondo del canale l'acqua era ghiacciata e il ghiaccio era spesso Don Camillo si lasciò scivolare dentro il fosso e continuò la sua corsa verso la grande quercia che levava al cielo l'intrico dei suoi rami nudi arrivati ai piedi della quercia risalirono alla sponda del fosso e sapersero un varco nella siepe ed ecco davanti a loro un grande campo e sulla bruna terra la peluria verde del grano rimasero tutte e due sgomenti a guardare quello squallore disperato poi Don Camillo si riscosse e voltandosi verso il grande tronco della quercia rimosse con la mano tremante l'edera che vi si era abbarbicata c'era qualcosa inciso sulla corteccia diciotto anni prima una croce e una data ventisette dodici millenovecento quarantuno è una parola breve Italia ricompose i rami d'edera pepone che lentamente si era tolto il berretto rimase a contemplare quel campo di grano ripensando alle rustiche croci che non c'erano più e alle ossa sgretolate coperte dalla terra fredda e il gelo del vento gli entrava nel cuore requiem alternam donam eis dominit lux perpetua luce ateis si riscosse e si volse ai piedi della secolare quercia don camillo celebrava la messa dei morti una messa sotto la croce che diciotto anni prima la mano di stefan aveva inciso nella corteccia della vecchia quercia il vento correva per il grande piano deserto e le tenere pianticelle di grano palpitavano figlio mio dove sei peppone ricordò un misero giornalino che aveva visto in giro e la disperata invocazione della sua testata figlio mio dove sei stefan lavorava con furore ma aveva l'orecchio intento a ogni rumore e non fu colto di sorpresa qualcuno stava arrivando dal colcos era ancora lontano mezzo miglio e subito un colpo di clacson avvertì don camillo e peppone del pericolo non era il compagno autista come stefan aveva temuto ma uno dei compagni italiani quello con le grandi orecchie a sventola camminava lentamente e appena se lo trovo vicino stefan lo neutralizzò dammi una mano compagno mentre tornano gli altri il compagno tavan si tolse il pastrano e si diede subito da fare senza discutere intanto peppone e don camillo stavano rientrando di corsa alla base dopo un quarto d'ora erano lì e peppone si fece avanti sicuro da me intimò brusco al compagno tavan il compagno tavan si ripulì le mani con uno straccio e si rimise il gabbano gironzolò il compagno il compagno tavan con molto imbarazzo tu dici delle cose giuste e io ti do ragione però sbagli quando critichi in blocco la classe contadina in città gli operai lavorano assieme sono a contatto col progresso e con la vita politica in campagna i contadini lavorano isolati e non possono avere il senso della comunità fargli capire certe cose è duro e non sempre possono capire ma c'è chi ha capito è lotta il compagno tavan con quella sua faccia ossuta e scura e quelle sue orecchie a sventola faceva un po' pena e don camillo si sentì disarmato so che sei un compagno di grande efficienza rispose forse ho parlato imprudentemente senza pensare che potevo offendere il tuo orgoglio di classe hai parlato bene stabilì il compagno tavan la classe contadina è come dici tu ma cambierà ora è impossibile perché ci sono ancora i vecchi e i vecchi in campagna contano molto essi hanno il cervello pieno di idee sbagliate ma come si fa a contraddire gente che ha passato tutta la vita ammazzandosi di lavoro il partito ha ragione ma i vecchi comandano il partito parla al cervello i vecchi parlano al cuore e molte volte anche se si hanno idee chiare il cuore fa tacere il cervello compagno sono nato da contadini e ti capisco rispose don camillo questo è il vero problema della campagna e per questo bisogna intensificare la propaganda camminarono per un po' in silenzio compagno disse ad un tratto il compagno tavan io mia moglie e i miei figli viviamo con mio padre che ha 75 anni e mia madre che ne ha 73 in un podere sperduto in mezzo alla piana che la nostra famiglia conduce a mezzadria da 150 anni mia madre e mio padre vanno in paese una volta all'anno e in città ci sono state una volta sola cosa posso spiegargli e dopo quel che è successo don camillo lo guardò interrogativamente compagno lo incoraggiò se hai qualcosa da dire dillo qui chi ti ascolta è un uomo non il partito il compagno tavan scosse il capo avevo un fratello di 5 anni minore spiegò la guerra se l'è portato via mio padre si era assegnato ma mia madre no quando ha saputo che sarei venuto qui non mi ha dato pace e ho dovuto giurarle dieci volte di fare come diceva dove è morto domandò don camillo è andato dove l'hanno mandato povero ragazzo è morto qui nella battaglia di natale del 41 il compagno tavan aveva un gatto vivo nello stomaco e se ne liberò mia madre mi ha costretto a giurarle che avrei fatto tutto il mio possibile per trovare la sua tomba e per mettere questo davanti alla sua croce don camillo vide balenarsi davanti agli occhi un lumino di cera ti capisco compagno disse ma tu come puoi trovare nei 22 milioni di chilometri quadrati dell'unione sovietica il pezzetto di terra dove è sepolto tuo fratello il compagno tavan trasse di tasca uno sciupato portafogli e vi frugò dentro con ansia ecco ansimò porgendo a don camillo una scolorita fotografia l'ha data il cappellano militare a mia madre c'è la croce col nome di mio fratello dietro c'è il nome del paese e una pianta della località precisa don camillo volse la fotografia poi la restituì al compagno tavan capisci compagno ansimò l'altro è proprio qui in questa zona io devo fare il possibile per trovarlo ma come posso domandare a questa gente dov'è il cimitero dei soldati italiani così parlando avevano percorso un bel pezzo di strada e già si vedeva la siepe e la grande quercia quella grande quercia che era chiaramente segnata nell'appunto vergato del cappellano militare dietro il cartoncino della foto spicciati ordinò don camillo accelerando il passo arrivati al fosso si arrestò un istante questa è la strada là è la carareccia questa è la siepe lungo il fosso e là è la quercia ripercorse seguito dal compagno tavana il fosso ghiacciato e risalì la sponda ai piedi della grande quercia ecco spiegò indicando il campo di tenero grano qui è sepolto tuo fratello risollevò la cortina d'edera e mostrò la croce e la data e la parola incisa sulla corteccia il compagno tavana guardava il campo di grano e la mano che stringeva il lumino tremava don camillo avanzò qualche passo nel campo di grano e chinatosi fece un buco nella terra l'altro comprese e raggiuntolo mise il lumino nel buco e lo accese rialzato si rimase a contemplarlo col berretto in mano don camillo cavò di tasca il suo coltellino e tagliò fuori dalla terra bruna una zolla con tre tenere piantine di frumento aveva in tasca il bicchierino di alluminio che gli serviva da calice ne troverò un'altra pensò mentre lo riempiva con la zolla di terra portalo a casa a tua madre disse il compagno tavana mentre gli metteva in mano il bicchiere tornarono al margine del campo sotto la quercia segnati pure compagno disse don camillo al compagno tavana mi segno anch'io si segnarono e nella sua nicchia difesa dal vento la fiammella del lumino palpitava un colpo di clacson li riportò sulla strada del ritorno poco prima di raggiungere il torpedone don camillo si fermò compagno disse con voce grave tua madre sarà contenta ma il partito non potrebbe mai approvare ciò che abbiamo fatto non me ne frega niente rispose con voce sicura il compagno tavana e maneggiava il bicchierino contenente la zolla e le piantine di frumento con infinita delicatezza come se avesse tra le grosse dita qualcosa di tenero e di vivo undici la cellula si confessa poca gente sul treno per mosca e don camillo si trovò ben presto solo nello scompartimento perché peppone vedendolo cavar fuori il famoso libretto rosso delle massime di lenin se n'era andato a far quattro chiacchiere con la compagna Nadia Petrovna e col compagno Yenke Orogov che avevano impiantato il loro ufficio nel primo reparto della vettura don camillo ripose il breviario mimetizzato e trasse di tasca l'agenda per completare i suoi appunti di viaggio giovedì ore 8 colcos tifiz stefan cimitero messa defunti compagno tavan ore 15 partenza in ferrovia giovedì appena giovedì gli pareva impossibile ma controllò sfogliando l'agenda e dovette convincersi che egli si trovava in Russia da sole 79 ore la sera stava cadendo non un albero non una casa rompevano la monotonia dell'immenso pianoro ondulato percorso dal vento soltanto campi di grano che si rincorrevano all'infinito e non era difficile immaginarli trasformati in un palpitante oceano di spighe dorate ma neppure il più smagliante sole della fantasia riusciva a scaldare il cuore gelato da quella tristezza Don Camillo pensò alla bassa alla nebbia ai campi impregnati di pioggia alle stradette fangose era un altro genere di tristezza nessun vento e nessun gelo laggiù alla bassa riuscivano a spegnere quel calore umano che emanava da tutte le cose toccate dall'uomo anche sperduto in mezzo alla campagna e sepolto dalla nebbia più densa un uomo laggiù alla bassa non si sente mai distaccato dal mondo un invisibile filo lo lega sempre agli altri uomini e alla vita e gli trasmette calore e speranza qui nessun filo lega l'uomo agli altri uomini qui un uomo è come un mattone assieme agli altri mattoni forma un muro e parte necessaria di un solido complesso cavato dal muro e buttato in mezzo a un campo non è più niente diventa un qualsiasi cosa inutile qui l'uomo isolato e disperatamente solo Don Camillo rabbrividì dove poi sarà andato a ficcarsi quel disgraziato disse tra sé pensando a Peppone la portiera dello scompartimento cigolò ed entrò il compagno Davan disturbo si informò siediti compagno gli rispose Don Camillo gli si sedette di fronte aveva in mano un rotoletto di cartoncino e dopo qualche istante di esitazione glielo mostrò si tratta ancora di soli due o tre giorni spiegò e non dovrebbero soffrire chi non avrebbe dovuto soffrire erano le tre pianticelle di frumento sistemate assieme al loro vasetto nel tubo di carta possono respirare aggiunse il compagno Davan sopra il tubo è aperto credi che occorra fare qualche buco anche nel cartone non mi pare necessario rispose Don Camillo l'importante è che tu non le tenga troppo al caldo il compagno Davan depose con cautela il rotoletto sul sedile imbottito appoggiandolo alla spalliera in modo che rimanesse ritto e dopo domandò dopo quando quando sarò tornato a casa Don Camillo si strinse nelle spalle compagno non vedo che difficoltà ci sia a trapiantare tre fili di grano la difficoltà riguarda mia madre borbottò cosa le dico le devo dire questo è il frumento che si interruppe e guardò fuori dal finestrino con ventidue milioni di chilometri quadrati di terra disse a denti stretti proprio di quel pezzettino l'avevano bisogno per seminare frumento Don Camillo scosse il capo compagno rispose che ha avuto venti milioni di morti in guerra non può far gran conto dei cinquanta o centomila morti che gli ha lasciato in casa il nemico non è un discorso che posso fare mia madre non glielo devi fare lascia che tua madre pensi alla croce di legno che ha visto nella fotografia dile che hai acceso il lumino davanti a quella croce e di quelle tre pianticelle faccio che il tuo cuore ti suggerisce se le tieni vive e ne tramandi col seme che ti daranno la vita sarà come come se tenessi vivo tuo fratello il compagno Tavan ascoltava Cupo compagno gli domandò Don Camillo cambiando registro perché mi fai fare questi discorsi impregnati di sentimentalismo borghese perché mi piace ascoltarli rispose il compagno Tavan riprendendo il suo rotolino e alzandosi prima di uscire guardò ancora fuori del finestrino 22 milioni di chilometri quadrati di terra borbottò e proprio di quel fazzoletto di terra avevano bisogno Don Camillo non rimase solo per molto tempo trascorsi cinque minuti la portiera si aprì e apparve il compagno Baccica si sedette di fronte a Don Camillo e siccome era un tipo duro e spiccio entrò subito in argomento compagno disse ci ho ripensato e riconosco che avevi ragione tu non era questo il posto per fare un traffico di quel genere mi dispiace anche delle stupidaggini che ti ho detto lungo la scala dovrei risponderti che ho sbagliato anche io portando la questione in cellula mentre avrei potuto parlarti in persona da uomo a uomo il fatto è che al magazzino il compagno Oregoff ti aveva visto trafficare e io ho dovuto intervenire perché non prendesse lui l'iniziativa il compagno Bacciga mugugnò qualcosa di incomprensibile poi osservò intanto lui si è beccata la mia stola anche se proveniva da un traffico illecito in compenso la cosa è morta lì lo consolò Don Camillo il compagno Bacciga era genovese e per lui la fede era una cosa e gli affari erano tutt'altra cosa ma chi ci ha rimesso le penne il compagno Bacciga chi rompe paga compagno lo ammonì Don Camillo giusto ma chi la convince adesso la persona che mi ha dato le calze perché lei portassi la stola di pelliccia il compagno Bacciga brontolò un poco per conto proprio e poi si sbottonò compagno parliamoci chiaro da uomo a uomo durante la festa di ieri ho visto lo scherzo che ti ha fatto il capo e ho sentito che hai una moglie tremenda ebbene se tua moglie è tremenda mia moglie lo è dieci volte di più lei mi ha costretto a imbottirmi di calze perché è lei che vuole la stola se non le porto la stola non mi salva neanche i togliatti compagno se tua moglie vede le foto di ieri sera ti fa due occhi così ebbene se io non le porto la stola mia moglie me ne abbotta quattro di occhi anche se ne ho due soli e non posso neanche farla chiamare al gruppo orionale perché è una sporca fascista e ha dalla sua parte le due figlie che sono ancora più squinternate fasciste anche loro si informò Don Camillo peggio ruggì il compagno Bacciga Udi ma di quelle udine d'assalto da far venire i capelli ricci a un calvo ti capisco disse Don Camillo come posso aiutarti compagno io bazzi con la gente del porto perché lavoro nel porto e uno che traffica lì si trova sempre qualche dollaro in saccoccia me ne sono portati un po' perché se l'America fa schifo i dollari funzionano dappertutto mi spiego fino a un certo punto compagno io per poter tornare a casa tranquillo sono disposto a sacrificare i miei dollari posso farlo o commetto un'altra sconvenienza no se paga in dollari no perché l'Unione Sovietica ha bisogno di dollari per i suoi acquisti all'estero lo immaginavo esclamò il compagno Bacciga e già che siamo in argomento hai un'idea del cambio Don Camillo era perfettamente informato al cambio ufficiale per un dollaro ti danno 4 rubli al cambio turistico per un dollaro te ne danno 10 la stampa reazionaria insiste nell'affermare che esiste anche un mercato nero del dollaro e che per un dollaro ti darebbero addirittura 20 rubli ma come ben capisci si tratta della solita lurida propaganda antisovietica naturalmente approvò il compagno Bacciga allora una volta Mosca posso agire tranquillamente sei nel tuo pieno diritto compagno e il compagno Bacciga uscì soddisfatto ma Don Camillo non riuscì come avrebbe voluto a cavar fuori il taccuino per prender nota degli ultimi avvenimenti perché apparve il compagno capece salvatore gli impacchi freddi avevano fatto effetto e il cerchio attorno al suo occhio sinistro era semplicemente di un azzurro molto sfumato compagna disse mettendosi a sedere di fronte a Don Camillo la vodka è una cosa che tu la mandi giù come se fosse grappa e invece è vodka dopo succede quel che succede ma quando è successo è successo mi spiego Don Camillo fece segno di sì compagna continuò l'altro il capo mi ha detto che poi faremo i conti mi sono pigliato una botta nell'occhio e ho qui dietro la testa un bozzo grosso guanna una noce perché mi volete ancora inguaiare mia moglie nel partito e pratica la cellula se in cellula si parla di questa sciocchiezza lei lo viene a sapere di sicuro è giovane è gelosa tu mi puoi capire compagna perché a quanto dice il capo neanche la signora tua scherza vattene tranquillo compagno lo rassicurò Don Camillo sistemerò tutto io col capo l'altro balzò in piedi e gli si illuminò il viso capece salvatore esclamò aguardandogli la mano e squassandogliela se gabedi a napole chiedi di capece salvatore mi conoscono tutti oramai le cose si erano così rapidamente complicate che Don Camillo aveva bisogno di buttare giù qualche appunto per ricordarsi ogni particolare ma era destino che non riuscisse a tirar fuori di tasca il benedetto Tacquino e difatti appena uscito il compagno capece salvatore entrò il compagno per atto era un piemontese positivo e venne subito al dunque compagno esclamò come ebbe preso posto davanti a Don Camillo ieri sera si è scherzato un po' succede sempre così quando si beve roba forte ma adesso i fumi della vodka sono spariti il capo dica quel che vuole io faccio il fotografo di professione e conosco i miei doveri ecco Tirolino con tutte le foto che ti ho scattato ieri sera mentre ballavi fanne quello che vuoi Don Camillo prese il rotolino che l'altro gli porgeva ti sono grato compagno rispose è un gesto molto simpatico il compagno per atto si alzò è una questione di etica professionale borbottò è di solidarietà ho anch'io una moglie che più diventa vecchia più diventa gelosa e ragionevole dirò al capo che Irollino ha preso luce se ne andò e quando fu uscito Don Camillo volse gli occhi al cielo signore disse dopo quello che è successo io quasi mi vergogno di non avere veramente una moglie vecchia e gelosa poi cavò fuori in fretta e furia il suo tacquino e scrisse la moglie è l'oppio dei popoli non poteva aggiungere niente altro perché in quel preciso istante venne a galla il compagno scamoggia si stravaccò nel divano di fronte a quello di Don Camillo accese una sigaretta e la mandò in distaccamento ad un'estremità della piega amara delle labbra era terribilmente serio e si capiva che profondi e angustiosi pensieri occupavano la sua mente Don Camillo lo stette a guardare un bel pezzo poi dato che l'altro non usciva dal suo riservo cavò dal taschino l'agenda e si accinse a completare le sue annotazioni compagno compagno Don Camillo ripose l'agenda qualche guaio lo incoraggiò compagno tu sei quello che è successo ieri sera non ti preoccupare lo rassicurò Don Camillo capece è stato qui un minuto fa tutto sistemato capece e cosa c'entra domandò stupito il compagno scamoggia c'entra perché il pugno nell'occhio l'ha preso lui esclamò Don Camillo borbottò lo scamoggia non se ne ricordava più e aggiunse non è di questo che volevo parlare allora non so niente di niente spiegò Don Camillo che in verità era completamente all'oscuro del resto lo scamoggia tirò qualche boccata di fumo ieri sera confessò ho avuto un momento di debolezza e mi è scappato uno schiaffone a chi? a lei Don Camillo non se l'aspettava una cosa così e sul momento non seppe cosa rispondere hai preso a schiaffi la compagna Petrovna? balbettò alla fine e perché mai? lo scamoggia spalancò le braccia desolato la Petrovna è una compagna intelligente e si renderà conto che tu avevi bevuto troppa vodka non avevo bevuto precisò lo scamoggia e lei lo sa perfettamente questo è il guaio lo scamoggia buttò per terra la sigaretta e la calpestò era profondamente depresso e fece pena a Don Camillo non drammatizziamo compagno deve essere una buona ragazza la è affermò lo scamoggia eccitandosi è bella buona e brava e io non la posso trattare come se fosse una sguadrinella qualsiasi io non posso illuderla la Russia è tremendamente lontana da Roma e Don Camillo povero e semplice prete della bassa non poteva capire il particolare modo di ragionare di un bullo di trastevere illuderla illuderla belbettò e perché amico gridò lo scamoggia scherziamo quando Nanni scamoggia dà uno schiaffone a una ragazza mica glielo dà così per l'aria che tira ti pare che Nanni scamoggia sia uno di quei mascalzoni che si divertono a maltrattare le donne Don Camillo tentennò gravemente il capo adesso capisco tu insomma hai paura che la ragazza si sia fatta l'idea che lei ti interessi già mentre in realtà la ragazza non ti interessa per niente ma tu non hai il coraggio di disilluderla appunto e allora è semplice le lasci la sua illusione in corpo e quando fra pochi giorni ti vedrà partire lei si rassegnerà lei ma io non mi rassegnerò Don Camillo si rese conto perfettamente della gravità della situazione amico esclamò se le cose stanno così io non posso darti nessun consiglio tu invece me lo puoi dare replicò lo scamoggia tu hai le idee chiare e mi puoi indirizzare per la strada giusta noi abbiamo parlato a lungo stanotte dopo il ballo non potevo lasciarla così senza una spiegazione giusto lei fra qualche mese verrà a Roma dove deve accompagnare come interprete una squadra di funzionari in gita di istruzione e allora lo scamoggia esitò amico disse guardando Don Camillo negli occhi posso fidarmi di te come se tu parlassi al confessore io non andrei mai a raccontare a un prete gli affari miei ghignò lo scamoggia fai bene compagno però ci sono stati dei preti che piuttosto di rivelare ciò che qualcuno aveva loro confidato in confessionale si sono fatti ammazzare se fossi prete io sarei uno di quelli parla lei verrà a Roma continuò a bassa voce lo scamoggia e sarebbe disposta a non tornare più a casa pur di rimanere con me si potrebbe fare una cosa del genere Don Camillo scosse il capo no rispose perentorio sarebbe un vile tradimento e il compagno scamoggia non può comportarsi da traditore tanto più che c'è una soluzione molto più naturale e pulita e quale la ragazza è in gamba e avrà senza dubbio degli appoggi importanti nel partito domattina saremo a Mosca e non farà nessuna fatica a farti autorizzare a rimanere qui e a trovarti un lavoro molti hanno fatto così l'unione sovietica ha bisogno di tecnici efficienti e di compagni di sicura fede una volta che tu ti sia sistemato qui tutto il resto diventerà facile e tu sarai a posto col tuo cuore e con la tua coscienza e non trascinerai una povera brava ragazza innamorata in una pazza avventura il volto dello scamoggia si illuminò il mio cervello non ragionava più e tu mi hai riportato sulla strada giusta che era la più semplice e esclamò non mi pento davvero di essermi filato di te ti ringrazio compagno se ne andò dopo avergli stretta vigorosamente la mano signore sussurrò Don Camillo volgendo gli occhi in su il compito del compagno buon pastore è quello di ritrovare la compagna pecorella smarrita per riportarla all'ovile del partito sbagli rispose la voce del Cristo questo è il compito del compagno demonio ma forse non era la voce del Cristo forse era il vento che percorreva la pianura deserta e sconsolata Don Camillo non indagò e lasciò la questione in sospeso anche perché in quell'istante arrivò Peppone invece di starvene qui a guardare fuori dal finestrino perché non siete venuto a parlare un po' con noi domandò Peppone compagno rispose Don Camillo un capucellula ha sempre tante cose da fare se vuole essere all'altezza del compito affidatogli dal partito Peppone lo considerò con sospetto poi scrollò le spalle diamine anche se si trattasse del demonio in persona quali guai potrebbe combinare un prete isolato chiuso in uno scompartimento di un treno che naviga nel cuore della Russia sovietica 12 nell'anticamera dell'inferno ed ecco finalmente la grande giornata del compagno Peppone avevano visitato una colossale fabbrica di trattori e un attrezzatissimo kolkos poi per 20 ore filate avevano navigato a bordo del treno in mezzo a un oceano sconfinati di fertili campi ben coltivati facendosi un'idea dell'immensa ricchezza agricola e dell'efficienza organizzativa dell'unione sovietica ma non era quella la Russia che poteva sbalordire l'occidente fino a quel momento l'occidente vergognosamente favorito dal caso aveva avuto buon gioco ma adesso la cuccagna era finita adesso l'occidente non rimaneva che sbarrare gli occhi per la meraviglia e tener chiusa la sua stramaledittissima bocca il moderno confortevole e maestoso pullman che li scarrozzava per le ampie e lindissime strade di mosca non assomigliava neppur lontanamente al carcassone sul quale avevano viaggiato lungo le fancose stradette ucraine e attraverso i terzi cristalli non si scorgevano isbe dal tetto di paglia ma grattacieli di centocinquanta e anche duecento metri d'altezza l'occidente guardava senza parlare e ogni tanto inghiottiva a vuoto non dovete lasciarvi suggestionare sussurrò peppone all'orecchio dell'occidente è tutta propaganda comunque se vi va di prendere una boccata d'aria potete fare un giretto attorno al cremlino sono appena a cinque chilometri di perimetro peppone eccitatissimo ripeteva puntualmente a don camillo le spiegazioni della compagna Nadia e vibrava nella sua voce tanto orgoglio da indurre a credere che mosca l'avesse costruita lui il compagno ienche oregov a ogni mugito di ammirazione emesso da peppone e compagni sussultava di gioia il compagno oregov non era un gelido e indifferente burocrate e per mille miserabili rubli che percepiva mensilmente dallo stato dava alla causa fede ed entusiasmo per almeno diecimila rubli si sentiva umile ma necessario come uno dei centomila mattoni che compongono il grande edificio dai muri massicci ci vogliono cento copechi per fare un rublo e mille volte mille rubli per fare un milione di rubli il copeco è soltanto la centomilionesima parte del milione ma se manca il mio copeco mai si potrà arrivare al milione di rubli così ragionava il compagno oregov e il suo non era un ragionamento peregrino perché pure avendo investito l'umile capitale d'un copeco egli si sentiva milionario il compagno il compagno copeco fremeva perciò di giustificato orgoglio ogni qualvolta che peppone e compagni emettevano un mugito di ammirazione e quando comprese che gli ospiti oramai erano statoli di cose belle comunicò loro attraverso la compagna Nadia che la prima parte della visita alla città doveva considerarsi esaurita il compagno oregov spiegò la petrovna dice che per sgranchire le gambe sarà consigliabile tornare a piedi all'albergo sono poche centinaia di metri scesero dal pullman in una piazza contornata da maestosi edifici e si avviarono come ricordandosi all'ultimo minuto di un particolare di secondaria importanza che gli era sfuggito il compagno copeco ad un tratto esclamò ah poi eseguito un rapido dietro front andò a infilarsi nella porta ad una specie di grande e basso chiosco che sorgeva nel bel mezzo della piazza gli altri lo seguirono una scala mobile li accolse e li portò giù nelle viscere della terra questa è la metropolitana spiegò la compagna Nadia quando furono tutti sbarcati dalla scala mobile la metropolitana di Mosca è l'orgoglio dell'unione sovietica e per avere un'idea di cosa essa sia bisogna pensare a un incubo assiro babilonese marmi cristalli lampadari porcellane mosaici stucchi affreschi alto rilievi basso rilievi statue quadri ceselli bronzi argenti ori ci si stupisce che gli zerbini non siano divisone peppone e soci erano rimasti come folgorati e il compagno copeco se li rimirava felice il primo a riscuotersi fu il compagno scamoggia compagna confidò con voce sommessa alla petrovna dopo di te questa è la cosa più bella che ho visto nell'unione sovietica la compagna petrovna colta alla sprovvista ebbe qualche perplessità ma subito si riprese compagno ammonì non si deve scherzare davanti a questa colossale opera del lavoro e dell'arte sovietica compagna rispose lo scamoggia io non scherzo dal modo col quale lo disse si capiva che lo scamoggia parlava sul serio e la compagna Nadia dimenticò per un istante i suoi precisi doveri di funzionario del partito e sorrise come una qualsiasi borghesuccia intanto peppone si era appiccicato alle costole di don camillo compagno esclamò sghignazzando te lo immagini cosa direbbe se fosse qui quel tale reverendo di nostra conoscenza la metropolitana adesso rigurgitava di gente i soliti uomini e le solite donne infagottati in abiti scadenti e malfatti le solite facce tristi se fosse qui rispose don camillo direbbe che è meglio mangiare una bistecca e non piatto di terracotta che una cipolla in un piatto d'oro questo è basso materialismo stabilì peppone perentoriamente ma pensava alla bistecca erano i giorni della distensione l'unione sovietica non badava a spese e aveva scelto per gli ospiti l'albergo più importante della capitale una faccenda sul tipo della metropolitana con più di mille stanze e grandi sale saloni e salotti e ascensori a non finire dopo il desinare don camillo andò a stravacarsi in una poltrona della hall per godersi lo spettacolo della gente che andava e veniva uno spettacolo straordinario perché pareva che tutte le razze del mondo si fossero date appuntamento lì essi vedevano musi gialli neri marrone grigi verdolini biancastri con tutte le sfumature intermedie e si sentivano parlare cento lingue naturalmente peppone non lasciò don camillo solo per lungo tempo e venne a sedergli si vicino è una vera babele osservò a un certo punto don camillo sembra rispose peppone pure avendo favelle diverse quegli uomini si intendono perfettamente perché ragionano tutti nello stesso modo e questa è la forza del comunismo avete visto stamattina il mausoleo di lenin con tutta la gente che aspetta il suo turno una fila che non finisce più e che è sempre così ogni giorno dalla mattina alla sera perché chiunque venga a mosca sente il bisogno di rendere omaggio all'uomo che ha portato la luce nel mondo delle tenebre e tutti gli uomini dal congolese al cinese dall'italiano al groenlandese hanno avuta la rivelazione don camillo guardò peppone sinceramente ammirato compagno gli disse quando eri sindaco queste cose non le sapevi le sapevo come le so adesso e il fatto è che non sapevo di saperle poi è subentrata l'introspezione e allora le ho trovate e puntualizzate insomma succede per Lenin quello che succedeva quando era di moda a Cristo con la differenza che mentre nel caso di Cristo si trattava di superstizione qui si tratta di ragionamento la verità era nella natura ma nascosta nel buio Lenin ha acceso la fiaccola che l'ha messa in luce e tutti hanno potuto vederla per questo chi viene a mosca sente il bisogno di pagare il suo tributo di riconoscenza a Lenin ma nel mausoleo assieme a Lenin si informò Don Camillo non c'è anche un altro tizio c'è e non c'è rispose Peppone comunque la gente fa la coda davanti al mausoleo per rendere omaggio a Lenin del resto lo vedrete Don Camillo scosse il capo non lo vedrò disse andremo tutti al mausoleo fra poco replicò Peppone così abbiamo deciso col compagno Orgoff io non ho nessun debito di riconoscenza da pagare spiegò Don Camillo io non seguo la moda e per me è ancora valida la rivelazione di Cristo Peppone soghignò un capocellula dei doveri precisi cui non si può sottrarre ma un parroco ne ha ancora di più precisi replicò Don Camillo ricordandosi appunto di questi doveri trasse di tasca una cartolina e tirato a sé un tavolino s'accinse a scriverla spero che non mi combinerete delle fesserie borbottò preoccupato Peppone forse che un compagno non può avere nella sua città un amico che abita in piazza del Vescovado ma in piazza del Vescovado c'è soltanto il Vescovado esclamò Peppone Don Camillo gli porse la cartolina come vedi spiegò ho approfittato del fatto che in piazza del Vescovado c'è soltanto il Vescovado per indirizzare la cartolina a un non meglio qualificato signore che ha lo stesso nome e cognome del Vescovo Peppone sbirciò l'indirizzo e restitui la cartolina a Don Camillo non voglio sapere niente dei vostri traffici personali compagno lo consigliò Don Camillo io se fossi in te la firmerei voi siete matto rispose Peppone e se domani dovesse tornare di moda Cristo insinuò subdolo Don Camillo Peppone agguantata la penna scarobocchiò il suo nome sotto quello di Don Camillo e restitui la cartolina lo faccio perché per quanto sia un prete il vostro Vescovo è un uomo simpatico spiegò non peraltro Don Camillo si alzò e andò a imbucare la cartolina nella cassetta che era appesa a una colonna della hall quando tornò alla base trovò tutta la squadra al completo secondo il vostro desiderio spiegò la compagna Nadia visiteremo il mausoleo di Lenin Don Camillo si incamminò assieme agli altri ma non arrivò neppure fuori dell'albergo perché inciampò e si acciacò un piede tentò ugualmente di seguire la squadra ma se Peppone non lo avesse sorretto sarebbe caduto lungo disteso rimanete e chiedete del medico dell'albergo gli disse la compagna Nadia si tratterà senz'altro di una lieve distorsione Don Camillo dimostrò ad essere in preda a sia angosciosa omigliazione che il compagno Oregoff fu costretto a fargli attraverso l'interprete un lungo e affettuoso discorso per consolarlo avrei modo di visitare il mausoleo quando tornerai gli fece dire alla fine allora Don Camillo si rassegnò e zoppicando tornò a sedersi nella sua poltrona poi si massaggiò leggermente la caviglia e siccome aveva semplicemente finto di inciampare si sentì subito meglio e tratto di tasca il famoso libretto delle massime di Lenin si immerse nella lettura trascorse così una buona mezz'ora e assorto com'era nei suoi pensieri Don Camillo dimenticò per un istante d'essere il compagno Tarocci proprio in quel preciso esatto momento una voce discreta lo chiamò Reverendo si volse di scatto era cascato nella trappola come un merlo e non tentò neppure di rabberciare il guaio nella poltrona a fianco della sua dove poco prima era seduto Peppone aveva preso posto un uomo magro e bruno sui quarant'anni non era una faccia nuova purtroppo e il nome gli venne spontaneo alle labbra com'assi l'uomo aveva spalancata davanti a sé la pravda si protese verso Don Camillo e finse di tradurgli e commentargli un articolo della prima pagina se la cavava con grande naturalezza e Don Camillo la secondò nella comediola appena entrato disse l'uomo vi ho riconosciuto anche se siete in borghese mi interessava vedere Mosca spiegò Don Camillo ma mica potevo venirci vestito da prete ah borbottò l'uomo siete ancora prete certo che cosa dovrei essere in questi ultimi tempi si è vista tanta gente volter gabbana la mia gabbana è di stoffa che non si può rivoltare e tu come ti trovi qui sono di passaggio con una commissione di compagni ciecoslovacchi io lavoro a Praga a riparto domani dopo avermi denunciato come spia del Vaticano l'uomo scosse il capo Don Camillo lo sapete che non sono un bigliacco i comassi del castelletto erano brava gente e di chiesa soltanto il giovane Athos aveva sgarrato la storia del giovane comassi assomigliava a mille altre l'8 settembre del 43 buttata via la divisa militare era tornato a casa aveva 22 anni e quando venne l'ordine di ripresentarsi alle armi il ragazzo si diede alla macchia non si seppe più niente di lui ritornò a galla nell'aprile del 45 quando dai monti scendevano le squadre dei partigiani e tanti che erano rimasti al piano ma avevano avuto l'accortezza di lasciarsi crescere la barba vi si intrufolavano il giovane comassi tornò al paese con un gran fazzoletto rosso al collo e siccome era diventato un capo prese il comando delle operazioni che consistevano soprattutto nell'andare a stanare gli agrari e nel convincerli a sputare due o tre biglietti da mille ogni ettaro dei poderi di loro proprietà volarono delle sberle e per un bel po' non accaddero porcherie grosse in un vecchio palazzo sperduto in mezzo alla piana del castelletto abitavano i conti mossoni facevano da anni vita ritirata e in tutto erano in quattro il conte di 65 anni la contessa di 70 una cameriera di 50 e un cagnetto d'età imprecisata una mattina il mezzadro che portava il solito bidoncino di latte al palazzo dei mossoni tirò in vano la catena del campanello siccome la porta era succhiusa entrò non trovò anima viva nella grande cucina c'era soltanto il cagnetto che ululava accucciato in un angolo e non si muoveva di lì neanche a trascinarlo con la forza arrivò altra gente e si scoprì che il cagnetto difendeva la botola di un antico pozzo a fior di terra il conte la contessa e la cameriera erano dentro il pozzo qualcuno durante la notte aveva vuotato la cassaforte nascosta dietro il grande quadro del salone e aveva liquidato signori e servitù almeno dieci persone avevano visto il giovane comassi partire dal paese a Serafatta assieme a tre dei suoi bulli su una millecento nera guidata da un forestiero qualcuno li aveva visti arrivare al palazzo dei conti mossoni i tre bulli erano rimasti di guardia fuori dal palazzo e non si erano mai mossi e il solo comassi e l'autista erano entrati non avevano perso molto tempo dopo venti minuti tutta la squadra risalita in macchina lasciava il palazzo poi la mattina seguente si era scoperto quel che si è detto tiravano brutte arie alla bassa e chi aveva visto dimenticò di aver visto e la triste faccenda si insabbiò ma d'improvviso nel gennaio del 1948 quando incominciò il bombardamento propagandistico per le elezioni dell'aprile in paese apparvero alle cantonate grandi manifesti che spiegavano per filo e per segno la storia dei conti mossoni con tanto di nomi per dimostrare che razza di gente fossero i rossi che volevano salire al potere i tre bulli non sapevano niente di niente e provarono con testimonianze che non erano neppure entrati nel palazzo nessuno di essi conosceva l'autista un tizio venuto di via in quanto al capo della banda per quanto lo si cercasse non fu trovato scomparso come cancellato dalla faccia della terra ed ora dopo undici anni eccolo lì seduto a fianco di Don Camillo Don Camillo guardò il comassi cosa fai a Praga? domandò pare che io abbia una bella voce e mi fanno leggere le notizie alla radio nell'emissione per l'Italia bel mestiere borbottò Don Camillo lo sanno i tuoi? non lo sa nessuno e vorrei che mia madre e mio padre sentissero la mia voce disse l'uomo bella consolazione per quei poveretti lascia almeno che ti credano morto l'uomo scosse il capo devono sapere che io sono vivo esclamò per questo appena vi ho visto mi sono avvicinato è Dio che vi manda Dio adesso ti ricordi di Dio quando hai ammazzato quei poveretti non ti ricordavi di Dio l'uomo si volse di scatto come volesse dire qualcosa poi ci ripensò capisco disse non posso pretendere che mi crediate però voi siete un prete e non potete rifiutarvi di ascoltare un cristiano che vi chiede di confessarlo la grande hall dell'albergo rigurgitava di gente d'ogni razza e d'ogni lingua musi gialli musi neri musi color cioccolata andavano e venivano parlando ad alta voce pareva l'anticamera dell'inferno ma Dio era anche lì soprattutto lì tanto è vero che la voce del Cristo risuonò all'orecchio di Don Camillo pulsate et aperie turvobis Don Camillo si segnò e si segnò anche il comassi si segnarono con studiata lentezza perché cento occhi infidi erano in agguato oltre la cortina di carta della pravda Oddio d'infinita maestà ecco ai vostri piedi il traditore che è tornato ad offendermi ma ora omigliato vi cerca perdono signore non mi scacciate non disprezzate un cuore che si umilia cor contritum et umiliatum non despicies mano a mano che Don Camillo gli rammentava la preghiera il comassi ripeteva con un filo di voce le parole sussurrate da Don Camillo poi disse ciò che doveva dire e pareva che cavasse le parole dal giornale invece le cavava dal suo cuore entrammo e li minacciammo con la pistola non volevano dire nascondiglio poi lo dissero l'altro mi disse di andare nel salone al primo piano a prendere il danaro e il loro mentre lui avrebbe tenuto a bada le due donne e il vecchio quando tornai giù l'altro era solo si prese tutto lui il danaro serviva alla causa poi il giorno in cui la faccenda venne a galla mi fecero scappare perché non ti discolpasti non posso non potevo l'altro era un pezzo grosso del partito perché non ti discolpi ora non posso è diventato ancora più importante per il partito sarebbe uno scandalo enorme e tu dopo quello che è successo ancora hai riguardo per il tuo dannato partito no ho paura se aprissi bocca mi liquiderebbero il nome il comassi esitò poi disse il nome e si trattava di un nome tanto grosso che tolse il fiato a Don Camillo nessuno deve sapere niente di quanto l'ho detto ma voglio che mia madre e mio padre sappiano che non sono un assassino voi li potete convincere mi ascoltino non per le cose che dico ma per sentire la mia voce mi parà d'essere vivo perché adesso mi pare d'essere un morto che parla al deserto si frugò nella tasca interna della giacca e ne trasse una busta suggellata che cautamente infilò nella tasca di Don Camillo qui c'è tutta la storia firmata da me non dovete aprire la busta fate in modo che l'altro sappia che l'avete voi e che io voglio tornare a casa il comassi era impallidito e la disperazione vibrava nella sua voce ego ti absolvo il comassi aveva riacquistato la sua calma ripiegò il giornale e lo porse a Don Camillo tenetelo per ricordo mai prete ebbe confessionale più strano dimenticate quello che vi ho detto a proposito della lettera è stato un momento di debolezza non c'è niente da fare nessuno torna indietro non è detto compagno a rispose Don Camillo Dio se non sbaglio ha una succursale anche a Praga Dio è bene organizzato tuo padre e tua madre ti ascolteranno ti ascolterò anch'io non per le stupidaggini che dirai ma per sentire la tua voce il comassi si alzò Dio sussurrò chi mai avrebbe potuto pensare che qualcuno mi avrebbe parlato di Dio in quest'inferno Dio ha succursali dappertutto compagno ripetè Don Camillo anche a Mosca Dio è bene organizzato vecchia azienda ma sempre efficiente 13 il dolce caffè della compagna Nadia compagno sono nei guai disse lo scamogge ognuno ha i propri guai e bisogna che si ritenga gli rispose Don Camillo non si tratta di guai miei spiegò lo scamogge è una grana che hanno rifilato a me e io la devo passare a te che sei il mio diretto superiore poi tu la passerai al capo e il capo a chi crederà meglio secondo la via gerarchica Don Camillo che annoiatosi della Babilonia e della Hall si era ritirato nella sua stanza buttandosi sopra il letto si tirò su se si tratta di una questione ufficiale disse siediti e parla lo scamoggia si strinse nelle spalle io ti racconto come stanno le cose tu poi stabilirai se si tratta di una faccenda ufficiale o no tu conosci il compagno Gibetti certo che lo conosco esclamò Don Camillo in verità Don Camillo del compagno Gibetti sapeva soltanto quello che aveva letto sul ruolino di marcia di Peppone Toscano anni 40 elettrotecnico capo di formazioni partigiane con molte azioni importanti al suo attivo attivista preparatissimo efficientissimo sicurissimo molto e niente in definitiva perché il compagno Gibetti era uno dei tre eletti che mai avevano scoperto le carte come il siciliano l'ifriddi e il sardo Curullu il compagno Gibetti sempre si era tenuto abbottonatissimo controllando diligentemente ogni suo gesto e ogni sua parola Gibetti mi piace continuò lo scamoggia è un duro come me e te un uomo d'azione che chiacchiera poco in montagna ha fatto cose grandi rischiando mille volte la pelle lo so affermò Don Camillo sai pure che durante la guerra ha combattuto qui nei paraggi di Stalino visto come si è comportato dal settembre del 43 in poi esclamò Don Camillo questo non significa niente d'accordo compagno replicò lo scamoggia non significa niente però nel caso di Gibetti significa qualcosa per esempio domandò Don Camillo per esempio che lui a quei tempi aveva 23 anni e quindi nonostante la propaganda si sentiva portato a fraternizzare col nemico e quando il nemico è un magnifico pezzo di ragazza di 17 anni tu mi capisci che è affare di un momento esagerare nella fraternizzazione insomma esagerarono tutte e due e poi venne la ritirata e buonanotte al secchio Don Camillo spalancò le braccia compagno non è una bella storia ma la guerra è piena di tristi storie come questa in tutte le parti del mondo ci sono ragazze che per una ragione o per l'altra hanno fraternizzato un po' troppo con soldati stranieri di passaggio sì ammise lo scamoggia però è difficile trovare uno di quegli ex soldati di passaggio che dopo 17 anni pensi ancora disperatamente alla ragazza straniera con la quale ha fraternizzato durante la guerra il gibetti è uno di questi fenomeni il compagno scamoggia contemplò in silenzio il fumo della sua sigaretta poi riprese ma raccontato tutto lui si voleva portare via la ragazza l'aveva fatta travestire da soldato e con l'aiuto dei compagni era riuscito a percorrere già un bel po' di chilometri poi ha dovuto rimandarla indietro perché il suo reparto stava per essere insaccato dai russi e lui non voleva che la ragazza corresse il rischio di prendersi una pallottola le diede tutta la galletta e le scatolette di carne che poter cimolare fra i compagni e la lasciò in un'isma diroccata ordinandole di nascondersi lì ed aspettare se fossero riusciti a liberarsi dalla sacca sarebbe venuto a riprenderla se invece vedi che ci fanno fuori o ci catturano le disse aspetta che tutto sia calmo e torna a casa se ti scoprono racconta che i soldati italiani ti avevano rapito la battaglia durò tre giorni e fu una cosa dura ma alla fine i russi dovettero ritirarsi per non essere insaccati a loro volta il gibetti ritrovò l'isba ma la ragazza non c'era più tornò in Italia col chiodo della ragazza piantato nel cervello dopo l'otto settembre andò in montagna dove fece quel che sappiamo sempre col pensiero della ragazza nella testa e con l'idea di tornare e di ritrovarla dopo la guerra si trattava di una faccenda delicata anche se la guerra alla Russia non l'aveva voluta lui riuscì semplicemente a far spedire da Mosca quattro o cinque lettere approfittando di qualche compagno che andava in Russia forse le lettere non sono state imbucate forse non sono arrivate a destinazione il fatto è che non ebbe mai risposta finalmente dopo 17 anni ecco l'occasione di venire lui personalmente in Russia e nel momento più favorevole nel primo programma c'era compresa una visita a Stalino la ragazza abita in un villaggio vicino a Stalino e il gibetti partendo aveva la sicurezza di farcela poi cambiato il programma si è trovato inguaiato fino agli occhi e si è confidato con me mi ha raccontato tutta la storia tu hai confidenza con la compagna Nadia mi ha detto alla fine vedi se puoi raccomandarmi io voglio fermarmi qui sono deciso a tutto pur di ritrovare quella ragazza ho risposto che lasciasse fare a me e poi mi sarei mangiata la lingua ho raccontato alla compagna Nadia tutto da A alla Z è una donna con la testa sulle spalle e ha stabilito che prima di ogni altra cosa bisognava conoscere la situazione della ragazza le ho dato il nome e l'indirizzo della ragazza e lei ha immediatamente scritto a un amico che è un pezzo grosso a stalino lo scamoggia si interruppe trasse di tasca un foglietto dattilografato e lo porse a Don Camillo spiegando oggi è arrivata la risposta Don Camillo rigirò fra le mani il foglietto scuotendo il capo per me è come se non ci fosse niente borbottò non conosco il russo c'è anche la traduzione italiana aggiunse lo scamoggia porgendogli un altro foglietto scritto a lapis diceva a poco la ragazza era stata scoperta in un'isba presso le linee nemiche da un reparto sovietico motorizzato indossava un cappotto militare italiano disse di essere riuscita a sfuggire agli italiani che l'avevano trascinata con loro ritirandosi dal villaggio di K riportata a K e consegnata al capovillaggio la ragazza era stata accusata di aver seguito di sua volontà il nemico processata regolarmente per collaborazionismo era stata fucilata io affermò deciso lo scamoggia al gibetti non lo dico di sicuro tu regolati come credi compagno se ritieni opportuno fargli sapere che i russi gli hanno ammazzata la ragazza diglielo se non glielo dici tieni presente che lui è disposto a tutto anche a scappare pur di rimanere qui io me ne lavo le mani il compagno scamoggia se ne andò lasciandolo solo figuriamoci se proprio nell'unione sovietica non ci sono in giro dei piccoli emissari del demonio Don Camillo se ne trovò subito uno tra i piedi che gli tirava l'orlo di quella sottana che egli spiritualmente sempre indossava un maledetto cianfero che s'affannava suggerirgli coraggio reverendo liquida anche il compagno gibetti Don Camillo si liberò con una zampata del piccolo satanasso e siccome in quel momento Peppone entrava nella stanza lo affrontò compagno gli disse mettendogli in mano i due foglietti obi maior minor cessat come me l'hanno data ti passo la grana poi siccome i due foglietti non bastavano a chiarire la faccenda Don Camillo spiegò a Peppone la storia per filo e per segno e alla fine Peppone chiuse a doppia mandata la porta si sfogò dieci ruggì dieci che dovevano essere i migliorissimi dei migliori rondella viene in Russia per piantare grane e si fa rispedire a casa scamoggia viene qui col profumo in tasca per fare il casa nova capece per fargli concorrenza bacciga per trafficare al mercato nero tavan per mettere il lumino sulla tomba di suo fratello per atto per fare delle fotografie da dare all'unità e per farne delle altre da vendere ai porci giornali capitalisti lui crede di fregarmi ma me ne sono accorto adesso anche Givetti quello che pareva il compagno modello scopre le batterie ma è possibile che non uno dei dieci sia venuto qui solo perché gli interessava di vedere l'unione sovietica tutti dunque hanno dei maledetti interessi personali Don Camillo cercò di consolarlo sei ingiusto compagno Corullo e Liffreddi sembrano compagni pieni di fede sincera e disinteressati bella roba due macachi che non aprono mai bocca e non dicono neanche bondi per non compromettersi dimentichi il compagno Tarocci insistè spietato Don Camillo Tarocci borbottò perplesso Peppone quale Tarocci poi si ricordò e piantandosi a gambe larghe davanti a Don Camillo gli sventolò sotto il naso un indice fremente di indignazione voi ansimo voi mi farete tornare a casa col mal di cuore gli mancò il fiato e si sfasciò sul letto aveva perso ogni aggressività parlava con fatica m'avete ricattato disse m'avete impecolato in una sporca faccenda che se la si risapesse mi renderebbe ridicolo davanti al mondo intero e da quando vi ho incontrato sul tram a Roma che io sto vivendo le peggiori ore della mia vita da quel momento tutte le volte che vi vedo aprir bocca mi si ferma il cuore il mangiare mi si pianta sullo stomaco come cemento di notte passo da un incubo all'altro e la mattina mi alzo con le ossa rotte peppone si asciugò il sudore che gli grondava dalla fronte se volevate buttarmi a terra per divertirvi divertitevi solo a terra don camillo non aveva mai visto peppone ridotto quel punto non aveva mai neppure pensato che peppone potesse ridursi così e provò una pena mai provata dio mi testimone che non ho mai pensato a farti del male esclamò peppone si asciugò ancora il sudore e allora perché mi avete costretto a recitare questa sporca commedia adesso non c'è più la cortina di ferro avete visto in giro forestieri di tutte le razze non potevate travestirvi da da uomo e venire qui per conto vostro come turista i quattrini ve ne avrei dati io in questo modo pur non avendo sborsato quattrini il ricatto mi è costato centomila volte di più e non è finita oppure volevate avere la soddisfazione di venire a spese dell'unione sovietica don camillo scosse il capo no io non volevo vedere la russia con gli occhi del turista mi interessava vederla coi tuoi occhi coi vostri occhi altro è vedere un'opera stando in un palco e in platea altro è vederla stando fra le comparse del coro compagno i casi sono due o diventando senatore hai versato il cervello all'ammasso del partito oppure devi ammettere che io ho agito così per una ragione onesta non per cattiveria peppone salzò e avvicinatosi al panchetto sul quale era appoggiata la sua valigia allungò la mano per aprirla ma subito la ritrasse tornando sconsolato alla base di partenza ma avete privato perfino del conforto del cognac esclamò con amarezza cosa credete di averci guadagnato regalando dal compagno Orygov niente riconobbe Don Camillo anzi ci ho perso anche io perché adesso mi tocca darti del mio una bottiglia di vecchio cognac salto fuori dalla valigia di Don Camillo e dopo averne mandato giù un buon bicchiere peppone superò la sua crisi e allora si informò Don Camillo mostrandogli i due bigliettini cosa hai deciso di fare arrangiatevi rispose peppone io non so niente e non voglio sapere niente Don Camillo uscì e trovò il compagno gibetti solo nella sua stanza non fece preamboli il compagno scamoggia doveva portarti una brutta notizia e non so se l'hai sentita te la porto io il gibetti che era sdraiato sul letto balzò in piedi dimentica quella ragazza gli disse Don Camillo è sposata con cinque figli è impossibile esclamò il gibetti compagno tu conosci il russo è vero no e come facevi a fraternizzare con la ragazza ci si capiva senza parlare è per mandarle le lettere come hai fatto sapevo come si scrive il nome suo e quello del suo paese e mi ero fatto insegnare come si scrive ti penso sempre tornerò rispondimi lei aveva il mio indirizzo Don Camillo trasse di tasca il foglietto scritto a macchina e glielo porse qui c'è il rapporto che hanno mandato di là spiegò te lo puoi far tradurre e ci troverai quello che t'ho detto io il gibetti scorse avidamente le poche righe il nome è il suo ed è anche giusto quello del paese esclamò è giusto anche il resto che t'ho detto io comunque se non ci credi una volta a casa ti sarà facile controllare il gibetti piegò accuratamente il foglietto e lo ripose nel portafogli non farò controllare niente esclamò mi fido di te è impossibile ma quando una donna dovesse farmi girare la testa guarderò questo foglietto e mi passerà tutto sorrise con tristezza compagno continuò dopo un istante di esitazione tu conosci il mio stato di servizio sì ebbene voglio dirti una cosa in confidenza io ho fatto tutto ciò che ho fatto e molte cose avrei dovuto non farle soprattutto per guadagnarmi il diritto di tornare qui e di ritrovare la ragazza adesso secondo te come dovrei regolarmi continuo a combattere per la causa la mia causa si chiamava Sonia e non è più mia ma ad un altro Don Camillo si strinse nelle spalle ripensaci con maggior calma compagno lo consigliò ad ogni buon conto io ora ho parlato come amico non come compagno il compagno non sa niente di questo affare il guaio è che lo so io borbottò il gibetti ributtandosi sul letto si ritrovarono a tavola per la cena e c'erano tutti eccettuato il gibetti che mandò a dire soffriva di stomaco il compagno Oregoff era particolarmente soddisfatto perché ogni cosa aveva funzionato nel migliore dei modi il compagno Bacciga che sedeva a fianco di Don Camillo a un bel momento trovò il modo di comunicargli in via riservatissima fatto compagno e come riuscirai a passare la dogana una volta in Italia si informò con pari discrezione Don Camillo difficile far passare una stola di visone per un indumento maschile la cucirò al bavero del palto milione di palto maschili hanno il bavero di pelo i giornali reazionari come al solito raccontano delle balle non lo metto in dubbio rispose Don Camillo non capisco però che cosa c'entrano col tuo affare tu mi hai detto che secondo la stampa reazionaria a Mosca per un dollaro si potevano avere 20 rubli ebbene sono palle per un dollaro me ne hanno dati 26 la vodka incominciava a circolare e la conversazione si faceva sempre più animata compagno Tarocci disse a un bel momento lo scamoggia Don Camillo hai perso molto a non venire con noi la visita al mausoleo di Lenin è stata una cosa indimenticabile ha ragione approvò il compagno curullo che sedeva negli immediati paraggi trovarsi lì dove riposa Stalin fa un certo effetto non parlare di Stalin in casa del destalinizzato Don Camillo intervenne con molta diplomazia per forza esclamò ricordo l'impressione che ho provata a Parigi vedendo la tomba di Napoleone e Napoleone non era che un povero ometto confronto a un colosso come Lenin il compagno curullo spalleggiato dalla compagna vodka non era disposto a rinunciare a niente Stalin affermò cupo Stalin quello è un colosso ben detto compagno esclamò più cupo ancora il compagno Lifriddi un colosso Stalin fece la grandezza dell'unione sovietica Stalin vinse la guerra oggi in mezzo ai lavoratori che aspettavano di entrare al mausoleo comunicò il compagno curullo dopo aver mandato giù un bicchiere di vodka c'erano anche delle turiste americane vestite come se fosse carnevale pareva che aspettassero di andare alla prima di Marilyn Moreau pettegole cretine ben detto compagno lo approvò Lifriddi schifo mi fecero Mosca non è Monte Carlo non si va a Mosca come si va a Capri con Stalin quelle cornacchie non sarebbero venute a gracchiare qui stabilì il compagno curullo con Stalin i capitalisti tremavano di paura per quanto Peppone lodevolmente aiutato dalla compagna Nadia cercasse di distrarre il compagno Oregoff a un bel momento e il compagno Oregoff drezzò le orecchie e la compagna Petrovna dovette spiegargli su cosa stessero discutendo i compagni dell'altro versante allora il compagno Oregoff strinse le mascelle si fece attento e la compagna Nadia fu costretta a tradurgli ogni cosa parola per parola Peppone lanciò con gli occhi un angoscioso S.O.S. a Don Camillo compagni intervenne con calma Don Camillo rivolto ai due isolani nessuno mette in dubbio i meriti dell'uomo semmai si mette in dubbio l'opportunità di parlare di lui in questo momento è sempre opportuno dire la verità esclamò testardo il compagno Kurullu e la verità è che oggi anche se l'unione sovietica ha conquistato la luna non c'è più nel nostro partito quell'impeto rivoluzionario che esisteva prima e così abbiamo perso 250.000 iscritti la politica deve adeguarsi alla situazione particolare del momento tentò di obiettare timidamente Don Camillo bisogna guardare al risultato finale il risultato finale è che Stalin otteneva ciò che voleva senza scomodarsi a uscire dall'unione sovietica affermò il compagno Kurullu Don Camillo si ritirò ormai era la vodka a parlare non più i compagni e la vodka non ragiona e poi oltre a Kurullu e l'ifriddi la nostalgia di Stalin aveva poco alla volta preso tutti gli altri eccettuato Peppone che con le mascelle serrate e coi nervi tesi aspettava lo scoppio della bomba e la bomba ad un tratto scoppiò dopo aver parlottato concitatamente con la compagna Nadia il compagno Orekov pestò un gran pugno sulla tavola e balzò in piedi gli occhi gli lampeggiavano era pallido come un morto e faceva paura tutti i tacchi erano raggelati e nel silenzio il compagno Orekov disse con un italiano ostentato ma anche troppo comprensibile Viva il grande Stalin levò il bicchiere colmo di vodka e tutti balzarono in piedi levando il bicchiere Viva! risposero tutti a una sola voce il compagno Orekov ingollò la vodka in un sol fiato e gli altri lo imitarono poi fracassò il bicchiere buttandolo per terra e gli altri fecero lo stesso quindi la compagna Nadia disse il compagno Orekov augura buonanotte e compagni italiani fu tutto e l'assemblea si sciolse senza una parola mentre stavano avviandosi ultimi della banda verso la scala Don Camillo e Peppone furono bloccati dalla Petrovna compagni disse posso avere l'onore di offrire un caffè? la guardarono perplessi tenterò di fare un caffè all'italiana spiegò sorridendo la compagna Nadia la mia casa non è molto lontana da qui dietro ai palazzoni imperiali e i grattacieli all'americana c'era la mosca proletaria e la compagna Nadia abitava al terzo piano di un casamento squallido con le scale semibuie che puzzavano di cavoli e di fritto l'appartamento consisteva in una stanza con due divani alla turca una tavola quattro sedie un armadio e un tavolinetto sul quale troneggiava un apparecchio radio qualche tendina qualche paralume coi fiocchetti qualche quadretto un tappeto si sforzavano di tenere su il tono generale della faccenda ma non ci riuscivano questa è la compagna che vive con me spiegò Nadia presentando a Peppone e a Don Camillo la ragazza che era venuta ad aprire la porta e che per quanto più attempata più massiccia e più rustica della Petrovna pareva fabbricata con lo stesso stampo è interprete di lingua francese aggiunse ma capisce perfettamente anche l'italiano e lo parla discretamente bene la caffettiera era già pronta su una spiritiera in mezzo alla tavola facciamo qui spiegò la compagna Nadia perché la cucina è in comune con l'altra famiglia e per raggiungerla bisogna attraversare piene rottolo il caffè risultò inaspettatamente buono e la compagna Nadia parve molto sensibile alle lode di Peppone e Don Camillo spero che vi sia piaciuta la nostra grande Russia disse la compagna Nadia quando l'argomento del caffè fu esaurito Peppone eccitatissimo incominciò a spiegarle tutte le meraviglie che aveva visto e a un bel momento l'amica di Nadia lo interruppe ridendo noi conosciamo questo esclamò perché non ci parlate dell'Italia Peppone spalancò le braccia compagne disse l'Italia è un piccolo paese che sarebbe bello se non fosse infestato da preti e capitalisti ma non c'è proprio libertà si infermò la compagna Nadia apparentemente è un paese libero spiegò Peppone ma è tutto controllato dai preti i preti hanno spie dappertutto quando noi torneremo i preti sapranno per filo e per segno ciò che noi abbiamo fatto è detto qui possibile si stupì l'amica della compagna Nadia spiegaglielo tu compagno disse Peppone rivolto a Don Camillo è la pura verità ammise onestamente Don Camillo lo giuro è terribile esclamò la compagna Nadia e come vive il lavoratore medio per esempio un lavoratore sul tipo del compagno Scamoggia conto guadagna Scamoggia non è da considerare un lavoratore medio precisò Peppone il compagno Scamoggia è un meccanico specializzato una piccola officina sua con vasta clientela e guadagna bene pressa poco domandò con indifferenza la compagna Nadia Peppone eseguì mentalmente i suoi calcoli e rispose calcolando il rublo a 30 lire circa 7000 rubli al mese le due ragazze parlottarono un po' in russo fra loro poi la compagna Nadia disse a Peppone tutto dipende dal potere d'acquisto della lira quanto costerebbe in rubli un vestito da uomo quanto un paio di scarpe dipende dalla qualità spiegò Don Camillo un paio di scarpe da 70 a 350 rubli un abito da 700 a 1400 Peppone indossava un favoloso doppio petto blu da senatore e l'amica della compagna Nadia toccò la morbida stoffa di una manica questo per esempio si informò 40.000 rispose Peppone 1350 rubli circa tradusse Don Camillo ma Scamoggia insistè Peppone è un caso particolare Scamoggia non è un semplice operaio Scamoggia 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 gridò ridendo l'amica della compagna Nadia sempre Scamoggia sarebbe per caso quell'orribile individuo che si è comportato tanto male al colcos di Tifitz non capisco come un uomo così cattivo venga tenuto nel partito non è cattivo protestò Peppone è un compagno intelligente efficiente e di fede sicura è il suo modo di fare che inganna cattiva educazione è ricevuta anche una cattiva famiglia allora insistè l'amica della compagna Nadia no stabilì Categorico Peppone la sua famiglia è composta di bravissima gente voi non potete capire perché non avete vissuto a Roma gli uomini romani fuori di casa si danno arie da stramaledetti poi in casa non aprono la bocca perché hanno una paura tremenda della moglie ma anche scamoggia paura della moglie domandò l'amica della compagna Nadia no ridacchiò Peppone non ancora perché non è ammogliato poi una volta sposato farà come tutti gli altri intervenne la compagna Nadia e chiese raguaglie sull'industria pesante e sulla produzione agrumaria italiana Peppone era preparatissimo e sparò raffiche di cifre la compagna Nadia lo ascoltò con estrema attenzione e volle ad ogni costo preparare un altro caffè si offrì infine di ricondurli all'albergo ma essi rifiutarono e tornarono alla base da soli lungo la strada Peppone affermò che difficilmente in Italia si sarebbero potute trovare donne di tanta maturità politica come la compagna Nadia e la sua amica cosa importa le donne italiane dell'industria pesante e della produzione frutticola dell'urs esclamò Peppone niente rispose Don Camillo alle donne italiane interessa semplicemente di sapere chi è il giovanotto che le corteggia e se è sposato o no e cosa fa e cosa guadagna e che carattere ha e da quale famiglia proviene e stupidacini del genere Peppone si fermò come colto da un sospetto voi vorreste forse insinuare che non ci penso neanche lo interruppe Don Camillo figurati se posso pensare che un senatore comunista venga a Mosca per fare il mediatore di matrimoni egli è qui per servire la causa non compagni da marito si rugì Peppone potete ben dirlo né le compagne da marito né quelle maritate anche se a sentire mia moglie io dovrei approfittare dell'occasione per portarle a casa una pelliccia come quella della compagna Neil de Giotti era una cosa che gli stava nello stomaco e adesso che l'aveva sputata fuori si sentì più leggero erano le dieci di sera un vento gelato spazzava le strade spopolate e Mosca pareva la capitale della tristezza sovietica 14 il naufraggio del compagno Oregov lasciarono Mosca all'alba e uscendo dalla città sul torpedone diretto all'aeroporto incontrarono soltanto le donne addette alla pulizia delle strade lavavano l'asfalto con grandi getti d'acqua e perfezionavano con le scope l'opera delle moderne macchine spazzatrici che erano pure manovrate da ragazze e madri di famiglia Don Camillo fece discretamente notare a Peppone come quelle donne rivelassero in ogni loro gesto l'intima soddisfazione di aver conquistato diritti pari a quelli degli uomini è uno spettacolo confortante concluse Don Camillo che si può godere soltanto nell'unione sovietica sarà ancora più confortante quello che si potrà godere da noi quando assegneremo questo lavoro ai preti replicò Peppone confidenzialmente un vento gelato che puzzava di Siberia correva prepotente per le grandi strade deserte ma la sconfinata piazza rossa trovava pane per i suoi denti da lupo in un primo momento si aveva l'idea di fagotti di stracci messi lì in fila in attesa del camion della spazzatura invece si trattava di pellegrini in attesa dell'apertura del santuario arrivati dall'Uzbekistan dalla Georgia da Irkosk o da Dio sa dove e scodellati alla stazione di Mosca nel cuor della notte cittadini di tutte le repubbliche sovietiche erano venuti ad accamparsi davanti al mausoleo di Lenin e Stalin e aspettavano pazienti seduti sulle loro sacche da viaggio stringendosi l'uno all'altro come pecore costrette a pernottare all'adiaccio compagno confidò Don Camillo a Peppone come è tutto diverso dai tempi esecrabili in cui i poveri mugichi arrivati da ogni parte della Russia sui loro rozzi e lenti carri bivaccavano nei paraggi del palazzo imperiale aspettando giorni interi per vedere lo zar e la nuova zarina diversa cosa è lo schiavo che viene a far atto di sottomissione al tiranno precisò Peppone a mezza bocca diversa cosa è il cittadino libero che viene a ringraziare chi l'ha liberato senza contare aggiunse Don Camillo che magari molti vengono qui per assicurarsi che Lenin e Stalin sono morti sul serio Peppone si volse sorridendo e spiegò sottovoce a Don Camillo quando penso che verso la mezzanotte di domani vi scaricherò alla stazione di Milano e devo darmi dei pizzicotti per convincermi che non si tratta di un sogno divertitevi pure vi restano soltanto poche ore oramai l'avventura era finita alle nove l'aereo li avrebbe sbarcati a esse qui visitato il cantiere navale a mezzogiorno sarebbero saliti su un battello per raggiungere in tre ore la città di O da dove alle 17 doveva decollare l'aereo per Berlino l'idea della gita in battello era del compagno Oregov i compagni italiani avevano viaggiato in aereo in treno in automobile in tram in filobus sulla metropolitana per rendersi conto dell'efficienza dei trasporti sovietici mancava un viaggetto via mare la proposta era stata approvata dalla competente autorità cosa questa che aveva riempito di giustificato compiacimento il compagno Oregov alle nove in punto l'aereo atterrava al campo di S un campo adeguato alla scarsa importanza di S piccola città la cui esistenza era giustificata soltanto dal cantiere navale nel porto che ampio e ben difeso serviva da ricovero alle navi in attesa di riparazioni stava alla fonda naviglio di ogni genere e il compagno Bacciga genovese marinaio ritrovandosi nel suo elemento acquistò una scioltezza di favella che mai aveva dimostrato di possedere fra le navi di ogni età spiccava una petroliera nuova di zecca il compagno Bacciga ne stabilì tonnellaggio e particolarità tecniche con tanta sicurezza da convincere il compagno Oregov che gli ospiti potevano benissimo arraggiarsi senza di lui perciò li affidò alla sorveglianza della compagna Nadia e andò al cantiere per concordare i dettagli della visita il compagno Bacciga era formidabile aveva una risposta precisa per ogni domanda del compagno e di tanto in tanto esclamava fabbricare i navi è il nostro mestiere ma anche loro accidenti se ci sanno fare Don Camillo lo guattava e a un bel momento quando il compagno Bacciga riattaccò il ritornello intervenne ci sanno fare sì affermò e non è che abbiano imparato adesso guardate quel tre alberi là a destra non è un gioiello i compagni seguendo Don Camillo si spostarono lungo il molo fino a quando non ebbero trovato il punto dal quale il veliero poteva essere visto tutto intero e qui si fermarono riconoscendo che Don Camillo aveva mille volte ragione la nave pareva saltata fuori da una nitida e preziosa stampa ottocentesca avevano appena finito di riverniciarla e così luccicante linda e rifinita in ogni minimo particolare dava l'idea di essere nuova di zecca è ammirevole quanto amore dei sovietici per tutto questo testimonia il nobile passato della grande Russia si entusiasmò Don Camillo compagni non basta forse quel veliero per dimostrare la gloriosa tradizione russa nel campo delle costruzioni navali Don Camillo rimase qualche istante in silenzio a rimirare quel gioiello scintillante quindi si volse verso il compagno Bacciga compagno marinaio da secoli siamo maestri nel fabbricare navi però bisogna onestamente riconoscere che per vedere un capolavoro del genere dovevamo venire nell'unione sovietica sopraggiunse la compagna Nadia che aveva assunto informazioni da un operaio di passaggio si chiamò Tovarish spiegò ed è una nave scuola dei cadetti della marina sovietica 4.000 tonnellate 3.000 tonnellate precisò il compagno Bacciga volgendosi di scatto e guardando la Petrovna a muso duro si chiamava Cristoforo Colombo ed era una nave scuola dei cadetti della marina italiana la compagna Nadia arrossì scusami compagno balbetò poi siccome il compagno Oregoff stava arrivando in compagnia di un funzionario del cantiere si allontanò per andare a prendere ordini Peppone agguantò per un gomito Don Camillo e lo trasse in disparte possibile gli disse a denti stretti che non riuscite mai a tenere chiusa quella vostra sacrile cabocca bella gaff che avete fatto non è mica stata una gaff rispose con calma Don Camillo lo sapevo perfettamente che quello là è il nostro Cristoforo Colombo quando ce l'hanno portato via assieme alla Giulio Cesare è venuto un magone così per fortuna il compagno Bacciga era lì vicino e Peppone si sfogò con lui non potevi startene zitto lo rimproverò sottovoce capo e come facevo l'avevo riconosciuto un bravo compagno avrebbe evitato di riconoscerlo affermò categorico Peppone oltre a essere un compagno sono anche un marinaio spiegò il Bacciga e con questo è tutta acqua compagno borbottò il Bacciga ma il mare è una cosa diversa dal po e io non posso guardare la Colombo come tu guarderesti una chiatta del ponte di Viadana i marinai della corazzata Potemkin ragionavano diversamente da te osservò con sarcasmo Peppone i marinai della corazzata Potemkin non erano genovesi replicò il compagno Bacciga Alle undici con la zucca piena di dati statistici Peppone e compagni lasciavano il cantiere Mancava un'ora la partenza del battello e mentre la banda guidata dalla compagna Nadia compiva un giro turistico della città il compagno Oregoff il compagno Peppone e il compagno Don Camillo si ritiravano nello stanzone fumoso di una cantina operaia del porto Il primo per aggiornare il suo rapporto gli altri due per prepararsi spiritualmente alla traversata che con quel ventaccio arrivato improvvisamente da Dio sa dove e quel cielo nel quale andavano addensandosi preoccupanti nuvole non prometteva niente di buono La cantina era lurida ma la grappa eccellente e al secondo giro Peppone si confidò Ho paura di soffrire e mal di mare e voi? Non ci penso neppure a rispose Don Camillo Sono quasi duemila anni che i preti navigano in mezzo alle tempeste più tremende e se la sono sempre cavata benone Voglio vedere se farete lo spiritoso quando sarete sulla barca replicò Peppone Cupo Don Camillo trasse di tasca il libretto delle massime di Lenin Qui dentro c'è tutto spiegò anche la ricetta contro la paura Il vento freddo riportò di lì a poco la banda all'ovile non avevano la faccia della gente che si è divertita molto ma il più nero di tutti era il compagno Curullu Presero tutti posto la tavola di Peppone Don Camillo e ritrovato in fondo a un rispettabile bicchiere di vodka all'uso della favella il compagno Curullu vuotò il sacco Compagno disse a Don Camillo sai di dove veniamo? Don Camillo ripose il suo breviario Da una chiesa spiegò il compagno Curullu e sai che cosa stavano facendo in quella chiesa? Don Camillo si strinse nelle spalle Due disgraziati si stavano sposando gredò eccitato il compagno Curullu si stavano sposando con tanto di prete e relative porcherie si volse verso il compagno Scamoggia e tu sghignazzò che eri venuto qui per avere la consolazione di non incontrare mai un prete altro che prete bello grasso era e addobbato meglio dei nostri e gli sposini? tutti inghingheri con le manine giunte e il sorriso angelico come due maccacchi dell'azione cattolica roba da far venire e volta a stomaco nell'unione sovietica una schifezza del genere roggi indignato il compagno Lifriddi come fossimo nell'ultimo paesucolo siciliano volevano una risposta da Don Camillo ed egli rispose compagni disse la costituzione sovietica permette al cittadino di professare la religione che meglio crede e i preti purché non guastino con insegnamenti religiosi la gioventù fino ai 18 anni sono liberi di fare il loro mestiere questa non è una novità è il Vaticano che ha messo in giro la storia della lotta contro la religione e le altre invenzioni del genere il compagno Orekov aveva drizzato le orecchie e con l'aiuto della compagna Nadia seguiva attentamente la discussione Don Camillo si volse verso di lui lanciandogli uno sguardo implorante il compagno Tarocci spiegò la compagna Nadia dopo aver parlottato con il compagno Orekov ha ragione l'articolo 124 della costituzione è pienamente rispettato il consiglio per gli affari della chiesa ortodossa e il consiglio per gli affari dei culti religiosi controllano la regolare applicazione delle leggi sulla libertà di coscienza e aiutano le organizzazioni religiose a risolvere i loro problemi è chiaro concluse e udito il chiarimento ufficiale Don Camillo i preti non fanno come da noi ciò che vogliono ma ciò che la costituzione permette loro di fare la situazione è ben diversa la sostanza è uguale borbottò il compagno di Friddi i preti sono sempre preti Don Camillo si mise a ridere compagno in un paese sterminato come l'unione sovietica lo tranquillizzò ci sono soltanto 26.000 chiese e circa 35.000 preti troppi gridò il compagno Curullo troppe chiese e troppi preti se tu pensi che nel 1917 esistevano esistevano in Russia oltre 46.000 chiese con 50.000 preti e che nel 1935 le chiese si erano ridotte a 4.000 e i preti a 5.000 il compagno Curullo si volse incredulo verso il compagno Orekov è vero domandò dopo il solito parlottamento la compagna Nadie rispose in sostanza i dati corrispondono alla realtà preti e chiesi vivono esclusivamente con l'obolo dei fedeli durante la guerra la chiesa ortodossa ha dimostrato il suo spirito patriottico affiancando lo sforzo del paese il partito conduce non con la violenza ma con la persuasione una forte compagna contro la superstizione il compagno Curullo aveva provato una delusione che la vodka rendeva ancora più cocente compagna disse disgustato alla Petrovna se in ventiquattro anni i preti si sono portati da cinquemila a trentacinquemila di che forte campagna si può parlare la compagna Nadia esitò poi tradusse e il compagno Orekov l'ascoltava a testa bassa come se il responsabile del tradimento fosse lui poi dopo aver meditato qualche istante levò il capo e guardò il compagno Curullo spalancando desolatamente le braccia e la compagna Nadia stavolta non fu costretta a tradurre la discussione finì lì il compagno Orekov riprese a lavorare attorno al suo rapporto e gli altri cambiarono discorso lo stanzone era pieno di fumo e Don Camillo sentì il bisogno di un po' e Peppone lo seguì il vento si era calmato camminarono in su e in giù fianco a fianco in silenzio quindi Peppone si arrestò 35.000 preti o rugì dopo una rivoluzione che è costata un fiume di sangue e dopo 42 anni di tremendi sacrifici non ti arrabbiare compagno lo tranquillizzò Don Camillo non ti formalizzare sul numero dei preti quelli non sono preti sono funzionari sovietici che parlano del Papa come di un nemico della pace e il loro vecchio capo tagliato sullo stampo preciso dell'attuale è quel patriarca Alessio che chiamò Stalin Bogom Danii inviato da Dio nel campo della religione il comunismo ha perso la guerra e però non quella contro i preti ha perso la guerra contro Dio il comunismo può eliminare i preti o peggio ancora controllarli ma non può eliminare o controllare Dio tre guerre importanti ha perso il regime sovietico quella contro Dio quella contro i contadini e quella contro la borghesia dopo 42 anni di lotte sanguinose il regime sovietico ha conquistato la luna e il primato atomico mondiale sbaragliando con la dimostrazione scientifica ad ogni fenomeno naturale e soprannaturale la superstizione è diventato padrone assoluto della Russia dei russi e di non so quanti paesi satelliti ha attuato la riforma agraria eliminando 10 milioni di contadini ribelli ha sterminato la borghesia e oggi i russi cercano Dio e sacrificano i loro rubli guadagnati faticosamente per aprire chiese e farle funzionare e mentre l'agricoltura non è ancora riuscita a raggiungere la produzione di prima della riforma e per far lavorare i contadini bisogna lasciar loro un pezzo di terra personale e un libero mercato dei prodotti di questa terra una nuova borghesia sta prendendo il posto della vecchia e diventa sempre più vasta e potente non ti arrabbiare compagno proletario con quel tuo sfavillante doppio petto blu e col tuo doppio stipendio di senatore e di funzionario del partito non sei forse un borghese col conto corrente in banca e con una sfolgorante 1800 in arrivo ma che 1800 protestò Peppone una comune e 1100 di seconda mano casomai Don Camillo scosse il capo compagno disse severamente quello che conta non è la cilindrata è il principio a questo punto Peppone tirò fuori dal taschino della giacca un astuccio di pelle e apertolo ne sfilò uno stupendo sigaro toscano Don Camillo che da due giorni sognava a occhi aperti un sigaro toscano sbarò gli occhi e cavato dal petto un sospiro che pareva un tornado esclamò con amarezza e mentre la borghesia asciala il popolo soffre Peppone spezzò rabbiosamente il sigaro e ne porse con mal garbo una metà Don Camillo 35.000 preti non bastavano ruggì anche voi ci volevate sudì la sirena del battello il partizan era un battello leggero ma moderno e robusto che teneva magnificamente il mare e la prima ora di navigazione si svolse nel migliore dei modi disgraziatamente il diavolo ci mise la coda ed improvviso il cielo si incupì e il vento diventò bufera ondate sempre più forti incominciarono a sconvolgere il mare la faccenda si metteva male e il capitano per evitare il pericolo che il battello venisse agganciato da un cavallone sbattuto sulla costa si portò a largo cercando migliori acque non ne trovò e aumentando l'intensità dell'uragano perdette il controllo del battello questione di minuti ad un tratto arrivò sotto coperta un marinaio con una bracciata di roba che buttò sul pavimento urlando qualcosa il capitano dici di mettere alla cintura di salvataggio e di salire sul ponte sul ponte c'era l'inferno scatenato dal cielo a raffiche di pioggia e dal mare le mazzate selvagge delle onde contro i fianchi del battello come se non bastasse l'urulato feroce del vento e l'aria nera come pece la ruota del timone girava a vuoto e un'ondata strappò via le due scialuppe di salvataggio tutti volsero gli occhi in su verso il capitano aggrappato alla bala ustra del ponte di comando l'uomo sentì su di sé quegli occhi ansiosi ma finse di non accorgersene e continuò a scrutare l'acqua tempestosa era la fine fra quanti minuti fra quanti secondi lo schianto che avrebbe stritolato la navicella un cavallone si incuneò sotto la poppa sollevandola e parve che il battello dovesse infilarsi nel mare l'acqua spazzò il ponte da prua poppa e quando l'acqua fu passata e il battello si raddrizzò ognuno si guardò attorno contando i compagni c'erano ancora tutti Peppone i nove eletti la compagna Nadia il compagno Oregoff il capitano e i sei uomini dell'equipaggio aggrappati disperatamente a ogni possibile appiglio stretti l'uno all'altro avevano miracolosamente resistito a quel primo tremendo assalto avrebbero resistito al secondo il battello scivolando lungo il fianco di un'onda altissima si inabissò nella voragine e sembrava destinato a rimanerci invece ritornò ancora su ma allora il portello d'un boccaporto si schiantò e la nave incominciò a imbarcare acqua non c'era più niente da sperare e Peppone si protese verso un camillo voi voi fate qualcosa in nome di Dio gli urlò con rabbia e disperazione Don Camillo si riscosse signore disse vi ringrazio di avermi fatto la grazia di morire da umile e fedele soldato di Dio dimenticò il mare e la tempesta ne pensò che per tutta quella gente eccettuato Peppone egli era soltanto il compagno Tarocci si strappò il berretto dal capo e frugò nel taschino della giacca cercando la sua finta penna c'era ancora e tratto nel piccolo crocefisso lo levò in alto tutti ora stavano inginocchiati a capo scoperto davanti a Don Camillo anche la compagna Nadia anche il capitano e i sei uomini dell'equipaggio tutti eccettuato il compagno Orekov che aggrappato alla scaletta del ponte di comando era rimasto in piedi e col berretto calcato giù fino alle orecchie guardava con occhi sbarrati per lo stupore quell'incredibile spettacolo Signore implorò Don Camillo abbi pietà di questi infelici un'ondata percosse il fianco del battello e un'altra stava sopraggiungendo tra ciò un'ampia croce nell'aria tempestosa e tutti si segnarono e tutti baciarono il piccolo crocefisso tutti forché il compagno Orekov che pareva diventato un pezzo di Giza una montagna d'acqua crollò sul ponte quasi volesse schiacciare quei piccoli uomini ma Dio aveva stabilito diversamente continuò il ballo infernale ma le onde non colpivano più i fianchi del battello con la violenza di prima si ritrovarono tutti in piedi e ad un tratto ebbero la sensazione che il peggio era passato tutti avevano visto che il compagno Orekov non si era inginocchiato né si era tolto il berretto ma soltanto adesso pensarono a lui e al suo contegno sbirciarono verso la scaletta e il compagno Orekov era ancora là aveva la mascella serrata e ciò che egli non diceva con la bocca lo diceva con gli occhi la compagna Nadia il compagno capitano i compagni dell'equipaggio notarono la luce minacciosa che ardeva in quegli occhi e rabbrividirono Peppone e gli altri no erano troppo contenti di ritrovarsi vivi per preoccuparsi della minaccia che si leggeva negli occhi del compagno Orekov il mare continuava a scrollare il battello però ora gli uomini dell'equipaggio potevano darsi da fare attorno alle macchine e alle pompe e i passeggeri potevano pensare a strizzare i loro abiti inzuppati il compagno Orekov fu dimenticato mano a mano che il mare si placava la vita a bordo rientrava nella normalità due ore dopo ognuno aveva ripreso la solita faccia di ogni giorno non era successo niente di strano un po' di mare grosso qualche spruzzo d'acqua un boccaporto danneggiato due scialupe perse le solite cose che possono capitare a chi naviga il compagno Orekov era stato dimenticato ritornò alla mente d'ognuno quando il battello arrivò al porto di O e fu la compagna Nadia a ricordarlo agli altri la passerella era stata gettata e Peppone seguito dai compagni già si accingeva a scendere quando la compagna Nadia gli si era piantata davanti bisogna aspettare il compagno Orekov spiegò era pallida e l'angoscia tremava nella sua voce sopraggiunse il capitano che parlò con Nadia e assieme a lei scese sotto coperta ritornò con la ragazza pochi minuti dopo e sorridendo salutò Peppone e gli altri eletti cac trvoga cac doboga disse ad un camillo mentre gli stringeva la mano possiamo scendere disse la compagna Nadia disgraziatamente durante la tempesta un'ondata trascinato in mare il compagno Oregov il partito ha perso un funzionario fedele e intelligente l'Urs un valoroso soldato scesero e quando furono a terra Don Camillo si volse verso il mare cercando sulle onde ancora tempestose e nel cielo nero e minaccioso il fantasma del compagno Oregov che Dio perdoni anche i tuoi peccati sussurrò e l'angoscia gli stringeva il cuore e cercava disperatamente di convincersi che bisognava credere al compagno capitano se il compagno capitano aveva scritto sul giornale di bordo che la tempesta si era portata via due scialuppe e il compagno Oregov non c'era nessuna ragione per dubitare del compagno capitano la tempesta aveva ritardato la partenza dell'aereo per Berlino e sul torpedone che li portava verso l'aeroporto Don Camillo si trovò seduto davanti al compagno Scamoggia e allora compagno gli disse ci salutiamo noi partiamo e tu resti no rispose Scamoggia parto anch'io non è riuscito alla compagna Nadia di farti rimanere non gliene ho nemmeno parlato spiegò lo Scamoggia ho pensato che il partito comunista italiano ha ancora bisogno di me bravo compagno si compiacque Don Camillo chi sa far tacere il cuore per ascoltare la voce del dovere è un buon soldato della causa il compagno Scamoggia sospirò e si mise a guardare fuori dal finestrino ed ecco l'aeroporto il torpedone si fermò davanti al cancello e tutti scesero la compagna Nadia entrò nell'ufficio assieme al compagno Peppone e presentò i documenti di viaggio l'ufficiale che comandava il posto di polizia controllò le carte poi passò l'elenco degli eletti a un sotto ufficiale interprete che incominciò a voce alta la filastrocca bacciga Pietro entrò il bacciga l'ufficio l'ufficiale guardò Peppone che fece cenno di sì poi la compagna Nadia che disse da capece salvatore la storia si ripetè quando venne la volta del compagno capece di gibetti li friddi per atto rondella Walter Peppone sopra pensiero non si ricordò che il compagno rondella era stato rispedito alla base con foglio di via obbligatorio quando se ne ricordò era troppo tardi il dannato napoletano romeno incontrato al colcos di Tifitz stava già lì davanti a lui con una faccia tosta straordinaria e già Peppone aveva fatto segno di sì con la testa da disse senza esitazione la compagna Nadia arrivato il turno del compagno Tarocci venne a Peppone una voglia matta di dire no ma fu questione di un secondo di secondo undici arrivati undici partiti esclamò ridendo l'interprete riconsegnando a Peppone i documenti avviandosi verso l'aereo Don Camillo si appressò a Nadia Petrovna e le domandò cosa significasse la frase del capitano l'hai visto coi tuoi occhi compagno quando si è in pericolo ci si ricorda di Dio vecchi proverbi di tempi superati borbottò Don Camillo era giunto il momento di imbarcarsi e la compagna Nadia mano a mano che gli eletti imboccavano la scaletta stringeva loro la mano stringse la mano anche al romeno di Napoli e quasi scoppiava a ridere ma dopo di lui veniva il compagno scamoggia e il sorriso le sigelò sulle labbra l'ultimo a salire fu Don Camillo addio compagna disse Don Camillo prega per me compagno rispose con un soffio di voce la compagna Nadia mentre due lagrimoni le scivolavano giù dagli occhi per un bel pezzo durante il volo Don Camillo non vide che quegli occhi pieni di tristezza disperata poi guardò attraverso l'oblò i campi sterminati velati di nebbia e gli venne alla mente una frase che aveva letto da qualche parte e che si era annotato nel libricino delle massime di Lenin spasit ielmira spai rossio salvatore del mondo salva la Russia quindici fine di una storia che non finisce mai signore si confidò Don Camillo rivolto al Cristo crocifisso dell'altare maggiore già da due settimane io sono tornato all'ombra del mio campanile e ancora sento pesarmi nel cuore quell'angoscia che mi ha accompagnato durante tutto il mio viaggio angoscia signore non paura non c'era motivo ad aver paura avevo soltanto motivo di vergognarmi di me stesso provavo l'umiliazione del vecchio soldato che uso a combattere a viso aperto indossa la divisa del nemico e si insinua nei suoi reparti per spiarne le mosse e per ordire insidie che pena il crocifisso dalle braccia ripiegavidi nascosto nella penna stilografica il breviario travestito da massime di lenin le messe clandestine celebrate davanti al tavolino della mia stanza d'albergo che pena don camillo non ti angustiare rispose con dolcezza il cristo tu non hai agito così per viltà o per colpire il prossimo tuo ma per aiutare il prossimo tuo se il prossimo tuo muore di sete rinuncerai forse a recargli il sorso d'acqua che gli ridarà la vita solo perché per farlo dovresti mentire l'essere tuo e renderti ridicolo di fronte a te stesso l'eroismo del soldato di cristo e l'umiltà e il suo vero nemico e l'orgoglio beati gli umili signore replicò don camillo voi parlate dall'alto di quella croce che è il più orgoglioso trono dell'universo e che avete conquistato combattendo a viso aperto mai voi avete celato l'essere vostro mai vi siete presentato alle folle sotto gli abiti del demonio don camillo non è forse umiltà per il figlio di dio vivere come uomo e morire inchiodato sulla croce fra due birbanti don camillo guarda il tuo dio guarda le sue misere ignude carni martoriate e l'oltraggiosa corona di spine che reca sul suo capo non è forse un povero cristo signore insistè don camillo levando gli occhi verso il cristo crocefisso io vi guardo ma i miei occhi vedono solo la divina luce del vostro sublime sacrificio nessuna luce e neppure la tenue fiammella ad uno zolfanello dischiara invece la trista figura del compagno don camillo il cristo rispose e la fiamma che tu hai acceso negli occhi della vecchia donna di grevinec e l'altra che tu hai acceso negli occhi del soldato disperso di sua moglie e dei suoi figlioli don camillo come mai sul battello quando la tempesta infuriava e tu hai tratto il tuo piccolo crocefisso e l'hai mostrato a quegli infelici che si credevano giunti sulla soglia della morte e hai chiesto a Dio la remissione dei loro peccati come mai nessuno ha trovato ridicolo che il compagno tarocci si comportasse come un ministro di Dio e tutti invece si sono incinocchiati e si sono segnati e hanno voluto baciare quel misero Cristo dalle braccia snodabili non ti sei mai domandato come ciò abbia potuto accadere don camillo rimase perplesso dio balbetò mi sono comportato come si sarebbe comportato qualsiasi ministro di Dio si don camillo ma eccettuato peppone nessuno sapeva che tu fossi un ministro di Dio per gli altri tu eri solo il compagno tarocci e allora don camillo spalancò le braccia solo adesso egli pensava a quello strano fatto e gli pareva incredibile allora proseguì con dolcezza il Cristo ciò significa che un pochino di luce emanava anche dal compagno don camillo don camillo era tornato alla base da due settimane e da dieci giorni stava cercando di mettere sulla carta tutto quello che aveva fatto e detto e visto e sentito durante il suo viaggio voleva che il vescovo sapesse ogni cosa per filo e per segno e l'impresa non si presentava facile perché il vescovo era vecchio e la sua memoria spesso lo tradiva ma la grammatica se la ricordava perfettamente da quando si erano lasciati alla stazione di milano don camillo non aveva più avuto notizie di peppone appena usciti dall'aeroporto di berlino il romeno napoletano era scomparso a verona era sceso il compagno tavan coi suoi tre fili di frumento e a milano assieme a don camillo avevano abbandonato la compagnia il compagno baciga e il compagno peratto non ti conviene arrivare assieme a noi fino a parma o a reggio emilia aveva domandato lo scamoggia a don camillo e don camillo gli aveva spiegato che si fermava a milano per un affare importante pura verità perché don camillo aveva lasciata la sua nera scorza a milano e lì doveva recuperarla peppone aveva fatto rapidamente la conta poi mentre don camillo si apprestava a lasciare la vettura aveva consegnato allo scamoggia del denaro gridandogli allegramente siamo rimasti solo in sei cattura sei fiaschi di vino uno a testa offro io la risata di peppone era rimasta nelle orecchie a don camillo e spesso in quelle due settimane egli si era domandato il perché di quell'improvvisa fragorosa allegria fu lo stesso peppone a spiegarglielo e ciò accadde proprio la sera del quattordicesimo giorno don camillo nel tinello della canonica stava lottando con la sua relazione quando qualcuno aveva bussato alla porta di strada e si trattava di peppone in un primo tempo don camillo non l'aveva riconosciuto egli aveva lasciato un peppone senatore con lobby a cravatta di seta grigia camicia chiara di fino popelin maestoso roppio petto blu e ora si ritrovava davanti il peppone paesano dei tempi passati con le braghe spiegazzate la cerchetta di fustagno il cappello alla diotti fulmini il fazzoletto al collo e il tabarro sulle spalle lo rimirò stupito e poi scrollò la testa la mia povera memoria esclamò dimenticavo che il popolo lavoratore quando è a Roma soffre in divisa da senatore e quando torna al paesello soffre in divisa da sindaco si accomodi però deve essere un bel fastidio per lei dover viaggiare soltanto di notte prego si accomodi per quello che debo dirle posso rimanere anche in piedi rispose cupo peppone vengo a pagare il mio debito trasse di sotto il tabarro un cero e lo depose sulla tavola questo è per ringraziare il padre eterno di avermi salvato dalla tempesta dun camillo sorrise quando c'è il pericolo ci si ricorda di dio mi disse giustamente il capitano del battello purtroppo quando il pericolo è passato ci si dimentica facilmente di dio lei ha buona memoria e me ne rallegro sinceramente e questo è per ringraziare il padre eterno di avermi salvato da un certo prete che il diavolo mi aveva messo alle costole spiegò lugubre peppone cavando di sotto il tabarro un secondo cero ed eponendolo sulla tavola un cero tutto decorato lungo un metro e venti e di quindici centimetri di diametro Don Camillo sbarrò gli occhi ho dovuto farlo fabbricare appositamente spiegò peppone è già un cero di buon calibro ma per essere proporzionato al pericolo rappresentato da quel certo prete dovrebbe essere alto sedici metri e avere un diametro di tre metri lei mi fa troppo onore replicò Don Camillo un piccolo prete di campagna non merita tanta considerazione ci sono dei piccoli preti di campagna che sono più dannosi di un grosso papa stabilì peppone poi buttò sulla tavola un voluminoso plico e due lettere è roba interizzata a me perché la consegni al compagno tarocci disse peppone questa storia non mi piace l'avverto che se ne arrivassero delle altre le brucerò Don Camillo aprì il plico conteneva un pacco di grandi fotografie e una lettera che scorse rapidamente si tratta peppone lo interruppe non mi interessano i suoi affari reverendo non sono gli affari del reverendo ma del compagno tarocci è il copocellula tarocci ha l'obbligo di informare il suo diretto superiore è il compagno per atto mi manda una serie di foto perché ne disponga io come meglio credo osservi questo gruppo dove siamo in primo piano lei e io non è interessante peppone agguantò la foto la guardò e poi disse a denti stretti voglio sperare che lei non mi procurerà altri guai stia tranquillo senatore il compagno per atto mi manda anche una serie di foto non ufficiali e mi chiede di vedere se posso collocarle senza fare il nome del fotografo ha bisogno di guadagnare un po' di quattrini il partito pare lo paghi male male assai vedrò di accontentarlo lei farebbe una mascolzonata simile urlò peppone come crede ha risposto don camillo porgendogli il pacco delle fotografie e se non lo leghiamo e lui poi manda ai giornali del partito le foto dove figura anch'io e i giornali le pubblicano peppone si lasciò cadere sulla sedia e si asciugò il sudore che gli bagnava la fronte compagno gliel'ho già detto io non voglio metterla nei guai lei scelga le foto da inviare ai giornali del partito e lasci fare il resto al compagno tarocci don camillo mentre peppone rasserenato faceva passare le fotografie lesse la seconda lettera e poi riferì è il compagno tavan ringrazia perché ha fatto come l'ho consigliato io e sua madre è contenta le tre pianticelle di grano sono arrivate sane e salve e le ha subito poste a dimora dice che va a guardarsele tutti i giorni anche due volte al giorno se dovessero morire scrive mi sembrerebbe che mio fratello fosse ancora più morto mi prega di salutare e ringraziare il compagno senatore peppone grugnì e continuò a far passare le foto la terza lettera conteneva un foglio con poche righe e del denaro è del compagno gibetti riferì don camillo a casa gli è venuto un sospetto e si è fatto tradurre il foglietto ci ringrazia manda mille lire perché io dica una messa per l'anima della ragazza gli rimanderò le mille lire e dirò ogni mese una messa per quella poveretta peppone pestò un pugno sul tavolino io non capisco esclamò chi l'ha detto a questi disgraziati che lei è un prete nessuno l'hanno capito e come hanno fatto a capirlo è una questione di illuminazione borbottò don camillo non sono un esperto di elettricità e mi riuscirebbe difficile spiegarlo peppone scosse il capo forse la colpa è mia esclamò forse là sul battello invece di chiamarvi compagno vi ho chiamato reverendo non mi pare rispose don camillo peppone gli mise davanti una foto in primissimo piano c'era il fu ianchioregov quando l'ho visto per l'ultima volta disse peppone a testa china il pieno della tempesta era passato com'è possibile che un'ondata l'abbia trascinato in mare cos'è successo sul ponte quando noi siamo tornati sotto coperta lo sa soltanto dio gridò don camillo e soltanto lui sa quante volte io abbia pensato a quell'uomo e come io continuo a pensarci peppone cavò dal petto un sospirone che non finiva più poi si alzò prenderei quelle lì disse indicando un blocchetto di fotografie affare fatto rispose don camillo e per questi due cieli come la mettiamo peppone si strinse nelle spalle il grosso accendetelo per lo scampato naufragio consentì tutte e due insomma per lo scampato naufragio concluse don camillo no gridò peppone il piccolo va acceso per lo scampato prete peppone se ne andò senza salutare e don camillo corse in chiesa non esisteva nessun candelabro capace di contenere il cielo gigantesco ma in sagrestia trovò un grosso e pesante vaso di bronzo che poteva servire allo scopo disposti i cieli sull'altare don camillo li accese poi disse signore peppone si è ricordato di voi anche di te se non sbaglio rispose sorridendo il cristo quando ebbe letta la lunga relazione il vecchio vescovo mandò a chiamare don camillo adesso gli disse quando gli comparve davanti raccontami tutto quello che hai scritto e anche quello che non hai scritto don camillo continuò a parlare mezza giornata e alla fine il vescovo esclamò non è possibile conversione del compagno tavan conversione del compagno gibetti liberazione del compagno rondella liberazione del romeno di napoli messa e comunione per la vecchia donna polacca consacrazione del matrimonio di sua figlia e del disperso battesimo dei loro sei figlioli confessione dell'espatriato e sua riabilitazione messa per i defunti al campo santo in più 18 assoluzioni in articolo mortis e non contento di questo si è diventato anche capocellula il tutto in soli sei giorni è nel paese dell'anticristo non è possibile eccellenza se non basta la mia parola se non bastano le fotografie e le lettere c'è la testimonianza del senatore anche la testimonianza di un senatore gemette il vecchio vescovo allora la sciagura è reparabile e don camillo lo guardò con occhi sbarrati non capisci figliolo continuò il vecchio vescovo che stando così le cose io sarò costretto a farti monsignore don camillo si inginocchiò domine non son dignus esclamò levando lo sguardo al cielo il vecchio vescovo scosse il capo la stessa cosa che ho detto io tanti anni fa ma nessuno mi ha dato retta che dio ti protegga figliolo passò ancora un mese e don camillo stava pensando sempre meno alla sua incredibile avventura quando una mattina uscendo dalla chiesa si imbattenne lo smilzo che con grande diligenza stava appiccicando un manifesto sul muro di facciata della canonica don camillo lo lasciò finire poi come lo smilzo fu sceso dalla scaletta e volgendosi si trovò a faccia a faccia con lui si informò compagno e se qualcuno approfittando del fatto che la colla è ancora fresca staccasse quel manifesto dal muro e te lo facesse mangiare lo smilzo rise reverendo deve ancora nascere l'uomo capace di fare una cosa del genere metti il caso che per una dannata ipotesi quel tizio fosse invece nato da un sacco d'anni e si trovasse in questo momento davanti a te don camillo aveva agguantato lo smilzo per gli stracci e dava l'idea di non volerlo mollare allora ammise lo smilzo la situazione sarebbe diversa don camillo cambiò bruscamente registro vengo mai ad appiccicare manifesti sulla facciata della casa del popolo domandò minaccioso e allora perché venite a insudiciare il muro di casa mia con le vostre scemenze politiche non si tratta di politica precisò lo smilzo è un manifesto che riguarda una manifestazione culturale indipendente don camillo senza lasciare la presa sbirciò in su e apprese che la sera dopo nella sala del teatro comunale il senatore giuseppe bottazzi reduce da una visita all'unione sovietica avrebbe parlato del suo viaggio rispondendo a ogni domanda che i concittadini gli avessero rivolto don camillo allargò il pugno la faccenda cambia ammise hai ragione qui si tratta di una manifestazione culturale senza nessuna finalità politica dove si ritirano i biglietti d'invito ingresso libero a tutti spiegò lo smilzo riassestandosi la giacchetta e le costole chiunque può intervenire e domandare schiarimenti anche io anche il vescovo con tutta la curia rispose lo smilzo facendo prudentemente qualche passo indietro noi lavoriamo soprattutto perché si facciano una cultura ai preti lo smilzo era già fuori tiro ma comunque don camillo aveva per la testa tutt'altro che lo smilzo e si infilò senza rispondere in canonica mezz'ora dopo un ragazzino consegnava alla moglie di peppone una lettera che diceva testualmente caro compagno senatore siccome la manifestazione culturale di domani sera mi interessa molto verrò immancabilmente intanto mi permetto di rivolgerti questa domanda perché ti vai cercando dei guai saluti dal compagno tarocci accadde che la notte stessa peppone dovette partire di improvviso per roma e la mattina seguente lo smilzo fu costretto a fare il giro del paese per incollare sui manifesti uno striscione per improvvisi gravi impegni dell'oratore la manifestazione culturale rimandata adatta destinarsi anche questa volta scendendo dalla scaletta che aveva appoggiata sotto il manifesto appiccicato al muro della canonica lo smilzo si trovò faccia a faccia con don Camillo peccato si dolse don Camillo chissà ancora per quanto tempo il clero dovrà rimanere immerso nelle tenebre dell'oscurantismo medievale lo smilzo recuperata la scaletta e raggiunta la zona di sicurezza gli rispose non preoccupatevi revelendo al momento giusto vi schiariremo le idee noi in seguito risultò che la data della manifestazione culturale non venne più fissata la pioggia provvide a staccare i manifesti dai muri e nessuno parlò più dell'affare sei mesi dopo non avendo potuto mai parlare della sua avventura ad anima viva don Camillo incominciava a dubitare di averla realmente vissuta forse era stato un sogno ma una mattina mentre stava riordinando degli scartafacci nel tinello della canonica il campanaro venne a dirgli che un forestiero voleva parlargli e dettogli di farlo passare si vede di lì a poco comparire davanti il compagno Nannisca Moggia una faccenda del genere non se la sarebbe mai aspettata e rimase per un bel po' senza parola in che modo ti trovi qui balbetto alla fine perché i treni funzionano anche da Roma in su rispose lo scamoggia il vostro indirizzo l'ho fatto sputare al compagno Bottazzi capisco borbottò un camillo che non aveva capito niente e perché sei venuto da me il compagno scamoggia era sempre il solito bullo e lo dimostrò dal modo col quale accese la sigaretta e si stravacò nel seggiolone al lato del caminetto ma la sua strafottenza non divertiva più don Camillo che non aveva dimenticato gli occhi pieni di lacrime della compagna Nadia Petrovna sono in un guaio compagno arreverendo spiegò lo scamoggia si tratta di quella famosa ragazza cosa le è successo è arrivata a Roma due mesi fa assieme a una delegazione di donne sovietiche ha tagliato la corda ed è rimasta e tu lo scamoggia si strinse nelle spalle e come comunista militante capocellula mica potevo trafficare con una compagna che ha tradito la patria sovietica e il partito e allora incalzò don camillo allora per poterla sposare ho dovuto dare le dimissioni dal partito spiegò lo scamoggia buttando la cicca nel fuoco sarebbe questo il guaio no rispose lo scamoggia il guaio è che da un mese l'ho sposata e da un mese mi sta togliendo il fiato perché il matrimonio in comune non le basta vuole anche quello in chiesa don camillo lo guardò rasserenato se tutto il guaio è qui è un guaio da poco osservò per voi non lo è grazie tante ma per uno come il sottoscritto che a sentir parlare di preti gli viene il volto a stomaco e li impiccherebbe tutti dal primo all'ultimo e il guaio è grosso capisco compagno esclamò don camillo ognuno è libero di pensarla come meglio crede ma se la pensi così perché sei venuto proprio a dirlo a me perché se proprio devo farmi fregare da un prete che sia almeno un prete con qualche attenuante alla fine voi siete un ex compagno come me in un certo senso e in un certo senso siete anche il mio ex capocellula non ti posso dar torto a ricorobbe onestamente don camillo allora lo scamoggia si volse verso la porta urlò ah no e apparve la compagna Nadia Petrovna che appena scorto don camillo si precipitò a baciargli la mano lo scamoggia la guardò con una smorfia di disgusto che schifo borbottò da due mesi in Italia già conosce le regole del gioco come come se ci abitasse dalla nascita avevano tutte le carte in regola e combinare il matrimonio fu una faccenda spiccia liquidata senza chiasso naturalmente Peppone dovette ingoiare anche la pillola di funzionare da testimone per la sposa ma non fu una pillola troppo amara e la ingoiò sorridendo prima che i due sposi se ne andassero don camillo attrasse in disparte l'ex compagna Nadia Petrovna e le domandò cosa fosse successo al compagno Oregoff una brutta storia rispose la donna quando siamo scesi sotto coperta il compagno Oregoff ordinò al capitano di bloccarci tutti e di mettere ferri voi e il compagno Bottazzi parlava di inchieste di tradimento di spie del Vaticano era come impazzito insultò e minacciò anche il compagno capitano così vennero le mani e un pugno del capitano buttò il compagno Oregoff contro il parapetto in quel momento un'ondata investì il ponte e si portò via il compagno Oregoff questa è la verità e la sappiamo soltanto il capitano voi e io una triste storia i due sposi se ne andarono e don Camillo e Peppone rimasero a scaldarsi davanti al fuoco che ardeva nel caminetto del tinello non ha persero bocca per un bel pezzo quindi don Camillo esclamò prendiamo nota prima che mi dimentichi trasse di tasca la sua famosa agenda e spiegò bisogna che aggiunga alle liste altre due conversioni e un altro matrimonio scrivete pure o rugì Peppone è tutta roba che poi vi troverete sul conto quando arriverà il momento della riscossa proletaria e pagherete tutto non mi farete neanche un piccolo sconto neanche un po' di riguardo per un ex compagno ma sì ghignò Peppone vi lasceremo scegliere dove vorrete essere impiccato lo so già a rispose don Camillo vicino a te compagno era una fredda giornata d'inverno e la nebbia salendola al grande fiume distese il suo velo anche su questa storia che era appena finita e già pareva vecchia come il cucco a ris cutter gioco i a trhole Grazie.